Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Annibale, in studio Giovanni Brizzi. L'espende Annibale, quot libras induce summo in vegnes? Pesa le ceneri di Annibale, quante libre troverai tu che restano di questo famoso generale? Questa è la domanda che Giovenale, un autore di satire ostile ad ogni umana grandezza, forse in primo luogo proprio a quella del suo imperatore, che è Traiano, pone provocatoriamente a un ipotetico interlocutore. Il peso delle ceneri, tre secoli dopo la morte di Annibale, doveva essere minimo, ma è enorme il peso della fama, il peso che Annibale ha avuto sulla bilancia della storia. Di Annibale, nella memoria di tutti, resta, dalle nostre letture nella scuola, l'immagine di un bimbo esitante e forse persino spaurito, che in piedi, di fronte ad un altare, giura al padre che non sarà mai amico del popolo romano. E l'altra immagine più grandiosa di un uomo che guida gli elefanti al di là delle Alpi. Chi vi parla è Giovanni Brizzi, sono uno storico romano, uno storico che si è occupato di Annibale per oltre vent'anni e che crede di conoscerlo bene. Crede di conoscerlo nelle sue infinite sfaccettature, nei suoi infiniti risvolti, nella sua straordinaria grandezza, e che si propone di parlarne a voi per le prossime venti serate, alle otto della sera, su Abbiamo scelto Annibale e la guerra che egli condusse in Italia perché si tratta di un episodio epocale, di un episodio la cui portata equivale a quella di una guerra mondiale dell'epoca. Una guerra che coinvolge, oltre la metà del mondo allora conosciuto, l'Africa, la terra di Cartagine, la Spagna in cui gli eserciti romani e cartaginesi si affrontano fino al 210, tutta l'Italia del nord, tutta la valle parana nella quale insorgono i Celti, che poi seguiranno Annibale al di là dell'Appennino, il resto della penisola, teatro di una serie di grandissime battaglie, il Trasimeno, Canne, e di una serie di distruzioni immense, 400 città, secondo la memoria trasmessaci dallo stesso Annibale, vennero prese dal cartaginese e poi rioccupate dai Romani nel corso di questo conflitto, la Sicilia, dove Siracusa passa dalla parte di Cartagine e viene spugnata, la Sardegna, dove si ribellano i Sardi sotto la guida di Ampsicora, e addirittura una parte del Mediterraneo orientale, la zona al di là del canale d'Otranto, la Macedonia, il cui re Filippo V a un certo momento prende le parti di Annibale, si allea con Annibale e, sia pur restando nella propria sfera di influenza, dichiara guerra ai Romani. Una guerra che è spaventosa anche per portata, oltre che per estensione. Le distruzioni e le sofferenze patite, per esempio, dall'Italia meridionale, nei 15 anni in cui Annibale vi soggiorna, dal 217 al 203, sono inenarrabili, sono gigantesche, tali da poter essere paragonate, secondo qualcuno, soltanto ad episodi del secondo conflitto mondiale, e addirittura, secondo me, alla invasione tedesca dell'Unione Sovietica. Secondo un grande storico inglese, Arnold Toynbee, addirittura tutta l'attuale, il suo parere poi è stato revocato in discussione, ma tutta l'attuale questione meridionale avrebbe una delle sue prime origini, addirittura con lo spopolamento, con il sorgere del latifondo, avrebbe addirittura una delle sue premesse più remote nell'invasione annibalica. Basterà ricordare che se la battaglia di Cheronea, combattuta poco più di un secolo prima, era costata la vita in Grecia a circa 3.000 greci, la grande battaglia di Cheronea vinta da Filippo II sugli alleati greci era costata la vita a poco più di 3.000 uomini, la battaglia di Canne nel meridione d'Italia vede rimanere sul terreno 6.000 cartaginesi, 6.000 soldati di Cartagine, non sono cartaginesi, e 51-52.000 romani. Quindi un inenarrabile massacro. Una guerra che avrà su Cartagine conseguenze terribili, Cartagine non sarà mai più la stessa e finirà per essere distrutta da Roma, avrà su Roma conseguenze non meno importanti perché ne modificherà profondamente l'economia, l'etica, i costumi, proiettando Roma verso la conquista del mondo mediterraneo. L'imperialismo romano, forse nella sua accezione più piena e completa, nasce come conseguenza della seconda guerra punica in Italia. La conquista romana del mondo mediterraneo, che era allora sostanzialmente il mondo conosciuto, richiese, secondo Polibio, compresi gli anni di questa guerra, circa mezzo secolo. mezzo secolo che ha la sua causa prima, la sua origine prima, appunto nello scontro tra Cartagine e Roma e nella figura di Annibale. Nella figura di Annibale perché semmai vi è stato un personaggio che di un evento sia il vero Deus Ex Machina, sia il vero ispiratore, sia l'anima, sia il protagonista, questo è Annibale per la seconda guerra punica. tant'è vero che numerosi storici antichi chiamano questo episodio con il nome di Annibale. Guerra di Annibale, guerra annibalica e non seconda guerra punica. Addirittura vi è stato chi ad un certo punto ha dissociato la figura di Annibale dalla stessa figura di Cartagine nel tentativo di salvare la città africana da un coinvolgimento che in realtà era un coinvolgimento inevitabile. L'evento fu tale da sconvolgere i Romani. Da sconvolgere i Romani e gli altri ritratti, abbiamo accennato al ritratto che ne dà Giovenale, gli altri ritratti sono ritratti ben diversi. Il tempo di Annibale è per marziale, l'altro grande autore di satire, il tempo cum getula ducem portaret belua luscum, il tempo in cui la belva getulica, cioè l'elefante, l'animale belva africana, portava il comandante con un occhio solo. Un'immagine inquietante, un'immagine degna della fantasia di Hieronymus Bosch, un'immagine che la dice lunga su come i Romani vedevano questo personaggio, che ben si accorda con lo stereotipo che si conobbe in Roma di Annibale sostanzialmente fino all'età dei Severi. Un personaggio che le nutrici italiche avevano trasformato in una sorta di orco delle favole, il babau al quale si faceva ricorso per spaventare i bambini disubbidienti. L'altro ritratto famoso è il ritratto di Tito Livio, il ritratto che di Annibale da Tito Livio, un ritratto ricco di virtù. Annibale è straordinariamente ricco di virtù fisiche, è temperante, è capace di sopportare ogni fatica, insensibile al freddo e al caldo, in ugual misura, tollerante della fatica al punto da dedicare al sonno solo ciò che gli resta dalle attività quotidiane, ma è anche pieno di due requisiti e anche connotato da due requisiti che sono per definizione i requisiti non romani. È l'uomo della perfidia plusquampunica, dove con perfidia si intende la slealtà, si intende la capacità di utilizzare l'espediente, l'inganno, l'arte della frode, ed è l'uomo dalla inumana crudelitas. È l'uomo dalla crudeltà meno che umana, l'uomo per il quale nil est veri, nil sancti, nullus deum metus, nullum ius iurandum. Non vi è giuramento, non vi è paura degli dèi, non vi è nulla di santo, non vi è nulla di vero. Ecco, questi sono i ritratti che un mondo scioccato, un mondo che portava su di sé ancora a decenni e forse a secoli di distanza le cicatrici di quella guerra o almeno le emozioni di quella guerra ha dato del nostro personaggio. Di Annibale esiste anche un altro ritratto, un'altra immagine forse ancora più suggestiva che è giunta fino a noi e ce l'ha lasciata il massimo poeta dell'età augustea, ce l'ha lasciata Virgilio nell'Eneide. È un'immagine indiretta. I due popoli secondo Virgilio si erano conosciuti nel momento stesso delle loro origini. quando Enea profugo da Troia aveva già perduto la moglie Creusa era approdato dopo la prima fase del suo lungo viaggio del viaggio che doveva portarlo in Italia sulle sponde africane ed era approdato a Cartagine presso la regina Didone. Didone ed Enea si erano innamorati o meglio la regina si era innamorata dell'eroe troiano ed erano divenuti amanti. Didone aveva infranto il voto di castità che la legava alle ceneri del defunto marito e questo l'aveva legata in maniera strettissima ad Enea. Il dramma era scoppiato nel momento in cui il destino e gli dèi avevano ricordato ad Enea che doveva partire e doveva raggiungere l'Italia. Dopo avere inutilmente tentato di fermare l'amato Didone disperata aveva fatto costruire sulla torre più alta della città una grande pira aveva convocato una maga tessala le maghe tessale sono le streghe dell'antichità le streghe più famose dell'antichità la quale l'assistesse nel rituale e aveva ammucchiato sopra la pira una serie di oggetti personali appartenuti all'eroe tra cui la spada nel momento in cui le navi troiane avevano sciolto le vele allontanandosi da Cartagine Didone aveva compiuto gli ultimi riti da sola gli ultimi riti di un cerimoniale che è un cerimoniale di magia nera è stato identificato come un cerimoniale di magia nera una lunga invocazione ad una serie di divinità divinità della magia come Ecate divinità soprattutto della vendetta come le erinni le furie come giunone pronuba che deve castigare il violatore di un matrimonio consumato anche se non celebrato come il sole che vede ogni cosa e che quindi è in grado di punire ogni cosa e poi nell'ultima parte della lunghissima invettiva una lunghissima invettiva che si lega ad un rito che il quale riunisce in sé tutti i riti i riti di esecrazione dell'antichità li coniuga in una sola spaventosa cerimonia nell'ultima parte di questo discorso l'invocazione ai di morientis elisse agli dei di elissa che muore non di elissa che sta per morire in questo caso la formula usata sottolinea che gli dei nasceranno che queste sinistre divinità nasceranno nel momento stesso in cui la spada dell'eroe usata per il suicidio affonderà nel petto della regina l'ultima e la più terribile di queste divinità è annunciata poco dopo exoriare aliquis nostris exossibus ultor nasca dalle mie ossa un vendicatore qui face ferroque dardanios sequare colonos che segua col ferro e col fuoco i coloni di dardano nunc olim quocunque dabunt se tempo revires adesso per sempre finché ve ne saranno le forze in questa proiezione indiretta in questa proiezione in cui Annibale è sostanzialmente solo un'ombra sinistra il cartaginese è però raffigurato con i connotati di una furia generata dal sangue di una maledizione remota davvero Annibale era una furia insembiante umano era veramente questo credo valga la pena di parlarne più a lungo a cominciare da domani alle otto della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera di nuovo Giovanni Brizzi qui con voi alle otto della sera per parlarvi di Annibale e delle sue vicende della sua famiglia innanzitutto il primo personaggio a noi noto della famiglia è il padre il padre Amilcare Abd Melkart è il nome punico Amilcare soprannominato Barca un soprannome che sembra essere stato dato per la prima volta proprio a lui al quale sono stati trovati due differenti significati un primo significato di taglio religioso Barach Baruch il benedetto e un altro di significato militare Barca la folgore significato che personalmente chi vi parla preferisce perché Amilcare è innanzitutto un grandissimo generale forse il primo grande generale che Cartagine abbia avuto il primo generale veramente di grandi dimensioni è un grande aristocratico sappiamo di lui che aveva possedimenti nella Bizacena la Bizacena corrisponde all'attuale Sahel nella Tunisia di sud-est dal fatto che proprio da questi possedimenti poi Annibale si imbarcherà nel momento di andare esule verso l'Oriente la famiglia era una famiglia tra le più antiche di Cartagine che una parte degli autori antichi ritengono contemporanea di Didone cioè venuta a Cartagine nel momento stesso della fondazione l'antenato avrebbe avuto il nome di Belos un nome che la dice lunga in sé Belos ha la stessa radice di Baal è una figura mitica all'interno dello stesso mondo fenicio che altri dicono invece giunto più tardi una generazione dopo comunque non molto dopo il primo stanziarsi dei coloni fenici in terra d'Africa un proprietario terriero probabilmente anche con interessi commerciali interessi che però non aveva quasi certamente il tempo di seguire perché troppo impegnato a combattere i nemici della sua patria nonostante questo doveva essere molto attento agli sviluppi più recenti per esempio dell'agronomia sappiamo che Annibale suo figlio fu educato secondo i dettami più progrediti di questa scienza uno dei grandi di agronomi veniva del mondo antico viene proprio da Cartagine Magone Magone il cartaginese l'unico autore che i romani abbiano ritenuto opportuno tradurre nel momento in cui distrussero Cartagine e fecero dono della biblioteca della città ai sovrani numidici questo Magone sembra essere stato una delle letture di Annibale il quale impiegò i reduci della seconda guerra punica a piantare olivi e forse anche viti e alberi da frutto nei suoi possedimenti in Bizacena cioè nei suoi possedimenti appunto nel Sahel Amilcare grande generale è un generale che si segnala nella seconda fase della prima guerra punica quando tiene e tiene in maniera in maniera formidabile le ultime fortezze rimaste ai punici nell'estremo occidente dell'isola le tiene tanto bene che i romani i quali va ricordato erano cavallereschi avevano una classe dirigente aristocratica votata ad un alto senso della cavalleria i romani gli concessero di uscire dalle fortezze assediate con l'onore delle armi lasciando cioè le armi ai suoi soldati e gli concessero cosa decisamente straordinaria per loro di trattenere presso di sé i disertori Roma ebbe sempre come consuetudine assoluta di chiedere la restituzione dei prigionieri e la consegna dei disertori che venivano puniti con il taglio della mano destra a significare che avevano violato il giuramento militare che esattamente con quella mano si pronunciava in questo caso come riconoscimento del valore del loro avversario che non avevano sconfitto lasciarono che egli portasse con sé tutte le sue truppe disertori compresi Amilcare portò con sé in Africa le truppe che aveva avuto in Sicilia quelle truppe che sarebbe stato poco dopo costretto a distruggere perché condotte in terra ferma si sarebbero ribellate a Cartagine Amilcare non voleva la pace con Roma le fonti ricordano che egli rimproverava i suoi concittadini nimis celeriter desperatis rebus di essersi troppo facilmente allontanati dalla speranza voleva una guerra che considerava ancora possibile combattere e vincere per questo nel momento in cui il senato di Cartagine decise la pace con Roma Amilcare sembra essersi tenuto in disparte rispetto ai suoi concittadini qualcuno ha parlato forse con qualche esagerazione di un cincinato cartaginese qualcuno ha addirittura sostenuto che egli abbia trascorso una parte di questo tempo possibile riprendervi le ostilità personalmente non lo ritengo impossibile i romani avevano mostrato con il loro gesto di onorarlo comunque sia Amilcare venne richiamato nel momento in cui la guerra con i mercenari i mercenari non pagati Cartagine era in estrema difficoltà doveva pagare un'indenità di guerra molto pesante a Roma era stata sconfitta aveva perso buona parte della sua flotta non aveva denaro per pagare le truppe le truppe imprudentemente allontanate da Cartagine dove potevano essere sorvegliate e lasciate in compagnia delle loro famiglie si ribellarono e puntarono verso la costa e verso la capitale i primi generali punici tra cui Annone il capo della fazione aristocratica che si opposero a loro furono però incapaci di sconfiggerli incapaci di sconfiggerli tanto che si richiamò Amilcare Amilcare il quale condusse quella che le fonti hanno chiamato la guerra senza pietà Polibio ne parla in questi termini una guerra senza pietà da entrambe le parti che comportò massacri spaventosi un esercito bloccato in una strettoia per esempio è costretto a cibarsi dei corpi dei commilitoni dei prigionieri fatti calpestare dagli elefanti le stesse croci usate per inchiodarvi sopra i notabili di Cartagine e poco dopo i ribelli catturati una guerra che però Amilcare alla fine riuscì a vincere sconfiggendo gli ultimi resti delle armate che erano state sue Mato l'ultimo capo superstite morì in maniera atroce straziato dalla folla per le vie di Cartagine di questa guerra ha parlato in un capolavoro letterario Flaubert nella sua Salambo Amilcare ha sei figli tre figlie le maggiori le prime e tre figli nati in sequenza dovete cominciare piuttosto presto a generare il primo maschio quindi il quarto in ordine è Annibale colui che ha il favore di Baal significa il nome nato nel 247 nell'anno cioè in cui Amilcare viene inviato in Sicilia delle tre figlie non conosciamo i nomi i nomi sono totalmente ignoti Flaubert ha dato arbitrariamente con una creazione letteraria un nome alla minore di queste tre figlie chiamandola Salambo il nome punico vero è Salambal i tre figli sono oltre a Annibale Asdrubale il giovane e Magone delle tre figlie Amilcare fa un uso politico usa le tre figlie come uno strumento politico uno strumento politico di straordinaria rilevanza sposandole a figure importanti nella vita politica cartaginese la maggiore è data in moglie a Bomilcare Bomilcare che sarà sufeta a Cartagine in uno dei momenti più importanti dell'ascesa politica di suo suocero la seconda va a Asdrubale detto il vecchio o il bello in questo secondo soprannome c'è una punta di malizia per una questione su cui torneremo e la terza va a Anaravas un principe numidico o almeno viene promessa a Anaravas un principe numidico che gli ha offerto aiuto in occasione della guerra dei mercenari di un momento particolarmente difficile durante la guerra dei mercenari tre generi che sono tre straordinari cunei politici nella situazione della cartagine del tempo cunei politici che permettono ad Amilcare di avviare un processo che qualcuno ha considerato una vera e propria rivoluzione democratica in seno a Cartagine si dice che le modifiche alla costituzione furono modifiche minime si dice che in realtà le istituzioni non cambiarono non cambiarono di molto cambiò però una cosa una cosa che fece la fortuna politica della famiglia Barcide della famiglia dei Barca e cioè cambiò il fatto che l'esercito divenne arbitro nella scelta dei propri generali e da questo momento in poi il principale esercito di Cartagine scelse sempre sistematicamente per tre volte di seguito fino allo scoppio della guerra in Italia un esponente della famiglia il fine vero del capo famiglia e anche di coloro che lo seguirono sulla sua strada di Amilcare era probabilmente quello di arrivare ad una signoria personale su Cartagine di questo io sono tuttora convinto e il modello era un modello greco era un modello greco che si ispirava a quei condottieri e a quei re che erano emersi sempre più numerosi all'interno del mondo ellenistico sulla scia del più grande di loro cioè di Alessandro Magno del resto Cartagine si era riempita di modelli greci Cartagine era una città al guado in questo momento era una città dalle due anime non perfettamente fuse e non perfettamente riconciliate tra loro una città in cui ha conservatori dallo spirito profondamente religioso ricordiamo che i nomi punici erano nomi teoforici nomi che si riferivano alla divinità esattamente come i nostri a conservatori di questo genere si contrapponevano gli uomini della novità gli uomini che guardavano alla cultura greca che guardavano ai suoi modelli che guardavano ad una seconda realtà che andava penetrando sempre più all'interno di Cartagine dei barcidi della famiglia di Amilcare si è detto seguendo una tradizione infamante nei loro confronti accettando una tradizione infamante nei loro confronti che seguirono i dettami della nuova cultura della cultura greca fino ai particolari più disdicevoli gli autori antichi ricordano probabilmente traendo questa voce dagli stessi compatrioti di Amilcare un legame omofilo tra Amilcare e suo genero Asdrubale il vecchio o appunto il bello un legame omofilo che probabilmente non nasconde null'altro se non il biasimo di ambienti profondamente conservatori di ambienti direi quasi integralisti verso una scelta culturale una scelta culturale portata al suo estremo fino al particolare che la cultura locale la cultura indigena considerava più infamante più vergognoso che cosa può aver influito su Amilcare probabilmente la spinta decisiva verso questa sua scelta di campo gli venne dalle sue esperienze durante la prima guerra punica nella fase centrale di questa guerra mentre in Africa infuriava un console romano Attilio Regolo che distrusse anche numerose città tra cui Kerkuan la Pompei punica nella fase centrale di questa guerra i reclutatori punici trovarono un personaggio straordinario una vera e propria pepita Santippo uno spartano un lacedemone capo probabilmente di una piccola compagnia di ventura che venne in Africa e seppe sconfiggere non virtute sed arte sono le fonti romane non con il valore ma con la capacità bellica l'esercito romano che pareva invincibile Amilcar era probabilmente soltanto un giovane ufficiale in questo momento un giovane ufficiale impegnato nelle sue prime attività militari siamo ben prima che egli prenda il comando in Sicilia però è possibile che questa figura abbia avuto un influsso straordinario su di lui non va dimenticato che a suo figlio egli darà in Ispagna come precettore proprio un originario di Sparta cioè Sosilo per oggi abbiamo concluso ci risentiremo alla prossima puntata alle 8 della sera ancora una volta con Giovanni Brizzi e con Hannibaletto buonasera di nuovo con voi a parlare di Hannibale e a parlare per la prima volta di lui personalmente Hannibale bambino Hannibale bambino così come come me lo figuro perché poco o nulla sappiamo di lui se si cercasse in che cosa Hannibale si distingue dai grandi uomini cui lo si paragona abitualmente si scoprirebbe che di tutti fu il più virtuoso la sua magnifica originalità è il suo disinteresse così un grande storico francese Gérôme Carcopinot e l'elogio può forse fare recessivo certo è però che Hannibale dovette crescere fin da bambino fin dalla prima infanzia con il senso intimo profondo radicato in lui di una missione di una missione che lui solo avrebbe potuto compiere di una missione che il padre vedeva solo per lui quindi fatico ad immaginarlo bambino tra gli altri bambini lo immagino isolato lo immagino solo lo immagino con i suoi maestri è difficile immaginare Hannibale da piccolo che gioca lo vedo nella casa paterna il padre era lontano a battersi con i romani in Sicilia Hannibale era nato nel 247 proprio nel momento in cui al padre era stato affidato il comando delle ultime fortezze siciliane lo vedo sfiorato prima e permeato poi dagli echi di una guerra lontana di una guerra lontana eppure molto vicina a lui eppure parte di lui stesso come se già sapesse che avrebbe raccolto il testimone lo vedo coinvolto nelle vicende della famiglia forse le sole vicende le sole vicende liete il matrimonio delle due sorelle maggiori con Bomilcare e con Asdrubale il vecchio il fidanzamento di quella che Flaubert ha chiamato Salambal della più piccola con il Numida Naravas e immagino un po' con lo stesso Flaubert la grande casa all'interno di Cartagine dove veniva preparato dai maestri e poi dal padre che ne dovette assumere l'educazione ad un certo momento alle imprese future è una sorta di predestinato Annibale è un piccolo soldato Annibale è un piccolo soldato e come un piccolo soldato o almeno come un valletto di truppa finisce per crescere in Ispagna lo rammenta lui stesso ricordando ai suoi soldati di essere stato alumnus prius omnium vestrum quam imperator allievo di voi tutti prima di essere il vostro comandante addestrato fisicamente con la massima cura gliene derivò una straordinaria vigoria fisica che avrebbe conservato fino ad oltre 50 anni a 52 anni cavalcò due notti e un giorno per raggiungere il punto d'imbarco da cui sarebbe partito per l'Oriente Annibale era però stato educato in maniera straordinariamente approfondita anche dal punto di vista culturale con una preparazione che superava se possibile i livelli pur molto alti richiesti ai rampolli delle grandi famiglie di Cartagine Annibale ricevette un'educazione raffinata gli elementi di una duplice educazione punica e greca contemporaneamente ebbe i requisiti di una duplice cultura il versante il coté punico di Annibale prevedeva l'economia in cui egli era indubbiamente versato abbiamo ricordato come il padre avesse vasti possedimenti nella bisacena e come li curasse per quanto poteva Annibale è indubbiamente al corrente degli ultimi ritrovati della scienza agronomica quasi certamente ha letto Magone il grande agronomo di Cartagine se è vero che subito dopo la battaglia di Zama adopera i reduci del suo esercito per piantare olivi e alberi da frutto e viti forse alberi da frutto e viti nei suoi possedimenti pagandoli di tasca propria e naturalmente inquadrandoli come una sorta di forza paramilitare però senz'altro impegnandoli in una attività dai risvolti estremamente proficui Annibale aveva di punico la morale era quanto di più lontano vi fosse dai punici così come vengono rappresentati nella salambeau di Flaubert cioè come grassi mangioni con le unghie dei piedi infossate nella carne che quasi non si vedono era un uomo che praticava la continenza dal punto di vista fisico non beveva mai più di un sestiere di vino a pasto e per giunta annaquato era capace di dormire a comando era in grado di sopportare il caldo e il freddo con identica disinvoltura sapeva dormire coperto da 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 un quello che i romani chiamano un sagum da un mantello militare in mezzo ai suoi soldati ed era anche proverbialmente casto almeno per quanto noi possiamo dedurre da ciò che se ne dice uno storico uno storico latino Giustino il quale ricorda che la sua continenza fra tante prigioniere che gli vennero gli vennero sotto le mani era addirittura sorprendente trattandosi di un africano e quindi di un dell'appartenente del membro di una razza proverbialmente sensuale sempre al versante punico della sua educazione appartiene lo studio delle lingue era una tradizione dei punici era una tradizione dei punici la ricorda anche Plauto nel Penulus il quale dice del suo protagonista Penus est omnes linguas scit è cartaginese conosce tutte le lingue gli altri usavano le lingue per praticare la mercatura come straordinario strumento strumento mercantile per lui era uno strumento politico fondamentale e forse anche uno strumento militare conosceva certamente il greco sappiamo lo sappiamo dal fatto che per esempio egli lasciò ritirandosi dall'Italia il ricordo dei suoi trionfi in terra italica incidendoli sul bronzo e dedicandoli nel santuario di Eralacinia questa iscrizione era bilingue greca e punica sbattuta in faccia ai romani all'interno di un santuario che non avrebbero mai osato violare sappiamo che scrisse una lettera ai rodi messi in guardia contro l'ingerenza romana forse scrisse anche qualche cosa di opera storica probabilmente conosceva il latino probabilmente conosceva i dialetti iberici o i dialetti celti era iniziato poi alla disciplina sacerdotale lo ricordiamo compiere più sacrifici in Italia e la ruspicina sembra non avere segreti per lui anche se parlando con Prusia re di Bitinia nell'esilio si mostra piuttosto scettico la sua fede che pure esisteva ed era legata alle sue origini era probabilmente di natura più intima e personale l'attenzione ai fatti economici non significò mai per Annibale qualunque cosa abbiano potuto dire i suoi avversari politici in Cartagine che lo accusarono di avidità non significò mai per lui uso vergognoso o uso improprio della ricchezza Annibale ammassò bottini ingentissimi ma sempre soltanto nell'interesse del suo esercito e della sua patria Annibale combatté nella fase della sua vita trascorsa a Cartagine dopo la battaglia di Zama il malcostume dell'evasione fiscale invece estremamente radicato tra i suoi concittadini i quali i grandi evasori erano naturalmente i grandi aristocratici e lo avrebbero coperto d'oro se avesse rinunciato a varare la legge che egli invece indusse i suoi concittadini da provare quindi Annibale aveva nei confronti della ricchezza come frutto verosimilmente del lato greco della sua cultura un atteggiamento diverso da quello della maggior parte o di alcuni almeno dei suoi concittadini la ricchezza per lui dovete essere sempre un mezzo piuttosto che un fine o piuttosto che il simbolo di una gratificazione divina come forse avveniva invece per quei suoi concittadini che strettamente ancorati alle tradizioni religiose anche nella vocazione a santificare l'attività mercantile dovevano in qualche modo somigliare ai quaccheri agli mzabiti o agli esponenti di qualche altra setta protestante tutta greca ma non ne parleremo qui fu la formazione del condottiero parleremo invece della eloquenza parleremo invece dell'eloquenza ricordando come Annibale avesse maturato un'eloquenza straordinaria probabilmente si esprimeva in più lingue in quelle lingue che aveva appreso fin dall'infanzia e parleremo dell'amore di Annibale per l'arte un tratto meno conosciuto un tratto meno conosciuto e che ci è ricordato da Marziale il quale ricorda come proprietà di Annibale un meraviglioso trionfo da tavola l'Erakle Epitrapezios era una statua di Ercole Ercole è Ercole quello che noi conosciamo come Ercole dell'altezza probabilmente di poco più di un cubito che decorava la tavola del grande generale cartaginese fuso creato dall'Esippo per Alessandro Magno probabilmente nell'anno della presa di tiro era un'opera d'arte che accompagnò Annibale anche durante l'esilio d'altra parte sappiamo che Annibale viaggiò negli ultimi anni della sua vita accompagnato da una collezione di opere d'arte soprattutto sculture lo ricorda un episodio famoso quando come ennesima beffa questa volta ai danni dei cretesi Annibale riuscì a portare via con sé l'oro che i cretesi non gli volevano lasciar prendere fingendo di consacrare il suo patrimonio al santuario sul monte Ida inviò al santuario stesso delle arche piene di piombo con un piccolo strato d'oro superficiale e portò con sé il proprio tesoro all'interno di una serie di statue quas secum sempre portabat che aveva sempre con sé e che evidentemente i cretesi abituati a vedergliele gli lasciarono portare via fuori dalla loro isola l'oro era all'interno delle statue bronze e cave ma questo ci interessa non come ennesima manifestazione della astuzia di Annibale quanto come prova del fatto che Annibale aveva con sé una piccola o non tanto piccola collezione di sculture se il lato punico dell'educazione di Annibale fu da lui in fondo messo sotto controllo direi quasi imbavagliato almeno nei suoi risvolti più cupi e fatalistici fino a che non lo riportarono alla ribalta graffiando la superficie greca le vicende terribili della guerra in Italia esiste però un episodio un episodio della sua infanzia che direi conclude la sua infanzia da quel momento in poi Annibale non sarà più bambino che a questi risvolti forse non casualmente si ricollega l'ultimo atto il battesimo quasi di una vocazione di una vocazione alla guerra di una vocazione al sacrificio di se stesso il celebre episodio del giuramento di Annibale si tratta di un episodio notissimo ne hanno parlato tutte le fonti e siamo portati a crederci proprio perché tutte lo considerano attendibile quando era sul punto di partire per la Spagna il padre Amilcare cedette alle richieste insistenti del figlio che aveva allora nove anni e che si raccomandava per essere portato al seguito dell'esercito nella campagna militare mentre stava sacrificando Baalhamon per propiziare il buon esito della campagna militare vesti sacerdotali Amilcare chiamò il figlio e fattolo avvicinare all'altare del sacrificio così che potesse toccare la pietra dell'Ara stessa lo indusse a giurare nunquam amicum fore popoli romani che mai sarebbe stato amico del popolo romano come interpretare questo giuramento credo che Annibale lo abbia interpretato in senso blando tutta la sua vita successiva mostra che più che un odio eterno si trattava del rifiuto per lui di sottomettersi a una superiorità di Roma una supremazia di Roma a cui già suo padre non si era non aveva voluto rassegnarsi credo che Annibale però ne sia stato schiavo sia stato legato a questa eredità morale a questo impegno preso da bambino per tutta la vita credo che tutta la sua esistenza sia stata condizionata dal ricordo di quanto aveva giurato un giorno fanciullo di nove anni al padre davanti a un altare nel segno di questa straordinaria vocazione Annibale mosse con suo padre si imbarcò con suo padre diretto verso Gades e verso la Spagna dove sarebbe cresciuto in mezzo ai soldati ma ne parleremo di nuovo la prossima volta su radio 2 alle 8 della sera buonasera siamo di nuovo qui assieme ad Annibale e parlare di Annibale vuol dire parlare di Cartagine secondo la leggenda le origini di questa città almeno per la versione più accreditata risalirebbero all'814 avanti Cristo chi ce lo dice è Timeo un'altra fonte Giuseppe Flavio lo storico ebraico parla dell'826 avanti Cristo Cartagine è fondata da una principessa Elissa profuga da tiro il fratello di lei Pigmalione sovrano della città uccide il marito di lei cioè suo cognato Sicherbas o Sicheo sacerdote di Eracle e Melkart per carpirne le ricchezze dopo una serie di peregrinazioni lunghissime Didone Elissa giunge a fondare una città sulle coste libiche forse è il nome Birsa dato ad un quartiere cittadino che giustifica la leggenda di un particolare commercio con gli indigeni Birsa la pelle del bue ricorda la leggenda secondo cui i punici ottennero dagli indigeni di acquistare un pezzo di terreno grande appunto come la pelle di un bue ma ritagliarono questa pelle in striscioline minutissime e cinsero una superficie molto più vasta tale da permettere la fondazione di una città comunque il sovrano indigeno Yarbas si sarebbe invaguito della regina nel mito originale il suicidio col fuoco di Elissa di Done nasconde oltre al rifiuto di contrarre matrimonio di Done è per tradizione fedele alla memoria del marito l'affermazione orgogliosa di una identità la data 814 è forse la data esatta il Toffet di Cartagine il cimitero dei bambini ha restituito materiali risalenti all'ottavo secolo avanti Cristo la fondazione di Cartagine si pone come episodio singolo all'interno di un vastissimo processo di colonizzazione lanciato dalle città fenice verso occidente in cerca delle sorgenti delle materie prime l'argento e lo stagno soprattutto un processo di colonizzazione che dissemina di centri la Sardegna la Sicilia Malta la Spagna l'Africa tra i più importanti di questi centri Utica Carales Cagliari Panormos Palermo Tarros e Gades Cadice in Spagna Certo Cartagine acquista possedimenti notevoli anche sulla terraferma i campi del Bagradas l'attuale Meggerda sono campi ricchissimi a Cartagine sono osservite le genti libiche della costa ma il potere punico non si estende mai sulle salvo per brevi periodi e mai completamente sulle genti dell'entroterra sui numidi i berberi nomadi che vivono ai limiti del deserto sahariano poco alla volta tra l'età delle origini e il quarto secolo Cartagine fonda una sorta di impero ma è un impero mercantile non territoriale Cartagine non conquista mai vasti territori o almeno non li conquista per lungo tempo crea invece un fitto reticolo di basi militari e civili e addirittura in qualche momento arriva a costituire una sorta di monopolio commerciale a tratti rigidissimo è rimasta in proverbio l'espressione tiriamaria mari di tiro a designare acque estremamente pericolose in cui il segreto commerciale induceva talvolta i signori di quei tratti di costa ad affondare chiunque tentasse di penetrarli secondo l'altra leggenda quella della maledizione punica che abbiamo visto in Virgilio Roma e Cartagine si erano conosciute fino dalle origini o almeno si erano sfiorate dandosi un terribile appuntamento a distanza di secoli l'incontro e il contatto non ancora uno scontro ci fu nel 509 con il primo trattato tra le due città un trattato che definisce le sfere di influenza reciproche e i margini di tolleranza nell'ingerenza di una all'interno del territorio dell'altra a tre secoli dalla sua fondazione e circa tre secoli prima che Annibale entri in Italia Cartagine è già una potenza mediterranea Roma non ancora però se non è una vera e propria potenza è a sua volta uno stato emergente almeno in ambito italico cacciato l'ultimo dei re Roma è però ancora la grande Roma dei Tarquini non ha ancora esaurito il grande periodo di splendore che ha ereditato dalla dominazione dei re etruschi alla stessa epoca cioè agli inizi del quinto secolo risalgono le cosiddette lamine di Pirgi Pirgi è la località di Santa Severa è il porto di Cere una grande città etrusca sono state trovate tre lamine d'oro e una di bronzo che recano una serie di testi paralleli in etrusco e in fenicio c'è il ricordo della dedica fatta da Tefarie Velianas lo Zilath cioè il signore di Cere alla dea Astarte che viene assimilata all'etrusca uni e viene accolta nel territorio della città questi testi ci forniscono un esempio dei numerosi trattati esistenti tra etruschi e cartaginesi trattati di cui parla Aristotile nella politica trattati che sembrano avere sempre più di frequente e sempre più intensamente una funzione antigreca così una funzione antigreca hanno anche i successivi trattati con Roma il secondo del 348 avanti Cristo sembra nato dall'esigenza che Roma ha accettando addirittura per questo di rinunciare ad alcune sue prerogative nei confronti della Sardegna di ottenere la copertura navale punica contro una flotta siracusana che in quel momento incrocia a largo delle coste laziali anche l'ultimo si discute se sia il quarto o il quinto di questi trattati concluso nel 279 è rivolto contro un sovrano greco cioè contro Pirro re delle Piro è l'ultimo però degli accordi tra Roma e Cartagine presago del futuro Pirro lasciando la Sicilia avrebbe detto che bella palestra o amici lascio ai romani e ai cartaginesi teatro di una lotta tra lui stesso e i punici sarebbe diventata il teatro di uno scontro tra Cartagine e Roma siamo giunti così al momento immediatamente precedente la nostra storia come Pirro aveva intuito lo scontro tra Roma e Cartagine si rivelò inevitabile a determinarlo furono alcuni fattori essenzialmente la crescita enorme della potenza cartaginese nel settore degli stretti di Sicilia a ridosso di quell'Italia meridienale che Roma controllava dopo la vittoria su Taranto e l'avvicinamento di un'ala avanzata dell'aristocrazia romana alle elite mercantili del sud Italia naturalmente antagoniste di Cartagine minoritari in Senato ma probabilmente favoriti nel momento decisivo del voto all'interno dei comizi in Roma dagli appetiti dai desideri dalle tendenze della cosiddetta plebs urbana una componente della cittadinanza che risiedeva in Roma ed esercitava il commercio e le attività collaterali favoriti da questo i gruppi politici che a queste componenti erano vicine ottennero che si intervenisse in Sicilia dove i mamertini mercenari di origine probabilmente campana si erano impadroniti di Messana Messina e avevano poi chiesto aiuto contro Siracusa ad un tempo a Roma e a Cartagine L'intervento delle due potenze insieme determinò lo scoppio di una guerra che sarebbe durata per ben 23 anni dal 264 al 241 Per vincerla Roma dovete tagliare il cordone ombelicale che univa la Sicilia e la città africana e quindi dovete vincerla sul mare Io credo che tutti voi abbiate sentito parlare dei corvi cioè delle cosiddette passerelle passerelle d'abordaggio di quei ponti mobili che con un sistema di carrucole venivano calati sul ponte delle navi avversarie e permettevano all'eccellente fanteria imbarcata romana di abbordare le navi puniche ecco ciò che nessuno ha detto è che queste strutture erano probabilmente gravemente squilibranti e che quindi le tempeste fecero più vittime tra le navi romane di quante i romani ne avessero fatti tra le navi cartaginesi i romani vinsero tutte le battaglie e distrussero 500 navi puniche ma ne perdettero 700 delle loro comunque sia l'ultima battaglia la battaglia delle Egadi vinta da Lutazio Catulo portò ad una pace una pace non gravosa per Cartagine l'indennità fu sopportabile persino equa se rapportata a 23 anni di guerra e le cessioni territoriali la Sicilia le Egadi le Lipari si limitarono a ciò che Roma aveva già preso con le armi la conclusione della prima guerra tra Roma e Cartagine della guerra per la Sicilia sembra in sé non sufficiente a spiegare l'odio mortale che secondo le fonti antiche esistette fra le due grandi città del Mediterraneo occidentale Polibio Polibio che è il nostro principale trostorico ne trova una giustificazione in un evento che si produsse a cavallo tra la prima e la seconda guerra punica abbiamo accennato alla rivolta scoppiata in Africa a proposito di Amilcare rivolta che esplose tra i mercenari i reduci dalla Sicilia che non erano stati almeno inizialmente pagati l'inexpiabile bellum la guerra che poi coinvolse anche i sudditi libici della città questa rivolta si estese anche ai presidi di Sardegna minacciati dalle gente indigene i mercenari che occupavano per conto di Cartagine la Sardegna avevano però eliminato tutti i cartaginesi presenti nell'isola intendendo per cartaginesi gli esponenti del potere che all'interno dell'isola si trovavano e erano stati attaccati dagli indigeni cioè dai sardi che erano rimasti invece fedeli a Cartagine minacciati chiesero l'aiuto di Roma che inizialmente rifiutò di intervenire ad una seconda richiesta tuttavia la Repubblica sbarcò le sue truppe in Sardegna ed in Corsica e quando i punici mostrarono di voler inviare una flotta per riprendersi i loro possedimenti Roma dichiarò loro la guerra per evitare uno scontro che non era in grado di sostenere Cartagine dovette non solo rinunciare alle isole Sardegna e Corsica e pagare per di più un'indenità aggiuntiva di 1200 talenti ma fare buon viso assolutamente a cattivo gioco ora il rancore dei punici pare giustificato ma i romani avevano forse a loro volta delle ragioni più che valide per agire in questo modo durante tutta la prima fase della rivolta dei mercenari in Africa il senato di Roma si era comportato correttamente quando alcuni dei suoi mercatores sorpresi dalle navi da guerra puniche mentre rifornivano i mercenari in rivolta erano stati catturati e avviati verso l'interno a campi di prigionia Roma ne aveva preteso il rilascio formalmente i mercatori sitalici potevano negoziare adesso con chiunque paresse a loro in Africa ma aveva ordinato poi Roma che da quel momento si commerciasse con il governo legittimo e non più con i ribelli e aveva respinto le richieste di aiuto che le venivano anche da alcune città africane insorte contro Cartagine per esempio Utica Roma riprese a rifornire gli insorti ma riprese quando alla testa delle truppe lo stato punico in difficoltà pose Amilcare Barca pose il padre del nostro Annibale contrario alla pace con Roma e desideroso di una guerra di rivincita a piano un altro storico greco riferisce che la marina di Cartagine ricominciò allora gli attacchi contro i mercanti italici stavolta però con esito diverso stavolta le navi se venivano sorprese venivano colate a picco e i superstiti venivano passati fuori bordo il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi qualche superstite tornò a Roma a riferire e ad una seconda richiesta di aiuto proveniente dalla Sardegna Roma ritenne giustificato aderire questa volta la richiesta per di più era appoggiata anche dalle città fenice della costa che non vedevano l'ora di liberarsi di alcuni vincoli di monopolio imposti loro dalla potenza egemoni per esempio il divieto di impiantare nell'isola le colture specializzate la gestione diretta delle miniere da parte di Cartagine un protezionismo commerciale estremamente stretto quindi Roma aderì alle richieste di quelli che le parevano i governi legittimi e intervenne in Sardegna e in Corsica ma ripeto forse non senza motivo l'odio comunque nacque e crebbe lo vedremo alla prossima puntata su Radio 2 alle 8 della sera buonasera nel percorrere la nostra parabola storica ci siamo fermati al 237 avanti Cristo e alla partenza di Amilcare per la Spagna ad attendere il cartaginese accompagnato per l'occasione dal fedelissimo genero Asdrubale e dal figlioletto di nove anni Annibale e ad attendere il suo esercito c'era al di là del mare l'alleata Gades Cadice il centro fenicio di Vedetta sul limitare dell'Atlantico sede dell'antico e venerato santuario a Melkart Melkart è un dio su cui saremo costretti a tornare che è stato assimilato all'Era Cle dei Greci era Cle Melkart che in questo punto preciso aveva per dirla con Dante posto i suoi riguardi aveva innalzato le colonne che portavano il suo nome e delimitavano ad occidente il Mediterraneo costituendo una specie di porta sull'ignoto un ignoto a dire il vero abbastanza relativo i punici avevano una conoscenza molto vasta delle regioni atlantiche almeno fino alla Britannia a nord e fino alla regione del Golfo di Guinea a sud lungo le coste africane comunque con la diplomazia con la forza e quando occorreva con il terrore a Melkart cominciò a muoversi a Melkart cominciò a muovere il suo esercito sfruttando l'alleanza dei Bastulopeni alleati di Cartagine che abitavano nella zona dell'odierna Malaga e sconfisse i turdetani che abitavano i contraforti a nord di Siviglia i loro alleati Celtiberi i Celtiberi erano la più selvaggia e la più forte delle tribù dell'interno che erano venuti dal nord e le altre genti limitrofe e si impadronì delle miniere d'argento ed oro della Sierra Morena la gestione diretta dei giacimenti e la loro riorganizzazione secondo criteri moderni e rigorosi anche se piuttosto crudeli da quanto ci dicono le fonti fornirono a Cartagine i mezzi che le mancavano per pagare a Roma la pesante indennità di guerra che continuava a correre dopo la sconfitta del 241 ma anche per preparare la la guerra di rivincita la guerra di rivincita che a Milcare continuava in prima persona a desiderare negli anni successivi fino al 231 a Milcare si spinse verso nord e verso Levante lungo la costa orientale giungendo fino all'Acra Leuchè cioè il Capo Bianco Capo Bianco dove a quanto sembra i Punici vinsero un importante scontro navale e fondarono poi una grande città che portava lo stesso nome forse il centro che i Romani avrebbero poi chiamato Lucentum l'attuale Alicante secondo alcuni autori almeno fu proprio in questo stesso anno che venne in Spagna per chiedere ad Amilcare le ragioni della sua presenza qui un'ambasceria da Roma il comandante Punico riuscì però a rassicurarla rispondendo che stava lavorando per trovare i mezzi con cui pagare la loro indennità di guerra il che era in parte vero fu però proprio in questa circostanza forse per cautelarsi ulteriormente forse per acquistare un alleato prezioso che li tenesse informati delle mosse cartaginesi che Roma strinse con Sagunto una città iberica a nord del Sucro l'attuale Hucar l'alleanza che sarebbe poi stata all'origine della guerra meno di tre anni dopo allo scadere dell'ottavo anno in Spagna Amilcare perse la vita si era spinto con forze esigue verso l'interno per assediare il centro indigeno di Eliche un centro che qualcuno ha forse a torto identificato con la Elche dove proviene il celebre busto femminile della cosiddetta dama Elche che rifiutava di pagare un tributo fu da lui assediata dicevo e però vi fu l'intervento di un esercito di Oretani una grande tribù dell'interno assalito al guado di un fiume durante la ritirata Amilcare vi annegò mentre combatteva la retroguardia per proteggere il resto delle sue truppe e per proteggere i due figli il diciassettenne Annibale e il più giovane Asdrubale che aveva imprudentemente portato con sé malgrado avesse già cominciato a combattere al suo fianco Annibale era troppo giovane per succedere direttamente nel comando al padre l'esercito che proprio grazie all'opera di Amilcare aveva ottenuto di poter scegliere direttamente i suoi comandanti designò allora il genero Asdrubale il vecchio non dobbiamo naturalmente confonderlo con il fratello di Annibale che porta lo stesso nome Asdrubale il vecchio il quale a sua volta affidò al cognato appunto Annibale il comando di tutte le forze di cavalleria più politico che soldato Asdrubale lavorò non tanto ad estendere ulteriormente i domini di Cartagine quanto a dare forma ed istituzione a ciò che Amilcare aveva conquistato ammiratore convinto della cultura greca dalla quale aveva tratto i suoi modelli politici coltivava probabilmente sull'esempio di quella il desiderio di fondare una sovranità una sovranità di tipo ellenistico il cui primo e più illustre esponente gli pareva essere stato Alessandro Magno coltivava ambizioni regge o dovrei dire monarchiche il governo di un solo uomo può avere forme diverse questa questa forma questa ambizione regia era naturalmente intollerabile per l'oligarchia punica sarebbe stato quindi pericolosissimo manifestarle a Cartagine tanto più che all'interno della città operava il consiglio dei cento che permettetemi il paragone somigliava era in qualche modo analogo al consiglio dei dieci secoli dopo attivo a Venezia e poteva in difesa delle istituzioni troncare la carriera e la vita a qualsiasi cittadino queste ambizioni egli ritenne invece di poterle manifestare apertamente in Spagna a questo scopo compì alcuni gesti di grande rilevanza simbolica lungo la costa occidentale della penisola iberica allo sbocco della via verso il vicino distretto minerario su di un istmo che separava mare e laguna fondò secondo il modello urbanistico tipico delle città cartaginesi e delle città fenice carta d'asht la cartagine di Spagna che i romani chiamarono è vero cartagonova cartagena ma che aveva ben altra forza nel nome stesso che portava la creazione di una città è l'atto regio per eccellenza e il fondatore si caratterizza al suo interno come un eroe dai requisiti divini ma in questo caso il nome stesso di questa particolare fondazione si richiama a quello della città madre accosta cioè idealmente la figura di Iasdrubale a quella di Elissa di Done e lo proietta verso una posizione ideale di preminenza lo proietta direi al di là delle leggi egli del resto cinse addirittura il diadema che compare anche su alcune monete con quella che è considerata la sua effigie e la costruzione di gran lunga più importante all'interno di quella città possente e splendida fu un edificio magnifico un edificio che non trovava in Africa alcun riscontro e cioè la dimora che Asdrubale fece erigere per sé una sorta di vero e proprio palazzo reale all'interno del quale se si ascoltano alcune fonti antiche egli viveva secondo il protocollo caratteristico dei sovrani greci abbiamo detto il modello macedone modello al quale del resto Asdrubale si era ispirato Asdrubale ne aveva tratto una serie di linee di comportamento destinate a legare a cementare con gli spagnoli con le popolazioni iberiche una coesione tale da rendere più stabile il dominio di Cartagine e aveva elaborato una concezione che per il mondo punico almeno era di novità assoluta fin dall'inizio Asdrubale convocò presso di sé i rappresentanti dei popoli sottomessi o alleati all'interno della penisola iberica chiese loro il riconoscimento formale della sua autorità e offrì in cambio di partecipare al governo delle terre sotto il suo controllo l'organo consultivo di governo sarebbe stato costituito da quella stessa assemblea un'assemblea di notabili resa permanente questo gesto gli permise di raccogliere gli ostaggi destinati a garantire la fedeltà delle popolazioni iberiche gli permise di stabilirne gli obblighi militari gli permise di fissare una volta per tutte il diritto al tributo il gesto tuttavia era un gesto dallo straordinario impatto propagandistico era destinato a colpire gli indigeni facendo apparire mutati presupposti e caratteri consueti del dominio punico in terra di Spagna come già Alessandro Magno in Oriente così anche Asdrubale intendeva trasformarsi da conquistatore straniero in capo nazionale dei popoli sottomessi più ancora si proponeva di avviare un processo di osmosi una vera e propria fusione politica e culturale fra dominatori e sudditi le terre spagnole erano quindi nei suoi progetti futuri di un futuro non immediato ma erano destinate ad essere non una nuova provincia dell'impero punico quanto una sorta di nuovo stato le cui norme costitutive erano forse destinate ad estendersi alla stessa cartagine in attesa di quel momento la diversa capitale la diversa amministrazione facevano del territorio oltremare una realtà distinta dalla metropoli una realtà al cui interno era prevista almeno in teoria la sostanziale parità di diritti tra le componenti che la formavano come avveniva da tempo presso le monarchie greche dell'oriente ellenistico la figura dell'uomo accettato come re dagli indigeni costituiva il vincolo essenziale costituiva una sorta di ponte tra le due identità che coesistevano in questo caso all'interno della penisola iberica quella dei colonizzatori e quella molto più numerosa e molto più significativa degli stessi iberi a consolidare questi legami Asdrubale incoraggiò apertamente la politica dei matrimoni misti si sottopose ad essere gli stessi sia che fosse già morta sua moglie sia che abbia scelto una sorta di forma di poligamia convolando a nozze con una principessa iberica e spinse a questa forma lo stesso Annibale questi sposò Imilce nata presso un'influente famiglia di Castulo Cazzlona ellenizzata e forse anche punicizzata e ne ebbe un figlio un figlio del quale ignoriamo il nome anche se è probabile che gli sia stato trasmesso quello del padre cioè Amilca non tutto funzionava funzionava alla perfezione se l'autonomia delle genti spagnole era sostanzialmente garantita dall'assenza di ogni forma di amministrazione diretta gli esattori delle imposte i funzionari incaricati di amministrare la giustizia i reclutatori si muovevano solo in caso di bisogno partendo dalla capitale però la fedeltà degli indigeni era garantita essenzialmente dagli ostaggi e poggiava in parte anche sulla paura agenti punici percorrevano il paese sotto mentite spoglie sorvegliando i principi iberici e talvolta addirittura eliminando i più riottosi appoggiando i più fidati anche con le truppe sempre pronte ad intervenire anche nei confronti di Roma Asdrubale che abbiamo detto era un politico piuttosto che non che non un soldato perseguì una linea assai meno aggressiva del suo predecessore i romani stessi in questo momento non erano aggressivi nei confronti di Cartagine erano impegnati da oltre un decennio nella conquista della Piana del Po esisteva un progetto di vastissima colonizzazione delle terre a nord dell'Appennino e nel 226 l'anno cardine di tutto questo periodo è proprio questo i romani dovevano temere la reazione dei celtici salpini questi avevano chiesto aiuto ai loro consanguinei d'oltre Alpe che stavano radunandosi in forze sul medio corso del Rodano il senato temette probabilmente che i punici intendessero in questa occasione sostenere direttamente l'attacco gallico in Italia o almeno che volessero approfittarne per riprendersi la Sardegna e la Corsica sbarcando attraverso il ponte delle Baleari Roma inviò allora in Spagna un'ambasceria il senato chiedeva che a Sdrubale limitasse la propria azione bellica alle terre poste a meridione dell'Ebro si impegnava forse non siamo assolutamente sicuri di questo ad accettare verso sud lo stesso limite libero e senza restrizioni doveva invece rimanere l'esercizio di ogni altra attività economica o diplomatica che fosse per entrambi i contraenti su entrambe le sponde del fiume i contraenti poi verosimilmente si impegnavano a rispettare l'autonomia cioè l'allineamento politico e l'integrità territoriale di ogni comunità che alla firma del trattato fosse già vincolata da precise condizioni di alleanza con la controparte il testo del trattato ci è riferito in maniera estremamente abbreviata e questo ha provocato discussioni interminabili tra gli studiosi la versione più probabile però sembra questa Asdrubale pago dello spazio che gli si spalancava davanti accettava condizioni che forse Annibale non avrebbe accettato ad ogni modo aveva Asdrubale ancora soltanto quattro anni da vivere gli costò la vita un'azione del tipo di quelle che abbiamo ricordate poco fa e cioè un'azione punitiva condotta tra i Celti di Spagna un principe riottoso venne rapito dagli agenti punici e venne portato nella capitale dove fu pubblicamente crocifisso ma uno dei suoi fidi uno schiavo che aveva giurato di non sopravvivergli riuscì a giungere al cospetto di Asdrubale e lo pugnalò a morte toccava ora ad Annibale le cui scelte sarebbero state però ben diverse proiettate direttamente ad un conflitto con Roma del suo comando parleremo ancora una volta alle 8 della sera buonasera eccoci qui di nuovo di nuovo con Annibale a parlare di lui e a parlare come è io credo opportuno dello strumento che aveva a sua disposizione per condurre la guerra contro Roma l'esercito cartaginese in origine doveva essere stato formato di cittadini e di cittadini piuttosto fieri delle loro virtù militari dato che amavano ostentare in pubblico un numero di anelli pari a quello delle campagne militari che avevano sostenuto adesso però nel momento in cui parliamo a sei secoli circa dalla fondazione di Cartagine lo strumento era completamente cambiato a questa componente alla componente cittadina si ricorreva esclusivamente nei momenti di crisi più grave e comunque si adoperavano i cittadini solo in difesa del territorio africano dal sesto secolo in poi era andata crescendo all'interno delle armate puniche la presenza dei mercenari una presenza che era divenuta addirittura esclusiva almeno nei corpi operanti oltremare punici all'interno di questi erano ormai soltanto gli alti ufficiali una trasformazione radicale una trasformazione che era stata prodotta forse con il contributo decisivo di una vocazione crescente dei cartaginesi la vocazione alla mercatura la vocazione alle attività commerciali qualcuno ha detto che nel complesso le avventure militari non erano capaci non erano tali da tentare più di tanto un popolo che era votato piuttosto alla navigazione e al commercio cartagine sembra essersi per lunghi tratti della sua storia augurata costantemente che le guerre soprattutto le guerre molto costose in termini economici e in termini di vite umane fossero di breve durata per quanto popolosa fosse una semplice città e cartagine a differenza di roma era in fondo una semplice città una semplice città non avrebbe potuto permettersi di allestire senza il rischio di esaurirsi gli eserciti necessari ad un'ampia politica di conquiste sarebbe stato impossibile infatti strappare per periodi prevedibilmente molto lunghi i cittadini e le loro famiglie toglierli al loro mestiere sottrarli ai loro interessi per esporne o addirittura sacrificarne la vita in una serie di spedizioni frequenti e lontane agli occhi degli statisti cartaginesi questo avrebbe voluto dire distruggere quello stesso commercio e quella stessa industria che si intendeva invece sviluppare aprendo nuovi mercati con il proposito di risparmiare i propri preziosi cittadini cartagine non solo fece ricorso in modo sempre più massiccio ai soldati di professione ma si abituò anche ad accettare senza troppi traumi le sconfitte quando non fosse stata aiutata dalla fortuna o le operazioni militari si prospettassero troppo lunghe e dispendiose anche verso i suoi comandanti cartagine come ha detto ancora una volta un grande storico francese non aveva la reputazione di mostrarsi indulgente forse perché come all'interno della Venezia ancora una volta della Venezia medioevale o tardo medioevale diffidava degli uomini troppo abili con le armi che avrebbero potuto avere ambizioni personali certo è che questa mentalità la rendeva assai diversa e in fondo sostanzialmente più tebole della sua grande avversaria anche l'esercito di Annibale come tutti gli eserciti cartaginesi degli ultimi tempi era composto essenzialmente di mercenari la recente sconfitta subita contro Roma aveva però ridotto di molto gli ambiti di reclutamento il trattato di Lutazio Catulo del 241 e la successiva occupazione delle isole maggiori da parte di Roma che aveva seguito la fine della prima guerra punica vietavano infatti a Cartagine non solo di far leve in Corsica e in Sardegna nella Campania dalla Campania in passato erano venuti a combattere in Sicilia i Mamertini i mercenari italici che come dice il loro nome erano figli di Marte e poi chiudeva anche la Piana del Po da cui tuttavia Annibale avrebbe tratto una volta disceso dalle Alpi forti contingenti di guerrieri gallici chiudeva a Cartagine anche di fatto il Mediterraneo orientale dove in passato si erano tratti mercenari greci anche famosi anche importanti come il personaggio di cui abbiamo già parlato cioè come Santippo continuavano tuttavia a far parte degli eserciti punici i Libi quegli afri che da oltre tre secoli costituivano il nerbo delle armate puniche i Baleari famosi da sempre come Frombolieri per l'abilità con cui si servivano delle loro fionde i Berberi dell'entroterra africano Numidi e Mauri mentre le recenti conquiste in Spagna offrivano l'opportunità di reclutare sia i cosiddetti Peltasti gli armati alla leggera delle regioni meridionali sia i Fanti dalla pesante armatura che provenivano dagli altopiani centrali soprattutto quei Celtiberi che erano forse i migliori combattenti individuali del mondo antico di due di queste popolazioni vorrei parlare un po' più a fondo dei Numidi innanzitutto uno dei costumi di guerra più crudeli tra quelli che vengono attribuiti all'armata di Annibale consisteva secondo le fonti ne parlano Valerio Massimo per esempio o Tito Livio nell'abitudine di abbandonare a morte lenta uomini ai quali erano stati recisi i tendini delle cosce e dei polpacci e pare certo che al di là di alcune esagerazioni di alcuni inasprimenti di questo costume il testo degli autori antichi adombri una realtà ben precisa questi berberi che montavano animali di piccola corporatura e di grande resistenza fisica guidandoli con l'aiuto di una semplice correggio di cuoio legata attorno al collo sono gli stessi che vengono raffigurati ancora ai tempi della colonna traiana sulla colonna traiana qui a roma costituivano una cavalleria leggera e agilissima che componente davvero tutto fare davvero capace di tutto all'interno dell'esercito punico era in grado di condurre indifferentemente missioni di ricognizione e di interdizione lontana era abile nelle scaramucce e nelle manovre di aggeramento ma era anche in grado di affrontare sul campo di battaglia cavallerie assai più pesanti di lei dotati esclusivamente di un piccolo scudo rotondo in cuoio di alcuni giavellotti e del lungo coltello berbero i numidi prima logoravano il nemico con la loro maggiore agilità operando una serie ripetuta di attacchi di finte e di ritirate improvvise poi dopo averlo volto in fuga lo inseguivano e mentre lo superavano lo abbattevano al passaggio con un colpo di pugnale il fendente non era mortale in sé non era infatti diretto al corpo per non spuntare l'arma contro le corazze ma portato dal basso in alto recideva i tendini delle cosce dei polpacci e dei garretti e finiva per essere ugualmente mortale perché inesorabilmente disarcionato i cavalieri dell'antichità non avevano neppure le staffe il nemico veniva lasciato dai cavalieri berberi che proseguivano la loro corsa a morire di morte lenta per emorragia e per spinimento i galli della pianura padana che costituirono probabilmente per molti anni per tutta la seconda fase della guerra la componente più numerosa all'interno dell'esercito di Annibale 20.000 di loro seguirono i punici oltre l'appennino furono anche coloro che nelle principali battaglie combattute sul suolo dell'Italia pagarono il tributo di sangue più alto ebbero le perdite più pesanti alla trebbia al Trasimeno a Canne dove su 6.500 caduti punici oltre 4.700 furono celti furono proprio loro che spesero il maggior numero di vite anche perché Annibale li schierò costantemente in prima linea e li espose direttamente all'urto delle legioni romane delle legioni romane che naturalmente erano molto pericolose anche quando erano sconfitte il cartaginese è stato per questo biasimato spesso ed è stato accusato di avere sacrificato queste popolazioni barbariche all'esigenza in fondo abbastanza egoistica di risparmiare i suoi concittadini è un'accusa che è stata mossa sovente ad Annibale ed è un'accusa del tutto infondata del tutto infondata non solo perché come si è detto non c'erano nell'armata d'Italia contingenti di cittadini cartaginesi cartaginesi erano solo gli ufficiali ma perché anche là dove come poi nell'ultima fase a Zama in territorio africano essi furono presenti non furono affatto risparmiati Annibale non esitò nella battaglia di Zama ad esporre se non in prima fila almeno in seconda linea i suoi concittadini e a risparmiare invece i ben più preziosi per lui veterani d'Italia quindi Annibale era troppo buon soldato per commettere un errore di questo genere due sono le considerazioni che indussero Annibale a questo comportamento c'erano dei motivi i Celti erano innanzitutto guerrierinati per il loro costume primitivo quello di combattere in prima fila era un privilegio e un altissimo segno d'onore i Celti erano però al tempo stesso anche pessimi soldati intolerantissima corpora erano cioè incapaci di sopportare le fatiche non sopportavano il clima i rigori della disciplina erano amanti del vino ma erano facili alle brezza erano orgogliosi incostanti rissosi chiassosi e sempre pronti al saccheggio oltre che infidi al punto da minacciare talvolta la vita del loro stesso comandante accadde nella pianura padana durante il soggiorno nell'inverno 218 Annibale sacrificò dunque la componente barbarica non in quanto tale ma perché era tatticamente meno esperta e soprattutto era meno disciplinata e meno affidabile in più di un'occasione per evitare almeno nella prima fase diserzioni in massa a chiudere la marcia dell'esercito di Annibale venivano i suoi cavalieri fedelissimi e in grado di sorvegliare i guerrieri celti che erano i maggiori indiziati per un comportamento di questo genere in particolare per un ancestrale costume religioso i celti erano poi cacciatori di teste appese durante la battaglia ai finimenti dei cavalli le teste erano conservate tra valsami ed unguenti come macabri e prestigiosi trofei che venivano mostrate agli amici durante i conviti oppure erano scarnificate e montate in oro e trasformate in pocola cioè in coppe rituali per le libagioni solenni all'interno dei santuari o ancora infine erano fissati all'interno di apposite nicchie agli architravi dei santuari stessi e la bramosia di questi trofei era tale che molto spesso i celti sospendevano la battaglia preoccupati di acquisire un trofeo piuttosto che di uccidere un altro nemico quindi si capisce anche perché Annibale li abbia considerati truppe non pienamente affidabili verso la metà del terzo secolo i cartaginesi non solo allineavano ormai da tempo corpi di fanteria pesante ma prestavano apparentemente una un'attenzione estrema a tutti i più recenti sviluppi della scienza militare greca scienza militare greca che era diventata il termine di confronto per tutte le civiltà del Mediterraneo Diodoro lascia intendere per esempio che il battaglione sacro sacrificatosi eroicamente nella battaglia del Cremisos nell'anno 339 fosse modellato sull'omonimo reparto tebano che aveva combattuto con ben altro esito nella battaglia di Cheronea avendo strutturato il loro esercito sulla falange oplitica uno schieramento su otto file di fanti tesantemente armati i cartaginesi erano stati a lungo abituati a praticare la forma di attacco frontale che era caratteristica degli opliti che era caratteristica della loro falange fino a che probabilmente proprio santippo nella battaglia contro Attilio Regolo aveva insegnato loro la manovra avvolgente la manovra avvolgente di origine ellenistica alla piena funzionalità di questa manovra mancava ancora l'ultimo tocco che proprio a Milcare si era sforzato di offrirle introducendo forse nell'organico dell'esercito cartaginese corpi di falangiti armati alla macedone ne parleremo resta da accennare agli elefanti il cui uso secondo alcuni i punici appresero da Pirro Pirro a sua volta l'aveva appreso da 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 Alessandro Alessandro si era dovuto confrontare con gli elefanti del re indiano Poros al bordo estremo del mondo raggiunto durante le sue conquiste sembra certo ormai che i pachidermi usati da cartagine siano appartenuti ad una varietà africana ma non a quella ancora oggi esistente che non si può addestrare bensì ad una specie oggi scomparsa che viveva lungo le coste mediterranee il cosiddetto elefante delle foreste il nome scientifico è l'oxodonta africana ciclotis più piccolo dell'elefante indiano del quale temeva l'attacco in battaglia questo animale era protetto da piastre metalliche a guisa di armatura ma non era in grado di portare una torretta ed era condotto in battaglia dal solo cornac che gli stava a cavalcioni sul dorso due curiosità gli elefanti che sono stati definiti carri armati dell'antichità non erano affatto carri armati e quindi se impazzivano andavano dove pareva loro fino ad attaccare le loro stesse truppe e una delle innovazioni introdotte dallo stesso Amilcar sembra essere stata quella di un mazzuolo e di un lungo chiodo con cui abbattere l'animale con cui il cornac sempre che gli fosse ancora sul dorso poteva abbattere l'animale se si imbizzarriva l'altra notazione è che Annibale ebbe pare un unico elefante indiano un unico elefante indiano che portava il nome di Surus il siriano dalla sua origine è Plinio che ce lo dice e che lo accompagnò ultimo superstite al passaggio dell'Apenino Annibale che era stato colpito da oftalmia al passaggio dell'Apenino passò questa catena sul dorso dell'ultimo elefante superstite che era probabilmente un elefante indiano anche per oggi abbiamo finito alla prossima puntata ancora una volta alle otto della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera di nuovo qui con Annibale e di nuovo qui a parlare a parlare dell'educazione di Annibale e dell'aspetto che in questa educazione i suoi maestri forse in particolare lo spartano sosilo curarono di più e cioè la preparazione bellica preparazione anche teorica oltre che pratica oltre che basata sull'addestramento fisico Annibale dovette certamente studiare tutte le opere militari contemporanee fino a conoscerle quasi a memoria e ne meditò certamente dando risvolti nuovi ne meditò a fondo i contenuti di questi testi sono giunti a noi purtroppo pochi ed esigui frammenti ma conosciamo autori e titoli vi furono certamente tra le Bibbie di Annibale le efemeridi reali di Eumene di Cardia la storia di Ptolemeo Sotere che era stato generale di Alessandro e poi primo re d'Egitto le praxeis di Callistene che narravano le imprese di Alessandro Magno le memorie di Pirro i rapporti dello storico di questi prossimo la nuova regola nel campo tattico era la manovra volgente la manovra volgente inventata da Filippo II e perfezionata da Alessandro che non ebbe per Annibale alcun segreto la battaglia di Canne rappresenta il forse l'esempio più straordinario di applicazione sul campo di questa di questa tattica nel mondo macedone questa manovra si fondava sul potere di arresto della falange della falange di nuova creazione istituita dai sovrani macedoni e sulla forza d'urto delle cavalerie scelte quella pesante gli etairoi i compagni i nobili amici del re e quella più leggera che era composta di peoni di traci e di tessali una formazione dai ranghi serrati più massiccia e profonda del consueto armata delle sarisse picche molto più lunghe di quelle in dotazione agli opliti greci che raggiungevano i 5 metri di lunghezza vedeva i falangiti in grado di immobilizzare il centro avversario le fanterie avversarie permettendo il devastante attacco dei cavalieri che erano schierati alle ali i quali dopo avere distrutto le forze montate nemiche di solito molto più deboli erano poi in grado di distruggere attaccandole sui fianchi e alle spalle anche le fanterie avversarie che erano ancora trattenute dalla falange un grande storico militare inglese il Tarn ha osservato che nel quadro di questa tattica la falange rappresentava l'incudine mentre le cavallerie fungevano da maglio Annibale disponeva di un maglio eccellente le sue cavallerie erano tutte di ottima qualità quella leggera numidica era tra le migliori del mondo ed era davvero straordinaria ma anche quelle pesanti la libica la gallica o la spagnola erano comunque molto superiori alle cavallerie romane che erano costituite da fanteria a cavallo meno efficienti erano invece i suoi fanti tutti i guerrieri dell'occidente mediterraneo anche quei libici che suo padre Amilcare aveva cercato di trasformare in falangiti abituandoli a combattere in ordine chiuso erano abituati a combattere soprattutto di spada e quindi praticavano soprattutto il combattimento individuale molto più che non quello in formazione rendendosi conto che non avrebbe in nessun modo potuto disporre di una falange paragonabile a quella macedone Annibale decise di fornire la spada a tutte le sue fanterie come arma principale questa scelta lo costringeva però ad escogitare manovre per arretrare il suo centro che rimase sempre piuttosto fragile sottraendolo alla pressione nemica esercitata da uomini molto pericolosi come erano i legionari di Roma il suo esercito rispetto agli eserciti ellenistici era meno potente e compatto ma possedeva grandi capacità di manovra era meno legato alla necessità di combattere in formazione in ordine chiuso e era meno condizionato perché più elastico della falange dal terreno su cui doveva doveva operare infine poteva sempre contare sulla ferocia nativa e sulla abilità combattiva individuale degli uomini che lo componevano il loro requisito più prezioso e a lungo andare veramente insostituibile secondo un celebre aneddoto con Alessandro Magno e Annibale Finì per assimilarsi per accostarsi apertamente richiesto da Scipione Publio Cornelio Scipione l'africano il suo vincitore di stilare una ipotetica graduatoria dei più grandi generali di ogni tempo Annibale avrebbe collocato in testa Alessandro Magno Alessandro Magno perché con un pugno di uomini aveva saputo arrivare agli estremi confini del mondo avrebbe posto al secondo rango Pirro il re dell'Epiro perché aveva insegnato agli uomini a definire gli accampamenti e perché era stato uno dei più grandi tattici e strateghi del suo tempo e al terzo posto avrebbe collocato precisamente se stesso la frase avrebbe sollevato il divertimento suscitato il divertimento del grande generale romano il quale gli avrebbe chiesto che cosa avrebbe detto se Annibale fosse riuscito a vincerlo durante la battaglia di Zama Annibale rispose allora che in quel caso avrebbe menzionato per primo proprio se stesso le circostanze dell'aneddoto che viene ambientato ad Efeso sono fitizie sappiamo che in quel momento ad Efeso poteva esserci Annibale non poteva esserci Scipione però nonostante questo è probabile che il paragone ci venga proprio da Annibale il quale nelle sue peregrinazioni in Asia dovette essere interrogato spesso richiesto spesso di un parere in proposito era la massima autorità vivente in fondo e Annibale dovette stimare davvero se stesso superiore a Scipione considerando la battaglia di Zama come che pure aveva perduto come il suo più alto anche se incompiuto capolavoro come il punto massimo della sua carriera di soldato Alessandro era stato era stato un modello modello per suo padre che perseguiva uno scopo politico preciso anche se grandioso era stato un modello per suo cognato i cui piani erano invece concreti e circoscritti nello spazio alla sola Spagna si ha l'impressione che l'educazione greca di Annibale fosse più raffinata e profonda di quella dei suoi due parenti e che proprio per questo di Alessandro egli sia stato l'unico autentico erede non solo perché è il solo che lo abbia eguagliato come maestria tattica ma perché è il solo forse che ne abbia inseguito in un certo qual senso l'immagine che ha tentato di inserirsi nel solco di una tradizione greca ricca di figure che proclamavano se stesse per valore e capacità superiori quasi avessero un'origine divina al resto degli uomini quello di Alessandro Magno non è il solo il solo modello che Annibale abbia ricavato dalla storia passata altri ne trasse altri ne ebbe e uno potrebbe essere stato quello di Lisandro Sosilo il suo precettore il precettore che suo padre gli aveva affiancato in Ispagna da buon greco non mancò probabilmente di fargli leggere Omero ma era uno spartano e come l'acedemone dovette proporgli gli eventi e i personaggi più gloriosi della storia della sua città una città che va ricordato era stata egemone in Grecia forse in particolare gli ricordò la figura di questo re di Lisandro era proverbiale l'astuzia un'astuzia che gli aveva permesso di ottenere una interminabile serie di successi e circa due secoli prima del momento in cui ci siamo collocati gli aveva permesso di ottenere la vittoria definitiva su Atene distruggendone l'invincibile flotta nella battaglia di Egospotami la vittoria nella guerra del Peloponneso aveva esaltato questa figura a quelli che gli ricordavano come i discendenti di Eracle dovessero evitare combattendo le menzogne il tradimento le insidie Lisandro fierissimo al contrario della propria abilità avrebbe risposto che la pelle del leone nemeo che copriva all'eroe era sì una protezione invulnerabile ma era una protezione insufficiente perché non copriva del tutto là dove essa non arrivava occorreva questa la sua risposta cucire la pelle della volpe il monito è chiaro e la sua forza va detto ha superato i secoli ha superato i secoli ed è giunta fino al principe di Machiavelli il principe che deve essere leone et volpe perché il leone non si guarda dai lacci e la volpe non si difende dai lupi la rete il valore tradizionale quindi non basta occorre coniugarlo con l'astuzia con la spregiudicatezza con l'uso anche bellico dell'intelligenza in una parola con quel requisito che i greci chiamavano Metis e che del resto ha il suo primo universale eroe proprio in Omero nella figura del Polimetis per eccellenza nell'eroe dalla molta mente in Odisseo Ulisse quindi la fama della perfidia la fama di una slealtà che i romani ritennero propria dei punici perché la videro espressa in sommo grado nel più grande di loro venne in realtà ad Annibale dall'uso sistematico in guerra dello stratagemma dell'astuzia dell'espediente in una parola da un connotato che gli veniva non dalla sua natura punica ma dalla sua educazione greca per la concezione arcaica della morale e in particolare della guerra che i romani avevano ancora in questo momento i romani tuttora legati ad un superato ideale cavalleresco un simile modo di procedere non era assolutamente accettabile l'ultimo e più importante mito ispiratore riguarda la figura cui si è più volte accennato quella di Eracle Melkart Eracle è naturalmente il nostro Ercole un personaggio di cui come già il padre prima di lui Annibale fece il proprio alter ego divino o dovrei dire forse del quale configurò se stesso come una specie di proiezione su questa terra cioè Annibale è Eracle Eracle re di vivo è una sorta di trasposizione terrena di un grande personaggio celeste Annibale si fa innanzitutto fa innanzitutto rappresentare se stesso e così come già suo padre con gli attributi del dio sulle monete gli attributi del dio sono la clava sono la corona dall'oro e le monete sono un veicolo di propaganda straordinaria sono un veicolo di propaganda e nello stesso tempo un importantissimo simbolo di regalità la figura divina di Eracle sembra scandire con la sua presenza tutta la vicenda terrena di Annibale Annibale la eleva non solo a modello del suo valore guerriero abbiamo detto nel discorso di Lisandro in fondo Eracle è rivestito con la pelle del leone nemeo ed è quindi aretè e quindi il valore il valore fisico la capacità di battersi ma addirittura Annibale ne fece l'emblema delle sue gesta terrene e persino il simbolo delle sue scelte morali non deve stupirci questo fatto Eracle è una figura universale dobbiamo pensare che addirittura esistono raffigurazioni di un Eracle cristiano all'interno delle catacombe Eracle è un personaggio che compare in tutte le principali filosofie elleniche compare nel pitagorismo compare nella filosofia di Evemero da Messana è quindi diventato un simbolo un simbolo che Annibale sfrutta in maniera straordinaria abbiamo anche detto che non è solo Eracle è Eracle Melkart cioè è una figura composita i cui tratti sono però in questo momento sono però in questo momento sostanzialmente confusi l'Eraacle greco che già Alessandro aveva adottato come proprio simbolo gli suggerisce un ben preciso esempio di sovranità il Melkart fenicio il quale prima ancora di Didone compie nel fuoco il suicidio mistico cioè il gesto che i cartaginesi considerano come l'atto meritorio per eccellenza gli offre uno straordinario modello un inarrivabile ideale di virtù e di vita però Eracle Melkart è ancora di più Eracle Melkart è il personaggio che nel mito greco ma anche punico ha sconfitto Gerione Tricorpore progenitore degli spagnoli gli ha sottratto gli splendidi armenti simbolo delle ricchezze di Spagna ha superato per primo le Alpi e si è spinto fino a Lazio dove ha ucciso nella grotta sotto il Palatino il mostro Encorio il mostro locale Caco Eracle però è ancora di più Eracle è una figura dai mille risvolti caro a tutte le genti non solo del Mediterraneo esiste un Eracle o almeno un figlio di Eracle presso quasi tutte le popolazioni del Mediterraneo e non solo addirittura presso i Celti addirittura presso gli Africani il personaggio ha più sfaccettature ci sono molti personaggi con nomi diversi che finiscono per identificarsi in un solo i suoi caratteri incarnano una serie di istanze insopprimibili che vengono dall'animo umano e la sua polivalenza fa sì che questo personaggio sia uno straordinario veicolo di comunicazione identificarsi con Eracle significa identificarsi con la forza giusta con la forza che castiga i malvagi con una forza nella quale al di là di indubbie differenze sono però pronte a identificarsi in una preziosa chiave di lettura tutte le culture che gravitano sul Mediterraneo a risentirci alla prossima puntata ancora una volta alle 8 della sera con Annibale e con Giovanni Brizzi buonasera eccomi di nuovo a voi per il consueto appuntamento con Annibale un appuntamento che ormai si avvicina al momento decisivo lo scoppio della guerra con Roma alla morte di Asdrubale l'esercito di Spagna scelse naturalmente come proprio comandante e come suo successore Annibale una decisione alla quale a Cartagine gli aristocratici che governavano la città ostili al partito dei Barca tentarono inutilmente di opporsi quando assunse i pieni poteri voluto anche dal popolo Annibale non aveva ancora compiuto 25 anni ed era il responsabile del teatro iberico per i due anni successivi condusse una serie di operazioni di operazioni minori contro alcune genti spagnole dell'interno ma forse fino da ora il suo vero obiettivo era costituito da Sagunto a differenza del cognato Asdrubale infatti egli era totalmente proiettato sulle orme del padre era votato alla guerra di rivincita con Roma che il padre aveva programmato probabilmente fin dalla sconfitta in Sicilia ma Annibale non voleva venire meno ai patti senza una giustificazione almeno formalmente plausibile soggiogando i popoli nell'entrotera di Sagunto intendeva chiudere su ogni lato la città alleata di Roma isolandola entro una stretta fascia costiera e di fatto chiudendola circondandola completamente con i propri domini Sagunto era ormai l'unica realtà indipendente in tutto l'est della penisola iberica e costituiva una vera e propria spina nel fianco rispetto ai domini cartaginesi posta a mezza strada tra Cartagine di Spagna e il corso dell'Ebro limite estremo dell'espansione militare punica rappresentava una potenziale minaccia una minaccia che bisognava rimuovere ma era almeno formalmente sotto la protezione di Roma gli storici antichi hanno tramandato due leggende la prima probabilmente di ambito locale nata sulla base di una semplice assonanza secondo cui Sagunto era una colonia greca fondata da profughi di Zacinto mentre a Roma si diceva che alla sua fondazione avessero partecipato i rutuli di Ardea nel Lazio erano due modi forse ugualmente simbolici per giustificare un interesse di Roma verso una realtà in fondo estremamente remota partendo nel primo caso da un legame antico ma consolidato nel tempo quello di Roma con Marsiglia con Massalia Marsiglia la città la grande città Focea che era interessata all'incolumità dei coloni greci nel settore e sottolineando invece nell'altro caso un vincolo assai meno credibile con una delle stirpi che erano collocate alle origini stesse di Roma Sagunto tuttavia era una realtà iberica una realtà iberica a tutti gli effetti e quando si manifestò un contenzioso con la popolazione dei Torboleti alleati di Annibale il generale cartaginese chiese di deciderne le sorti probabilmente proprio agli iberi rivolgendosi per ottenere un giudizio ai suoi alleati allo strumento istituzionale a questo preposto cioè l'assemblea delle genti indigene è certo comunque che ottenuta la condanna di Sagunto decise di attaccare la città le considerazioni che spinsero Roma a decidersi per la guerra e la questione della legittimità giuridica e morale del suo intervento hanno fatto versare autentici fiumi d'inchiostro l'intero dibattito tutta la discussione poggia su un fatto in apparenza evidente Sagunto si trovava a sud dell'Ebro e quindi nella zona riservata secondo il trattato del 226 all'espansione militare dei cartaginesi alcuni degli studiosi si sono orientati verso la soluzione in fondo apparentemente più semplice l'esistenza di un imperialismo romano ormai dilagante che dopo la Sicilia la Sardegna e la Corsica mirava adesso alla Spagna e hanno immaginato disegni di conquista decisamente sproporzionati rispetto a questo periodo Roma tra l'altro era in questo momento impegnata su due fronti la valle Padana che alcuni dei suoi uomini di punta alcuni dei politici più importanti intendevano colonizzare a spese dei Celti e l'Adriatico che era teatro in quel momento di una fastidiosa pirateria addirittura in una fascia che andava dalle coste dell'Istria fino al canale d'Otranto gli interessi di Roma non prevedevano quindi certo un coinvolgimento in Spagna lo dimostra il fatto che non ci si risolse ad intervenire se non troppo tardi esiste una frase che è passata in proverbio dum Rome consulitur saguntum expugnatum est cioè mentre a Roma si dibatte si delibera sagunto viene spugnata che ancora oggi si adopera in questo senso a indicare irresolutezza e quindi Roma non era veramente interessata a intervenire in Spagna altri studiosi si sono sforzati di immaginare soluzioni diverse si è fatta per esempio l'ipotesi che con il termine IBER si indicasse non il fiume che noi conosciamo con questo nome addirittura che IBER fosse un nome comune indicante genericamente un corso d'acqua e che quindi l'Ebro sia in realtà il più meridionale cucar questo lascerebbe sagunto nella zona di influenza romana si è pensato all'esistenza di una fascia di rispetto comprendente la stessa sagunto ex septam comuni federe cioè sottratta di comune accordo alla azione dell'uno e dell'altro dei contraenti e quindi garantita dal rispetto reciproco di entrambi l'intera questione potrebbe però essere risolta ancora più facilmente a generare l'equivoco potrebbe essere stato un celebre passo di Polibio lo storico greco che è la nostra fonte principale secondo Polibio attaccando sagunto i cartaginesi infransero ad un tempo il trattato concluso con Lutazio quello che aveva chiuso nel 241 la prima guerra tra Roma e Cartagi trattato che imponeva a ciascuna delle parti di astenersi dall'attaccare gli alleati dell'altra e la convenzione firmata da Asdrubale con la quale si erano impegnati a non portare le loro armi al di là dell'Ebro letta frettolosamente la frase ha fatto probabilmente nascere negli storici contemporanei l'ipotesi di un errore di topografia da parte di Polibio e li ha indotti a collegare arbitrariamente i due concetti in realtà Polibio riconosceva di fatto negli inizi della guerra due momenti distinti due diversi casus belli che gli storici moderni hanno finito col sovrapporre e cioè la presa di Sagunto esclusa perché alleata del popolo romano dal trattato stipulato con Asdrubale ricordiamo per analogia in tempi molto più vicini al nostro la situazione di Berlino Ovest e ma solo come secondo momento il passaggio dell'Ebro da parte d'Annibale La classe dirigente romana era divisa da rivalità profonde e le reazioni alla richiesta di aiuto di un alleato così lontano furono tiepide e discordi i romani quindi scelsero nella circostanza la soluzione peggiore affidarono l'ambasceria ad Annibale e a Cartagine ad alcuni esponenti dell'ala dura del senato ma con compiti sostanzialmente moderati e sospesero per il momento ogni atto di guerra se Annibale avesse rifiutato di rispettare Sagunto diedero mandato agli ambasciatori di chiedere semplicemente al senato di Cartagine la rimozione del generale Punico dal comando spagnolo respinti da Annibale gli ambasciatori si recarono a Cartagine ma la città era controllata dalla faccio barcina dal partito dei barca e quindi rifiutò di concedere loro soddisfazione libero di muoversi Annibale cominciò l'attacco a Sagunto situata su un piccolo colle in vista del mare a un miglio circa dalla costa la città era una fortezza che dominava la piana sottostante facilmente aggirabile e militarmente poco consistente Sagunto non aveva una grande importanza sul piano strategico ma rappresentava un vero e proprio simbolo politico la cui indipendenza costituiva un limite e una sfida alla potenza cartaginese in Spagna Annibale che dobbiamo dirlo voleva forse un pretesto per una guerra che aveva ereditato dal padre doveva spazzarla via a saliti su tre lati i Saguntini resistettero ad oltranza contro le vine che erano tettoie di giunchi intrecciati destinate a proteggere l'avanzata verso le mura e contro gli Arieti fecero un largo uso di armi da getto rivestite in punta di stoppa accesa e Annibale venne colpito era ancora giovane ed era ancora estremamente coraggioso coraggioso rimase anche dopo ma non più incosciente si era spinto sotto le mura venne colpito ad una gamba da una di queste armi e forse ne riportò una leggera zoppia che lo afflisse poi per tutta la vita i cartaginesi non riuscirono ad avere la meglio prima di otto mesi di assedio la fine di Sagunto ritardata anche da un'insurrezione tra le genti dell'interno era però ormai prossima gli abitanti sfiniti tentarono di allacciare trattative e Annibale dal canto suo pose condizioni relativamente miti concedeva vita e libertà purché cessassero gli atti ostili e purché essi accettassero di ricostruire la città in pianura in una posizione meno forte sono condizioni che ricordano quelle che poi Roma stessa porrà a Cartagine assediata Sagunto rispinse le trattative e fu presa d'assalto i capi del partito filoromano immolarono sul fuoco se stessi le loro famiglie e i loro beni mentre i soldati di Annibale esasperati passavano a fil di spada ogni maschio adulto che incontrassero per le vie della città Sagunto tuttavia non fu distrutta agli amici di Cartagine almeno Annibale cercò di garantire per quanto possibile salvi gli averi e la vita il gesto di Annibale era soprattutto un gesto dimostrativo mirava a spezzare una situazione di stallo se volevano tenere il punto i romani accettassero allora anche di affrontare una guerra nel momento che aveva scelto lui quando la situazione militare era più favorevole a Cartagine altrimenti accettassero di rinunciare alla supremazia acquisita con la guerra precedente e gli lasciassero mano libera in Spagna costretta ad una scelta gravida di conseguenze Roma esitò ancora continuando anche dopo il massacro di Sagunto dei Saguntini a temporeggiare e a discutere ma all'inizio del nuovo anno siamo nel 218 la indusse finalmente a decisioni irrevocabili mentre i consoli nuovi eletti Publio Cornelio Scipione e Tiberio Sempronio Longo entrambi avversari di Cartagine preparavano l'offensiva uno verso la Spagna l'altro verso l'Africa fu fatto un estremo tentativo per scongiurare la guerra fu inviata un'ambascheria a Cartagine composta di cinque membri con un ultimatum dai termini categorici si chiedeva il ritiro delle forze puniche da Sagunto la liberazione dei cittadini superstiti e la consegna di chi aveva assalito la città comandante e stato maggiore dell'armata di Spagna l'accoglimento di queste condizioni sarebbe però riuscito intollerabile ai cittadini di Cartagine quindi anche i senatori più ostili ad Annibale e più vicini a Roma tacquero tutti uno solo di loro i Milcone cercò con un cavillo di scindere la responsabilità di Cartagine da quella della famiglia dei Barca accreditando ipocritamente l'idea cara ai romani che gli esponenti della famiglia dei Barca non rappresentassero in alcun modo il legittimo governo della città ma la situazione era andata troppo avanti gli ambasciatori replicarono invitando Cartagine a condannare Annibale apertamente o ad assumersi le sue responsabilità raccolto un lembo della toga il capo della legazione annunciò ai senatori che essa conteneva la pace o la guerra e li invitò a scegliere a nome dell'assemblea il suffeta bomilcare era il cognato di Annibale gli rispose di decidere pure lui stesso respinto l'ultimatum Fabio come doveva scelse dunque la guerra che fu accolta dalle acclamazioni di giubilo di molti tra i senatori alla prossima puntata su radio 2 alle 8 della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera amici ascoltatori eccoci qui di nuovo ormai sul punto di partire con voi e con Annibale per la guerra e proprio per il fronte Annibale aveva deciso la guerra sulle orme spirituali del padre ma lo scontro che avrebbe dovuto sostenere era e Annibale lo sapeva benissimo di estrema difficoltà Roma disponeva di forze preponderanti un censimento condotto sette anni prima nel 225 in occasione di una grande calata gallica della grande calata gallica che aveva devastato l'Italia centrale fino all'altezza di chiusi aveva fatto ascendere il numero degli atti alle armi i romani avevano contato se stessi e di loro alleati a 770 mila uomini circa fra cittadini e soci alleati Roma disponeva di una forza veramente imponente le risorse in uomini e mezzi dei romani erano quindi decisamente superiori non solo alle truppe di cui Annibale disponeva in Spagna ma anche di quelle che lo stato punico avrebbe potuto mobilitare nel suo insieme le popolazioni dei domini di Cartagine infatti erano probabilmente di poco inferiori a quelle dello stato romano ma erano diversi i vincoli politici che legavano le differenti comunità alle potenze egemoni l'Italia o almeno una parte essenziale di essa era tenuta insieme da una serie di interessi comuni a molti dei suoi nobili onnipotenti nel senato di Roma di cui erano entrati a far parte quanto lo erano all'interno delle comunità di appartenenza quanto lo erano almeno le loro famiglie all'interno delle comunità di appartenenza vale a dire Roma aveva cooptato nel proprio senato i membri delle aristocrazie di buona parte dell'Italia viceversa Cartagine con gli alleati e con le popolazioni soggette aveva rapporti molto meno saldi all'interno dello stato punico non esistevano non erano fino ad allora previste alcune forme di integrazione nella cittadinanza non era prevista la cooptazione sistematica che invece esisteva per le classi dirigenti romane qualche cosa del genere avevano tentato di fare solo in tempi recentissimi proprio a Sdrubale e appunto a Nibale in Ispagna avevano cercato di fare qualche cosa di analogo assorbendo anche politicamente le popolazioni iberiche ma era un processo che era appena cominciato la fornitura di truppe per di più non era talvolta neppure prevista nella lettera dei trattati come invece accadeva sistematicamente per Roma e comunque anche quando esistevano clausole precise la volontà di rispettarle era indebolita negli alleati e nei sudditi di Cartagine dalla coscienza di battersi per cause ed interessi non propri Libi ed Iberi Numidi e Baleari non formavano contingenti di un esercito nazionale non erano direttamente legati allo stato per cui erano chiamati a combattere benché fossero reclutate tra alleati e sudditi quelle punniche erano truppe quasi esclusivamente mercenari le sole forze a cui non si pagasse lo stipendio erano le forze cittadine cartaginesi che però ormai da tempo come abbiamo detto combattevano soltanto sul territorio africano e si erano sostanzialmente infiacchite si erano sostanzialmente disabituate alla guerra con il senno di poi considerata l'enorme disparità l'enorme divario di forze molti hanno giudicato l'impresa di Annibale come un tentativo eroico ma sostanzialmente senza speranze Annibale tuttavia era un ottimo giudice dei suoi mezzi delle sue capacità delle sue risorse e l'impresa non sembrava impossibile cominciando la guerra e anzi come abbiamo visto facendo di tutto per provocarne lo scoppio il cartaginese nutriva probabilmente buone speranze di poterla in qualche modo anche vincere con le leve del nemico Annibale sapeva bene di non poter in alcun modo competere almeno sul piano numerico quindi escludeva la guerra di logoramento in un conflitto come era stato il primo scontro con Roma Cartagine non avrebbe avuto alcuna speranza di vittoria proprio le quasi infinite le inesauribili riserve di materiale umano di cui Roma disponeva costituivano in apparenza la vera forza del nemico occorreva privarlo di quella malgrado la rete di rapporti che Roma aveva tessuto attorno a sé che Roma aveva intrecciato con gli alleati soprattutto con le classi dirigenti le classi dirigenti italiche non potesse essere in alcun modo sottovalutata la federazione italica i cui membri erano adesso divisi da interessi contrastanti aveva alcune debolezze debolezze interne che un'azione portata contro il cuore dello stato romano avrebbe potuto forse fare esplodere come Eracle nel mito Eracle il suo alter ego divino aveva sfiancato Anteo staccandolo dalla madre terra e soffocandolo lontano dalla genitrice che gli dava forza ogni volta che Anteo cadeva al suolo e quindi era l'origine prima della sua forza così Annibale intendeva esaurire Roma staccandola dai suoi alleati e sperava persino da una parte dei suoi cittadini quelli che non risiedevano direttamente nella città la linea politica seguita da Roma era in quel momento il risultato di una di una dialettica di una dialettica politica esistente tra i gruppi contadini e la fazione che traeva le sue clientele e quindi i suoi voti dai ceti mercantili sia della città sia traeva appoggi appoggi molto forti dalle città etrusche campane e greche d'Italia una parte dell'aristocrazia romana rappresentata da grandi famiglie come quella dei Claudi o come quella dei Corneli Scipioni si era schierata a sostegno della plebs urbana il ceto cittadino degli imprenditori e dei piccoli commercianti e soprattutto aveva assunto la difesa degli interessi delle grandi oligarchie commerciali etrusche e greche decisivi nel fornire alla federazione italica un patrimonio di conoscenze molto vasto un patrimonio di esperienza finanziaria e quindi nel dotarla delle necessarie e moderne strutture le zecche di Capua tornerà questo nome più avanti si erano incaricate a lungo di battere per conto di Roma tutta la monetazione d'argento destinata alla circolazione internazionale abili nell'orientarne la politica durante la prima guerra con Cartagine per la quale avevano forse essi stessi dato la spinta decisiva gli alleati meridionali avevano goduto per alcuni decenni di una situazione veramente invidiabile avevano conservato per sé i profitti delle conquiste a cui Roma sembrava solo in parte interessata la situazione però stava cambiando a lungo distratto l'interesse dei cittadini romani si stava sempre più appuntando verso generi di attività del tutto nuove mercantili o imprenditoriali la vecchia società latina che di queste prospettive si era per molto tempo disinteressata almeno nella sostanza cominciava forse a chiedersi se dalle vittorie militari non si potessero trarre frutti più duraturi del semplice bottino il trasferirsi nella capitale del processo per la coniazione in argento era un sintomo allarmante il sintomo di una inequivocabile metamorfosi in questo senso che preoccupava le realtà del meridione e preoccupava direi soprattutto capua quella romana era stata e restava tuttavia ancora in questo momento una comunità essenzialmente di contadini lo dimostra il suo sistema di valori che si affidava per la difesa dello stato alla piccola proprietà agraria tradizionale vivaio di soldati e la gerarchia sociale una gerarchia sociale che aveva nel possesso fondiario l'esclusivo metro di valutazione alcune gentes alcuni grandi clan patrizi come i fabi o plebei come i fulvi i postumi i claudi marcelli cercarono di opporsi quindi alla svolta ormai in atto e alcune grandi personalità una di queste la ritroveremo più avanti cioè proprio Flaminio nepote osarono persino andare contro la volontà dei loro pari per opporsi a questo a questo processo Flaminio che prima programmò in favore degli agricoltori italici la conquista della pianura padana per rinsanguare e per ridare vigore a un ceto che per qualche tempo era parso in soggezione poi nell'anno che precedette l'ingresso di Annibale in Italia sostenne apertamente il plebiscito Claudio cioè una legge votata da un tribuno della plebe che vietava ai senatori di possedere in proprio delle navi da carico di grosse dimensioni tutto però era destinato ad essere inutile se infatti la legge Claudia valse a tenere gli ottimati lontani dall'esercizio della mercatura o meglio a tenere gli affaristi al di fuori del senato questa misura finì però per favorire la nascita di una nuova classe imprenditoriale che contava mercanti appaltatori finanzieri speculatori tra i latini e tra i centroitalici risoluti a sperimentare in proprio iniziative che apparivano nuove ed estremamente lucrose all'interno del sistema quindi stava sviluppandosi una forte concorrenza una concorrenza che avrebbe contrapposto come antagonisti alcuni degli antichi alleati minacciata dalla recessione era per esempio Capua lo abbiamo già detto la più popolosa e ricca tra le città d'Italia che era stata vero cuore economico della penisola ma anche all'estremo opposto erano altri i settori inquieti dava segni di malcontento per esempio tutto il mondo osco-sabellico cioè tutti i territori appenninici del meridione non ancora sufficientemente integrati nel sistema politico ed erano promettenti promettenti per Cartagine e per Annibale si intende gli atteggiamenti i segnali provenienti da alcune città italiote nei progetti di Annibale le città greche d'Italia erano destinate a diventare alleate preziose fino dalle guerre contro Siracusa Cartagine aveva imparato a presentarsi come una città profondamente ellenizzata a presentarsi come protettrice della grecità per guadagnare consensi e la stessa tecnica poteva essere messa in opera in questo momento Annibale era tenuto al corrente della situazione da una vera e propria rete di raccolta delle informazioni sia in modo involontario dai mercanti italici che frequentavano abitualmente i porti spagnoli sia di proposito dai trafficanti cartaginesi quei guggas che si muovevano indisturbati sui mercati del meridione italiota del meridione greco d'Italia alcuni anche con funzioni specifiche di spie o di informatori ciò che gli veniva puntualmente riferito lo aveva probabilmente convinto che i dissensi all'interno della federazione italica fossero più gravi di quello che di quello che appariva e che gli italici fossero pronti prima o poi ad accettarlo ripudiando Roma a questo risultato si opponeva secondo lui un ostacolo soltanto cioè gli eserciti della Repubblica la cui forza teneva unita l'intera compagine per scardinare la struttura politica romana occorreva secondo lui attaccarla ma non al di fuori attaccarla in Italia sul suo territorio e distruggere la fama di invincibilità che circondava le sue legioni occorreva umiliarla di fronte agli alleati che ne costituivano la forza più autentica e se questo non fosse bastato a staccarli da essa occorreva ricorrere ad ogni mezzo la lusinga come il terrore e Annibale avrebbe ricorso ad entrambi malgrado il giuramento reso al padre comunque puntando verso l'Italia Annibale non progettava assolutamente una guerra di sterminio contro Roma una volta battuta e isolata dai suoi alleati non ci sarebbe stato bisogno di distruggere la città 60 anni prima Roma era stata sul punto di far pace con Pirro e Annibale non si sentiva per nulla inferiore al sovrano dell'Epiro che aveva messo Roma alle streppe il suo progetto era quello di limitare la potenza dello stato romano di riportarlo alla dimensione di semplice città latina e di sottoporlo all'egemonia almeno formale di Cartagine questo risultato Annibale contava di ottenerlo rapidamente ad Alessandro il suo modello macedone erano occorse tre battaglie soltanto per abbattere l'immenso impero persiano Annibale sperava che gliene sarebbero bastate anche meno valicando le Alpi secondo Tito Livio si fermò e indicando la piana sottostante disse che avrebbe risolto la situazione uno aut sumum altero prelio in una o due battaglie al massimo gli sarebbero bastate dunque una o due battaglie per avere ragione di Roma in quella che egli intendeva essere una vera e propria guerra lampo un blitzkrieg la valutazione politica era inutile dirlo un errore il suo errore più grave ma di questo parleremo in una prossima conversazione alle otto della sera di nuovo su Radio 2 di nuovo con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera di nuovo con Annibale sulla via di intraprendere la marcia verso l'Italia e di attaccare Roma sul suo territorio i presupposti politici potevano in fondo reggere l'idea su cui Annibale aveva fondato l'intera propria idea strategica era possibile restava però la posizione militare iniziale di Annibale ad essere debole almeno apparentemente debole minacciata addirittura schiacciata dall'immensa superiorità del nemico nemmeno questo fattore però preoccupava troppo il cartaginese le dimensioni immense della forza di Roma erano in un certo qual modo ridotte in un certo qual modo rese abbordabili dalla dimensione dal carattere per così dire fisiologico che caratterizzava gli eserciti del tempo le armate del mondo classico almeno le armate greche e poi quelle romane non potevano superare di molto i 50.000 uomini senza perdere ogni capacità di manovra questa caratteristica avrebbe in un certo senso protetto Annibale vietando ai romani di schiacciarlo semplicemente con la forza del loro numero le truppe che Annibale avrebbe dovuto affrontare sarebbero state quindi affrontate poco alla volta in una serie di combattimenti in una serie di battaglie di battaglie campali rappresentavano per molti versi e anche questo incoraggiava Annibale l'esatto contrario di quelle che il cartaginese portava con sé da un lato stava il suo esercito un'armata composta di veterani avevano combattuto a lungo in Spagna soldati professionisti un'armata numericamente ridotta però dotata di eccellenti capacità di manovra agile veloce compatta perfettamente addestrata e ciecamente fedele ad Annibale malgrado fosse un esercito mercenario i romani dal canto loro avrebbero potuto opporre eserciti anche molto numerosi malenti e formati di reclute valorose ma poco addestrate erano ricordiamolo dei contadini dei contadini quali tra i loro molti pregi non avevano il pregio di un addestramento se non sommario contro una forza che aveva il suo strumento più aguzzo nelle cavallerie agili e potenti ad un tempo i romani avrebbero schierato soprattutto dei fanti e questo avrebbe agevolato l'esecuzione della manovra avvolgente appresa dalla scuola militare macedone e poi perfezionata da Annibale stesso fondato semplicemente sulla pressione frontale praticata dalle legioni l'attacco contro il nemico la spinta in avanti una spinta cieca degli scaglioni di fanteria pesante legionaria sembrava fatta apposta per esaltare l'efficacia della manovra di aggiramento era in sostanza il toro contro la muleta sulle ancora goffe armate di Roma Annibale contava di poter avere la meglio sempre con facilità distruggendole naturalmente non tutte insieme ma man mano che gli venivano opposte per affermare la sua superiorità tattica e prostrare lo stato romano Annibale aveva dunque bisogno di una serie di battaglie campali ma contava che questa possibilità la possibilità di combatterle gli venisse offerta spontaneamente alla testa degli eserciti romani stavano infatti di solito come magistrati supremi gli esponenti delle grandi famiglie aristocratiche che erano condizionati dalle esigenze del prestigio personale o gentilizio erano quindi preoccupati della durata annuale dei loro comandi allo scadere dei quali sarebbero tornati privati cittadini ed erano spesso tentati di concludere ad ogni costo le ostilità prima di essere rilevati da un successore che avrebbe potuto prendere per sé il merito della vittoria questa dimensione annuale della guerra non era del resto che uno degli aspetti di una concezione arcaica e superata attività necessariamente stagionale compresa tra i mesi di marzo e di ottobre la guerra si sovrapponeva ad altre attività della vita si sovrapponeva per esempio al lavoro dei campi e ogni suo prolungamento riusciva per questo sgradito anche ai contadini soldati erano soldati di leva reclutati al bisogno ansiosi di concludere le ostilità per tornare al quotidiano lavoro non è che i romani fossero i minutemen delle colonie inglesi d'america che abbandonavano Washington per andare a farsi i loro affari però in fondo un pochino ci somigliavano anche loro quindi non avevano molta pazienza e spesso si mostravano insofferenti verso le manovre dilatorie dei loro comandanti anche quando erano dirette a ridurre le perdite l'interesse a chiudere la guerra al più presto possibile era comune ai soldati come ai loro generali e il mezzo più semplice e diretto per ottenere questo risultato era la grande battaglia di annientamento che quindi i romani perseguivano per conto loro gli aristocratici romani parevano poi pensare che la fides un termine che indica in latino il corretto e leale comportamento su cui essi fondavano abitualmente ogni aspetto dei loro rapporti dovesse essere serbata con rigore anche in guerra quando almeno si combatteva con un justus hostis cioè contro un nemico simile a loro alieni a condurre la guerra con stratagemmi con insidie con inganni ritenevano che la vittoria non dovesse essere rubata ma dovesse essere conquistata faccia a faccia in una sorta di scontro in campo aperto pur limitato nelle sue applicazioni da restrizioni corretto da sofismi l'atteggiamento dei romani era però sostanzialmente sincero ed era il frutto di un'etica di un'etica ancestrale di una base veramente cavaleresca basti pensare che all'essico latino manca il termine che serve a indicare lo stratagemma agli inizi almeno delle ostilità quindi i comandanti romani non potevano che essere le vittime predestinate della metis di Annibale della sua astuzia la loro concezione arcaica e utopistica della guerra li rendeva delle vittime ideali incapaci non soltanto di intuire i meccanismi della mente di Annibale e di guardarsene ma forse persino di immaginare un simile modo di combattere da parte sua potevano immaginare un modo di combattere di questo tipo da parte per esempio dei Celti era chiaro che nelle foreste della Piana del Po bisognava stare attenti alle imboscate e che i Galli a volte utilizzavano questo mezzo ma da parte di un generale di una grande città-stato come Cartagine aristocratico come loro non si aspettavano un comportamento di questo genere Annibale dal canto suo ricorse all'espediente e all'astuzia per due motivi in primo luogo come una cautela aggiuntiva preziosa per ridurre perdite e rischi nelle battaglie campali in secondo luogo come variante variante tattica e strategica insieme con cui mettere alle strette il nemico quando il nemico provato da una serie di sconfitte cominciò ad evitarlo restava comunque indispensabile invadere l'Italia al di là del indiscutibile omaggio che Annibale rende al suo alter ego divino cioè ad Eracle che lo aveva preceduto su quella via alcuni percorsi nell'attuale Provenza portano il nome di Eracleia o Dos cioè di strada di Ercole Annibale sceglie l'itinerario attraverso le Alpi perché costretto dalle circostanze costretto soprattutto direi dall'unica debolezza dell'apparato militare punico al quale non sia riuscito a mettere rimedio e cioè la debolezza della flotta cartaginese se avesse qualcuno ha detto perché non ha imbarcato le sue truppe non le ha portate in Italia intercettare una flotta in età antica non era mai semplice non c'era radar non c'era sonar non c'erano tutti gli strumenti di avvistamento ottici o addirittura elettronici che esistono oggi e quindi teoricamente era possibile attraversare facendo un ponte con le baleari il mare toccare la Sardegna e forse addirittura sbarcare le truppe in Italia però se le navi su cui Annibale aveva imbarcato le sue truppe fossero state intercettate da una flotta romana da guerra molto più potente di qualunque flotta egli potesse disporre Annibale sarebbe andato a fondo con i suoi uomini prima ancora di arrivare in Italia quindi la scelta della via di terra era una scelta in un certo senso obbligata una scelta che concedeva almeno un margine di sicurezza la scelta dei valichi interni piuttosto che dei valichi più bassi delle alpi marittime fu dettata probabilmente dalla speranza di reclutare uomini al passaggio speranza che andò invece delusa e dal timore di terminare invece che nel territorio gallico nel territorio dei Liguri molto meno sicuri di quei celti che avevano invocato la sua presenza in Italia il disegno strategico che Annibale aveva concepito avrebbe attenuato la necessità di avere rifornimenti e rinforzi via mare nella prima fase del conflitto che tuttavia sarebbe stata decisiva non avrebbero contato se non le truppe che Annibale avrebbe portato con sé dalla Spagna le sole in grado di ottenere i risultati necessari ma anche in seguito a ben vedere sarebbe stato lo stesso il piano Annibalico si fondava su un duplice presupposto militare e politico distruggere tutti gli eserciti che Roma gli avrebbe opposto via via lungo il percorso e spezzare la compattezza della federazione italica il risponso sull'esito della guerra per Annibale sarebbe venuto entro un tempo relativamente breve o con il collasso della potenza romana o con l'inevitabile anche se forse lentissima vittoria del nemico se le previsioni fatte a tavolino si fossero rivelate esatte il suo esercito non avrebbe avuto bisogno in fondo veramente di rinforzi nemmeno in futuro perché ad alimentarlo sarebbero accorsi in massa gli stessi alleati di Roma e anche la supremazia navale che Roma aveva conquistato durante la prima guerra punica si sarebbe disciolta e le altre forze dello stato cartaginese sarebbero state libere di muovere verso l'Italia per terra e per mare con il compito però in fondo soltanto di eliminare delle sacche di resistenza di completare la vittoria se il presupposto si fosse rimostrato ingannevole Annibale e il suo esercito sarebbero stati condannati a perire sul suolo dell'Italia o comunque si sarebbe tornati ad una guerra di inauguramento che non concedeva alcuna possibilità di vittoria dopo aver provveduto alla sicurezza della Spagna che affidò al fratello Asdrubale e dell'Africa Annibale partì fulmineamente dalle sue basi era la primavera dell'anno 218 la sua mossa del tutto imprevista vanificò rese nullo il piano strategico dei romani i romani si illudevano di venire ad affrontare lui in Ispagna meridionale e contemporaneamente con una gigantesca tenaglia di invadere il territorio africano ritardato da una rivolta di Galli nella Cisalpina una rivolta al cui scoppio potrebbero non essere stati estranei gli agenti punici che operavano sicuramente nella regione Publio Cornelio Scipione imbarcò le sue forze per Marsiglia cioè cercò di raggiungerlo rapidamente via mare ma non arrivò ugualmente in tempo per intercettarlo al guado del Rodano Annibale infatti non solo aveva già superato i Pirenei ma aveva avarcato il fiume vincendo l'opposizione di una popolazione di origine di una gente di origine celtica i Volce probabilmente sobillati da Marsiglia Marsiglia era ricordiamolo alleata di Roma e aveva Annibale dovuto risolvere persino aveva avuto il tempo di risolvere persino un piccolo problema posto dagli elefanti prontissimi di solito ad ubbidire ai loro cornac ai loro conducenti nella circostanza gli animali si erano rifiutati di scendere nelle acque del Rodano si riuscì a traghettarli ricorrendo ad un espediente facendoli precedere da due femmine dal cui estro furono attratti li si spinse su un terrapieno artificiale che si protendeva fin verso il centro del fiume e di qui su due pontoni coperti d'erba e terriccio così che non si distinguessero rispetto alla superficie solida alla quale erano attaccati a questo punto recise le funi di ormeggio le zattere su cui salivano a gruppi gli elefanti vennero trainate sino alla riva opposta ripetuta più volte la manovra permise di traghettare le belve 27 animali in tutto Scipione dunque arrivò in ritardo gli rimase solo la consolazione di una scaramuccia vittoriosa con la cavalleria numidica lasciata di retroguardia e la presunzione del tutto immotivata di avere costretto Annibale a scappare Annibale evitò la battaglia evitò la battaglia avrebbe potuto annientare l'esercito di Publio Scipione evitò la battaglia perché il passaggio delle Alpi a stagione ormai inoltrata era troppo importante non era semplicemente la battaglia era la cura dei feriti era il problema del tempo che stringeva era l'incalzare di una situazione guidato da alcuni galli probabilmente boi che erano venuti a raggiungerlo in Ispagna era lo abbiamo visto anche un attimo fa da tempo in contatto con le genti della Cisalpina Annibale prese la via delle Alpi che passò probabilmente in ottobre forse in corrispondenza del piccolo Moncenisio al col de Clapier o al colle di Savin Coche un altro valico indiziato è quello della traversette presso il Bonviso ma quasi tutti i valichi sono stati diciamo così sospettati di aver visto passare gli elefanti di Annibale le difficoltà da superare furono molte ai ripetuti attacchi degli indigeni si aggiunsero le insidie della natura in particolare la caduta della prima neve che rese insidiosa la marcia aumentando le perdite di molto dopo stenti e fatiche di ogni sorta Annibale giunse finalmente in pianura quasi fossero gelosi della sua audacia il clima e la natura avevano vinto per i romani la prima battaglia ai suoi ordini non restavano più che 20.000 fanti e 6.000 cavalieri in tutto il seguito alla prossima puntata di nuovo alle 8 della sera su Radio 2 con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera stiamo finalmente entrando nel vivo Annibale ha passato le Alpi è sceso in Italia e si appresta ad affrontare i romani all'ingresso di Annibale nella pianura padana i romani ebbero l'occasione di chiudere la guerra con un solo colpo risolutivo ma la persero se nel momento in cui scese nella piana del Po l'esercito punico stremato affaticato distrutto dalle fatiche ridotto all'osso dalle perdite avesse trovato ad attenderlo due legioni in assetto di guerra non avrebbe probabilmente avuto scampo trovò invece solo l'opposizione della tribù dei Taurini di cui distrusse la capitale Taurasia erano troppo deboli per opporsi e superato questo ostacolo in fondo abbastanza facile ebbe il tempo di riprendersi prima di incontrare i romani quanto a Scipione dopo avere perso il contatto con il nemico egli aveva lasciato le sue truppe al fratello neo inviando l'inispagna a combattere ed era tornato via mare a Pisa assumendo il comando delle due legioni accampate a sud del Po il proposito era di intercettare il nemico prima che questi potesse unire le sue forze a quelle dei galli insubri nella zona di Milano anche nella zona attuale di Milano anche l'altro console Sempronio Longo rinunciando a passare in Africa stava accorrendo a tappe forzate verso il settentrione raccogliendo al passaggio contingenti di ausiliari che le tribù galliche intimorite avevano ritenuto prudente comunque inviargli il console varcò il Po forse non lontano da Piacenza e procedendo verso occidente poco dopo superò anche il Ticino in una zona presso un centro che Tito Livio chiama Victumule forse non lontano dall'attuale Lomello i due eserciti nemici vennero finalmente in contatto il giorno dopo si erano accampati per la notte uscirono i due comandanti alla testa delle rispettive cavallerie per esplorare il terreno e per saggiare le intenzioni dell'avversario Scipione e Dannibale incontrandosi finirono però con affrontarsi immediatamente in battaglia non una grande battaglia uno scontro di cavalieri che però fu subito indicativo delle difficoltà che Roma avrebbe avuto Scipione inviò all'avanguardia i cavalieri gallici erano tra i migliori che avesse accompagnati da un reparto di velites di fanti leggeri seguendolo poi con le cavallerie romana ed alleata schierate a battaglia Annibale lo fronteggiò con la cavalleria pesante al centro e con i numidi disposti su entrambe le ali l'attacco dei cartaginesi costrinse i fanti leggeri a ritirarsi prima ancora di aver potuto scagliare i loro giavellotti furono i cavalieri gallici di Scipione per paradosso che resistettero più a lungo fino a quando i numidi dopo aver aggirato il nemico sui fianchi e aver annientato le fanterie leggere non li assalirono alle spalle decimate le forze di Scipione fuggirono e lo stesso console ferito venne salvato pare solo dall'audacia del figlio il futuro Scipione africano il vincitore di Annibale era un predestinato e benché fosse giovanissimo lo soccorse fu lui a soccorrerlo alla testa di una turma di un'unità di cavalieri portandolo in salvo mentre Scipione battuto e ferito ripiegava verso la colonia di Piacenza dove avrebbe potuto resistere tutti i galli insorsero prima gli insubri che unirono le loro forze a quelle di Annibale poi altre genti compresi i voi a Roma rimasero sostanzialmente fedeli soltanto i cenomani nella zona dell'attuale Brescia il tradimento serpeggiava anche tra gli ausiliari di Scipione che una notte che avevano ben combattuto ma che una notte disertarono in massa dopo aver seminato la strage tra i legionari immersi nel sonno e che si presentarono al campo dei cartaginesi levando alte come un lasciapassare le teste delle loro vittime a risollevare le sorti dei romani in difficoltà sopraggiunse l'altro console il quale con il collega ferito sotto la tenda assunse il comando di tutti e due gli eserciti degli eserciti riuniti e disponendo di forze proporzionate decise di venire a battaglia intenzionato a vendicare lo smacco nel precedente scontro e a porre un freno alla rivolta dei Galli per vincere Sempronio Lungo contava sul disagio di africani e spagnoli ancora provati dalla fatica del tragitto e non avessi ai rigori del clima Annibale avrebbe rovesciato contro di lui questa presunzione anche Annibale voleva lo scontro e cogliendo immediatamente la volontà del suo avversario lo preparò accuratamente profittando di una scaramuccia tra i suoi cavalieri inviati a punire una tribù gallica tuttora fedele a Roma e i legionari inviati in soccorso rifiutò per quel giorno la battaglia che il nemico gli aveva offerto ma si preparò per il successivo giorno riconosciuto con cura il terreno nel corso della notte appostò lungo un vallone posto tra il campo di battaglia e il corso della trebbia il fratello Magone con mille fanti e altrettanti cavalieri questo già durante la notte alla fine della sera sul fare del giorno successivo inviò poi la cavalleria numidica al di là del fiume a stuzzicare il nemico con il compito di provocarlo e di indurlo a battaglia nel frattempo preparava i suoi uomini ristorandoli con un pasto caldo facendoli riscaldare al fuoco dei bivacchi e ungendoli con olio per proteggerli dai rigori del clima Sempronio come un toro di fronte alla muletta smanioso di combattere reagì alla provocazione non solo inviò contro i numidi i suoi cavalieri prima e poi la fanteria leggera ma addirittura mentre i nemici raggiunto lo scopo ripiegavano rapidamente avanzò lui stesso con le legioni e con gli alleati e dimenticandosi i suoi programmi passò a guado la trebbia gonfia e gelida disposte come al solito su tre linee le intirizzite fanterie romane furono prima scoperte sulle ali dove i loro cavalieri ebbero rapidamente la peggio e vennero ricacciati verso il fiume poi furono aggirate e infine premuti di fronte dagli elefanti presi di fianco dai fanti leggeri punnici e dai numidi che si erano riorganizzati e poi assaliti da tergo dal contingente di magone uscito dall'agguato i legionari che occupavano i lati dello schieramento romano furono schiacciati dal numero e furono respinti in disordine verso la trebbia dove vennero praticamente annientati dagli elefanti e dalla cavalleria nemica il centro riuscì ad aprirsi un varco spezzando le linee puniche Sempronio con diecimila dei suoi uomini pote uscire dalla sacca ma le perdite romani furono ugualmente molto gravi quindicimila uomini almeno tra morti e prigionieri le perdite cartaginesi che colpirono soprattutto gli alleati gallici furono esigue ma molti uomini molti cavalli e tutti gli elefanti tranne uno perirono nella tempesta di neve che seguì la battaglia al gruppo dei superstiti romani si era unito frattanto l'altro console tuttora grave egli era rimasto lontano dalla battaglia e si riunì soltanto dopo di questa ai superstiti il verdetto della battaglia era decisivo la Cisalpina in rivolta era perduta per Roma quella appena conclusa era stata per le armi romane una stagione che definire ingrata è dir poco Publio Scipione era ferito sotto la tenda durante la battaglia e il senato romano decise di prorogargli la carica inviandolo come proconsole in Ispagna ad affiancare il fratello consoli furono eletti in quell'anno siamo nel 217 Neoserviglio Gemino e per la seconda volta Caio Flaminio Nepote il capo della fazione contadina da questo momento gli esponenti della plebe rurale assunsero saldamente le redini di una guerra non avevano voluto quella guerra ma la condussero con un senso del dovere con uno spirito di sacrificio davvero straordinario la necessità era quella adesso di difendere l'Italia centrale perché era chiaro che Annibale avrebbe continuato la sua marcia i romani pensavano verso Roma i progetti di Annibale erano leggermente diversi comunque i romani disposero non alterarono il loro consueto meccanismo militare reclutarono al solito le truppe dell'anno le misero a disposizione con i superstiti dell'anno precedente dei due consoli e schierarono due eserciti lungo le due possibili direttrici che erano tra l'altro collegate da una strada c'erano due grandi strade la via Flaminia e la via della valle del Marecchia che collegava direttamente Rimini a Riminum l'antica Riminum al bordo meridionale della Padania dove si appostò Serviglio e Arezzo nel cuore stesso dell'Etruria dove invece pose la sua base Caio Flaminio il cartaginese abbandonò la Cisalpina forse solo ai primi di maggio alla fine del disgelo puntando al medio corso dell'Arno incappò però nella zona di Acquitrini posta sotto Fiesole che i punici non conoscevano e che furono costretti a traversare con gran pena procedendo con l'acqua alla vita le perdite umane furono minime ma molto maggiori furono le perdite in cavalli e in salmerie uno dei prezzi più alti lo pagò forse proprio Annibale il freddo dei giorni precedenti gli stenti del viaggio svilupparono in lui un'oftalmia purulenta a causa della quale perdette la vista all'occhio sinistro il tratto finale del guado lo dovette compiere sul dorso dell'ultimo elefante rimasto e cioè il fedele Surus lo attendeva ad Arezzo il consule Flaminio pur provocato a battaglia da Annibale Flaminio non non accettò Annibale prese a devastare senza pietà i ricchi territori d'Etruria ma inferiore di forze Flaminio si mostrò prudente non accettò lo scontro ma in attesa che Serviglio che aveva fatto chiamare lo raggiungesse cominciò a tallonare il nemico anche per evitare che il collega sopraggiungendo da Rimini incapasse nel nemico e ne fosse annientato disperando di poter indurre Flaminio a combattere Annibale scelse l'aguato cambiò repentinamente direzione aveva seguito sostanzialmente la direzione della Val di Chiana e piegò ad oriente verso le prime propagine dell'Apennino giunto in prossimità del Trasimeno tenendo i monti di Cortona sulla sinistra scomparve all'improvviso attraverso una strettoia che porta al lago era riuscito a seminare Flaminio probabilmente sospendendo all'improvviso i saccheggi il fumo degli incendi punteggiava la sua marcia verso sud e il console era in ritardo rispetto a lui di alcune ore Flaminio dunque si accampò per la notte fuori dal passo mentre Annibale che era penetrato nell'attuale conca di Tuoro una sorta di anfiteatro naturale sulla costa settentrionale del lago stava già disponendo i suoi uomini per l'imboscata al centro come esca sulle colline che salgono verso che formano il dietro dei monti di Cortona in fondo pose il suo accampamento visibile perché in posizione elevata e tutto attorno ad esso la fanteria pesante Iberi e Libi poi lungo il circuito dei Colli sino al passo da cui era entrato schierò via via i Baleari le altre fanterie leggere i Celti e a chiudere la trappola le Cavallerie la riuscita del piano fu aiutata da due fattori intanto dalla natura che la mattina successiva come capita spesso nel mese di giugno velò lasciando invece libere le alture il fondo valle con una nebbia fittissima e ad un tempo fu aiutato dalla secondo fattore dalla particolare mentalità del romano che la mattina dopo sul far dell'alba si addentrò oltre il passo inesplorato senza avere fatto alcuna ricognizione non si aspettava in boscata quando fu sicuro che la maggior parte dell'esercito nemico era entrata nella sacca Annibale diede ai suoi il segnale di attaccare tutti insieme prima ancora di aver visto il nemico le sventurate truppe romane seppero dal clamore improvviso di essere circondate con il lago alle spalle sorpresi in ordine di marcia inferiori di numero compresero subito che la battaglia era perduta prima ancora di cominciare mentre cercavano di aprirsi nella stretta pianura a mezzaluna le cavallerie nemiche attaccarono tagliandola la coda della colonna mentre il resto delle forze puniche calò dalle alture sui legionari col favore della posizione i romani si batterono bene nonostante tutto e da valoroso si comportò Flaminio che cadde infine era una sorta di nemesi sotto la lancia di un capo degli insubri di nome Ducario Ducario votò ai mani dei suoi concittadini uccisi l'anima del console dopo la battaglia Annibale volle onorarlo e ne fece cercare il corpo che tuttavia forse perché nudo e decapitato non potè essere rinvenuto in alcun modo infine respinti verso il lago gli ultimi romani in parte annegarono trascinati a fondo dal peso delle corazze in parte furono massacrati dalla cavalleria nemica mentre tornavano verso la riva la cavalleria nemica che spinse i cavalli ad inseguirli nelle acque basse le perdite furono forse minori di quelle subite alla trebbia ma ad esse si aggiunsero poco dopo tra morti e prigionieri altri 4.000 uomini i cavalieri di Serviglio mandati a raggiungere il collega vennero intercettati e distrutti da un reparto guidato da maharbale in alcune fosse nella piana di tuoro si sono identificati gli ustrina i formi nei quali Annibale preoccupato di evitare l'accusa di empietà fece bruciare le spoglie dei caduti per ringraziarsi gli italici egli ordinò che gli alleati di Roma tutti indistintamente caduti in sua mano fossero rilasciati a risentirci alla prossima puntata di nuovo su radio 2 alle 8 della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera seguendo la marcia di Annibale in Italia siamo arrivati all'indomani della battaglia del Trasimeno di questo disastro il pretore urbano dà un annuncio alla cittadinanza sbigottita con drammatica semplicità pugna magna victi sumus siamo stati sconfitti in una grande battaglia malgrado l'ennesima disfatta Roma non è ancora né sconfitta né fiaccata c'è è vero un principio di fronda all'interno dell'Etruria ma Annibale non ottiene risultati importanti nessuna città gli apre la porta non la piccola Sisi non la potente Perugia quando la puntata di un reparto punico si spinge verso la colonia latina di Spoleto e viene respinta con decisione Annibale decide allora di dirigersi verso il meridione d'Italia non però passando direttamente a sud per non impigliarsi nella fitta rete di colonie che cingono la capitale ma tagliando prima in direzione di Levante per seguire poi la costa Adriatica Annibale piega dunque inizialmente verso l'Umbria e verso il Piceno durante questa fase della marcia ordina come al solito di risparmiare gli alleati italici di Roma e di non toccare le loro terre abbandona invece al saccheggio le aree popolate di cittadini romani di più in questa circostanza Annibale dà un ordine un ordine che a noi non può non parere spietato ordina di uccidere di mettere a morte senza eccezione tutti quelli tra i cives tra i cittadini atti alle armi che si incontrino durante la marcia l'ordine per quanto terribile non è privo di spiegazioni non è immotivato la striscia di territorio nelle mani di cittadini di coloni latini o di alleati particolarmente fedeli a Roma che si stende in diagonale tra i due mari della penisola è una barriera che separa le etnie e le culture più ostili a Roma stessa comunque i popoli non ancora integrati all'interno della cittadinanza e dello stato di Roma i galli a nord le genti appenniniche e soprattutto i sanniti a sud è una barriera che occorre indebolire occorre indebolire ad ogni costo per mettere nuovamente in contatto come già in passato la realtà gallica e la realtà sannitica nemiche di Roma e per facilitare il passaggio a chiunque gallo o cartaginese che sia voglia seguire le tracce dello stesso Annibale i galli non si muoveranno mai ci proverà a superare questo ostacolo suo fratello a sdrubale nel 207 ma proprio contro questa barriera evidentemente non indebolita a sufficienza lascerà al metauro l'esercito e la vita comunque sia dopo dieci giorni nel luglio del 217 presumibilmente Annibale sbocca sulla costa adriatica dove fa riposare uomini e cavalli poi si dirige a sud raggiungendo infine la Puglia a Roma non di meno regna un grave sconcerto si giunge così alla decisione non più presa da molti decenni di affidarsi ad un dittatore il dittatore è un magistrato unico che somma in sé un potere superiore a quello dei due consoli ma resta in carica per un periodo massimo di sei mesi avrebbe dovuto essere nominato dal console ma il console superstite era lontano ed era tagliato fuori dalla capitale e quindi fu eletto dai comizi fu eletto quinto Fabio Massimo soprannominato verrucoso per una peculiarità fisica aveva un porro sul labbro detto anche ovicula almeno da bambino la pecorella per la mansuetudine dei modi mansuetudine io credo apparente assai più che reale Fabio Massimo il futuro temporeggiatore era un gran patriota ed era un uomo dal carattere d'acciaio io lo immagino piccolo con la faccia da contadino e durissimo al di sotto di una superficie apparentemente tollerante Fabio era l'esponente di spicco della più antica un esponente di spicco della più antica nobiltà senatoria e rese immediatamente chiare le sue direttive fece votare un tempio amens la mente una divinità providenziale che ammonisse simbolicamente i romani circa la necessità di una prudenza del tutto nuova trovandosi loro ad affrontare le insidie di un uomo abilissimo e conscio del pericolo estremo è l'unico ad averlo capito in questo momento che rappresentavano le battaglie campali contro Annibale impostò una nuova strategia una strategia di lunga durata una strategia di logoramento che puntava a logorare gradualmente le forze del cartaginese all'interno del senato continuavano però le rivalità fra clan e fra fassioni rivalità aggravate nella circostanza dalle diverse linee dai contrasti che esistevano sulla strategia da seguire a Fabio Massimo venne così affiancato un magister equitum un comandante dei cavalieri che era anche un suo avversario politico e cioè Marco Minuccio Ruffo Marco Minuccio Ruffo che sosteneva per di più la necessità di portare un colpo definitivo e mortale contro l'invasore l'antagonismo tra i due comandanti impedì ai romani di ottenere qualunque risultato anche quando Annibale addentratosi imprudentemente all'interno dell'agro falerno la ricca valle a nord del volturno vi venne bloccato dai nemici che avevano chiuso tutte le uscite riuscì a liberarsi con uno stratagemma celebre fece scagliare nottetempo verso uno dei punti presidiati dai romani che dominavano nel passaggio duemila buoi a cui aveva fatto porre tra le corna delle fascine cui diede fuoco e profittò della correre in direzione di questi fuochi di una parte dei nemici che credevano ad un attacco per forzare il passo ed uscirne con tutte le sue prede addirittura poi screditò con un colpo da maestro il suo avversario risparmiandone secondo la tradizione un territorio che si trovava proprio nell'agro volturno e dando così ad intendere o cercando di lasciare intendere che esisteva una collusione tra lui e Fabio Fabio che dal canto suo si ostinava a non attaccarlo mentre Annibale tornava in Puglia lo scadere della dittatura diede nuova forza a quelli che volevano una battaglia risolutiva che ora oltre a una buona parte del senato e a molti dei soldati desideravano anche gli alleati di cittadini del sud stanchi di vedere l'esercito nemico scorrazzare sulle loro terre furono eletti consoli per il 216 l'uomo nuovo Terenzio Varrone e il patrizio Lucio Emilio Paolo a disposizione di Terenzio Varrone il figlio del Beccaio un nome che allude alle sue umili origini ma che risulta sinistramente profetico e del suo collega Emilio Paolo Roma pone il più imponente esercito che si sia mai visto in Italia alle forze già in armi che sorvegliano Annibale si aggiungono altre quattro legioni di cittadini ed una forza pari di alleati per un totale di 80.000 fanti e 6.000 cavalieri ad attendere questa immensa armata Annibale si sposta nella piana dell'Ofanto aperta e adatta all'impiego delle cavallerie per conto suo egli dispone di 40.000 fanti circa e 10.000 cavalieri il 2 agosto del 216 Terenzio Varrone che quel giorno è comandante in capo scende in campo per la battaglia decisiva sotto il monte di Canne pone nella formazione tutti i suoi cavalieri che allinea come al solito sui fianchi delle legioni e schiera 65.000 o 70.000 dei suoi fanti contro una formazione nemica che per la circostanza è ancora più massiccia del solito Annibale schiera il suo centro galli e spagnoli ne fanno parte in una formazione a crescente lunare con la convessità orientata verso il nemico alla base di questo singolare cuneo pone dai due lati divisi in corpi di pari consistenza e disposti in profondità i veterani libici altri fanti pesanti alle ali sono sulla destra sul lato aperto i cavalieri numidici che si pongono di fronte alle cavallerie alleate di Roma sulla sinistra lungo il corso del fiume del fiume Ofanto galli libri ed africani opposti alle scarsissime cavallerie di cittadini romani da questa parte l'esito è rapido e scontato mentre i numidi tengono in rispetto con le loro cariche e le loro improvvise ritirate le forze che hanno di fronte le cavallerie pesanti puniche sfondano sulla sinistra il fronte delle scarse cavallerie romane e passano di fianco alle fanterie già in lotta lungo lungo il corso dell'Ofanto fra tanto quello che Annibale ha previsto sta puntualmente verificandosi respinto dalla pressione dei legionari il cuneo composto di galli e spagnoli ripiega gradualmente fino a tendersi all'indietro e a mostrare al nemico non più la conversità ma il cavo della falce la formazione di queste truppe tuttavia non si spezza non si spezza perché ammassatisi istintivamente sul centro i legionari hanno adesso sui lati intatti e non ancora impegnati i due corpi di fanteria libica che con una conversione perfetta ad un ordine epidoru e paspida giratevi dalla parte della lancia giratevi dalla parte dello scudo li si volgono e li attaccano sui fianchi scoperti chiudendoli in una morsa e bloccando nello slancio chiude il cerchio la cavalleria dopo essere passata alle spalle dei fanti in lotta e aver messo in fuga sul lato opposto i latini e gli altri alleati che si disperdono nella piana inseguiti dai numidi i cavalieri pesanti punici piombano alle spalle degli sventurati romani completando nell'accerchiamento e comincia il massacro nella più spaventosa disfatta della storia di roma cade il console emilio paolo cade il console dell'anno precedente serviglio gemino cade l'ex maestro dei cavalieri minuccio rufo con loro periscono entrambi i questori 29 tribuni militari cioè gran parte dell'ufficialità lesionaria 80 senatori e un numero enorme di cavalieri sul campo rimangono anche secondo le stime più prudenti di tito livio 47.500 fanti e 2700 cavalieri di roma mentre 19.000 circa sono quelli che vengono catturati dai punici per questa strepitosa vittoria annibale perde poco meno di 6.000 uomini ancora una volta per la maggior parte celti annibale con questa vittoria ha concluso la prima fase della sua campagna la fase che al momento di partire reputava decisiva ha percorso l'italia e l'ha devastata in lungo e in largo ha riportato quattro vittorie tutte strepitose ma l'ultima addirittura sbalorditiva al punto che la tattica di canne è considerata la più perfetta manovra di accerchiamento mai attuata e che ancora oggi viene insegnata in tutte le accademie militari ha messo fuori combattimento tra morti e prigionieri e contando anche coloro che in questo momento disertano oltre centomila nemici a canne sembra prodursi ancora una volta proprio quello che Annibale ha previsto nel momento di partire per l'Italia di fronte all'entità in mane del disastro ricorderò che sul campo di Cheronea una delle più importanti e decisive battaglie per la storia della Grecia erano caduti forse tremila Grecia tra Ateniesi e Tebani qui sono 52 mila romani che sono rimasti sul campo tra romani e alleati di fronte dicevo all'entità in mane del disastro e peggio ancora io credo nel momento nella circostanza alla sensazione di impotenza che destava un nemico il quale pareva inarrestabile gli alleati sembrano finalmente smarrirsi la federazione italica comincia a disintegrarsi a sfaldarsi molti tra i centri del sud aprono le porte prima naturalmente i più vicini salapia ecce erdonea arpi poi altri ancora come cosenza o petelia altri vengono occupati o abbandonati dalle popolazioni in preda al panico vengono dati alle fiamme come nuceria ed acerra come ha traduito subito capua che evidentemente era soffriva di rancori di rancori sotterranei ma piuttosto forti nei confronti di roma i suoi principali cittadini erano imparentati e alcuni di loro sedevano in senato ma capua è l'unica realtà di questo genere che passi dalla parte del cartaginese così passano al nemico pressoché al completo negli anni che seguono i greci d'italia e di sicilia siracusa taranto crotone turi metaponto eraclea disertano a telle calazia disertano gli irpini e gran parte degli apoli tradiscono tutti i sanniti ad eccezione dei pentri l'anno nero il 216 non è ancora finito mentre un altro esercito di rome ed un altro console lucio postumio albino designato a sostituire il morto emilio paolo si spinge nella cisalpina e perisce massacrato con le sue truppe dai boi nella cosiddetta silva litana sono altri 20-25 mila uomini che si aggiungono all'elenco delle perdite filippo quinto di macedonia un grande sovrano orientale stringe in funzione antiromana un trattato con Annibale pare l'inizio della fine non sarà così ne riparleremo alla prossima puntata di nuovo alle 8 della sera su radio 2 con Giovanni Prizzi e con Annibale buonasera torniamo con Annibale e ripartiamo da dove abbiamo lasciato proprio materialmente e cioè dal campo di Canne all'indomani della battaglia quando secondo il costume antico i cartaginesi vincitori si recano a raccogliere le spoglie dobbiamo pensare che le armi le corazze soprattutto quando non fossero danneggiate troppo gravemente erano preziose e non soltanto nell'antichità dopo ogni vittoria Annibale ordinò quindi di raccogliere l'armatura la panoplia dei caduti romani oltretutto pare spesso migliore di quella che portavano i suoi stessi uomini questo pellegrinaggio sul campo di battaglia consente di riscoprire tutto l'orrore del massacro di Canne basta ripercorrere a questo scopo una pagina suggestiva più di ogni altra di Tito Livio e quasi affidarsi alle sue parole per lo spazio forse di oltre un miglio si stendeva a perdita d'occhio intrisa di umori e di sangue rappreso una pianura coperta di morte morti tutti insieme tutti mescolati fanti e cavalieri l'uno accanto all'altro a migliaia così come gli aveva riuniti il caso durante la lotta o durante la fuga qua e là simile al relitto di un naufragio che spunti dalla sabbia la carcassa il cadavere di un cavallo ancora bardato di sella e di finimenti il campo di Canne deve aver avuto è una riflessione che mi viene fatta qui un aspetto del tutto particolare in una battaglia antica le perdite durante lo scontro vero e proprio non erano mai molto alte il massacro cominciava di solito quando una delle due schiere contrapposte che si affrontavano sul campo cedeva e si dava la fuga e quindi in genere i cadaveri formavano una piccola chiazza sul campo di battaglia ma formavano poi una scia una sorta di lunga traccia che si disperdeva verso l'orizzonte fin dove i vincitori si erano stancati di inseguire e di uccidere qui la singolarità del campo di Canne è che i vinti erano stati accerchiati e distrutti sul posto implacabilmente circondati i romani erano stati fino all'ultimo massacrati sul campo ed erano rimasti lì e dovevano formare una sorta di immensa e spaventosa chiazza sul terreno arso dell'estate l'orrore diviene quasi intollerabile se si pensa che sul campo che forse era stato visitato già durante la notte dagli animali da preda dobbiamo pensare che tutti gli eserciti erano seguiti come le navi sono seguiti dai pescecani i grandi piroscafi sono seguiti dai pescecani che si cibano degli avanzi gli eserciti erano seguiti da animali da preda per esempio branchi di cani selvatici su questo campo visitato già dagli animali da preda durante la notte e su cui al far del giorno dovevano cominciare a volteggiare gli uccelli rapaci non tutti erano morti di quando in quando dai muchi di cadaveri emergevano Livio ce lo racconta dei feriti che il dolore delle piaghe inasprito dal freddo notturno aveva ridestato e richiamato alla vita figure allucinate che somigliavano a spettri coperti di sangue e che venivano implacabilmente abbattute dai vincitori che traversavano il campo di battaglia ve ne erano altri che vittime dei fendenti numidici ne abbiamo già parlato si trascinavano carponi con i tendini dei garretti e delle cosce recisi e porgendo ai nemici la nuca o la gola chiedevano supplicando il colpo di grazia sul campo erano scritti mille episodi di disperazione di eroismo addirittura di follia si ricorda che molti dei caduti sul campo di Little Bigorn i caduti del generale Caster o del colonnello Caster secondo altri si siano dati la morte per non cadere nelle mani dei pelli rosse vincitori ecco qui vi era chi per sottrarsi al nemico aveva scavato la terra e aveva immerso la testa nel suolo coprendosela fino a soffocare e vi era invece chi si era battuto fino all'ultimo con un coraggio disperato con un coraggio rabbioso tutti furono colpiti vincitori dalla vista di un numida che fu tratto ancora vivo da sotto il corpo di un cavaliere romano mortalmente ferito dall'avversario e ormai incapace di stringere un'arma il romano si era lanciato sul nemico ed era aspirato dilaniandone il viso coi denti la guerra è sempre orrore si dirà è paura non solo durante lo scontro ma spesso anche prima è morte non solo durante lo scontro ma spesso anche dopo sono senz'altro verità sono verità che gli antichi conoscevano molto bene entrambe ugualmente terrorizzante ugualmente capace di gelare gli animi era il rumore della battaglia o meglio i differenti rumori della battaglia quelli che precedevano e quelli che accompagnavano allo scontro fossero il selvaggio urlio collettivo dei barbari che venivano all'assalto fosse il fervore solenne e terribile doveva essere quasi come un canto di chiesa per certi versi del paian il canto di vittoria delle fanterie greche che era accompagnato soprattutto nel caso degli spartani dal gelido suono dei flauti che ritmavano il passo dell'esercito in marcia fosse il grido di guerra dei legionari che è stato paragonato nel termine scelto a definirlo al verso di un animale il barritus e il clangore parimenti inumano che le fanterie di Roma producevano battendo le armi contro le corazze erano terribili gli odori della battaglia rivoltanti fino all'angoscia non solo il fettore greve e dolciastro che ristagna sul campo dopo uno scontro ma il tanfo che si leva dagli opposti eserciti quando la paura ricopre le membra di sudore freddo e scioglie vescica e intestini o l'effluvio alieno di grasso e di calce di cui alcune genti barbariche i celti per esempio solevano cospargersi corpo e capelli la guerra antica non raggiungeva la spaventosa varietà dei mezzi moderni e quanto all'esito estremo risparmiava almeno la popolazione femminile ma la morte assumeva ugualmente sul campo molte forme molte forme capaci di atterrire ancora più sconcertanti e implacabili dovevano apparire quelle che si manifestavano dopo nell'impotenza di curare le ferite e le infezioni negli esiti anche molto posteriori alla battaglia si pensi per esempio che per la cancrena si conosceva un unico rimedio e cioè l'amputazione si pensi che i celti e pare tutte le popolazioni del nord Europa diagnosticavano la gravità di una lacerazione allo stomaco facendo bere al ferito un brodo di cipolle e se fiutando i labri dello squarcio ne sentivano l'odore lo affidavano poi sostanzialmente alla compassione degli dèi si pensi alla morte a quanto sconcertante doveva apparire la morte per tetano che a volte fulminava un ferito tra convulsioni atroci settimane dopo il rimarginarsi della piaga e doveva apparire agli ignari commilitoni l'esito di una percossa divina l'esito di un mortale colpo affibbiato portato da un dio non tutti va detto praticavano la guerra allo stesso modo per esempio la guerra dei greci sembra essere stata più umana e meno sconcia sul piano dell'oltraggio fisico quando volevano recare oltraggio al nemico ucciso facevano come come Achille cioè lo legavano dietro un carro e ne strafiavano il corpo a lungo concepiti come esercitazioni ludiche cioè come una sorta di tornei che finivano poi per esaurirsi nel controllo simbolico di uno spazio conteso e cioè del campo di battaglia un campo di battaglia che per di più era stato spesso scelto di comune accordo tra i due contendenti gli scontri dei greci erano di solito molto meno cruenti molto meno sanguinosi perché non prevedevano come inevitabile corollario come inevitabile prosiego della battaglia l'inseguimento e il massacro della parte sconfitta i greci privilegiavano per di più sembravano preferire per di più il ricorso in guerra ne abbiamo già accennato ad ogni forma di persuasione o di intelligenza intelligenza che fosse capace di ridurre la portata delle perdite umane che era pur sempre sgradevole quanto alla bella morte alla morte bella morte tra virgolette è un termine che viene impiegato in antico alla morte dignitosa la celebrazione che da Tirteo il poeta di Sparta il poeta Zoppo di Sparta in poi ne troviamo fatta tante volte dalla letteratura greca dobbiamo pensare che non si tratta solo di una retorica senza fondamento a causa del loro modo di combattere combattevano informazioni chiuse molto ravvicinate che esigeva strumenti particolari e poi forse anche perché si sentivano profondamente condizionati in guerra dall'atteggiamento di rispetto che nutrivano per l'uomo e per la dignità del suo corpo i greci impiegarono quasi sempre in battaglia armi adatte a colpire soprattutto di punta aste o picche che infliggevano di solito quindi ferite nette e pulite c'era l'eccezione ma il combattimento di spada presso gli antichi greci era molto raro per un greco uno spettacolo come quello del campo di canne doveva quindi essere intollerabile doveva essere un autentico shock penso agli autori greci che seguono Annibale in Italia e addirittura doveva essere sacralmente inammissibile così come doveva apparirgli incivile il costume di guerra delle genti in lotta tutte senza eccezioni i romani ma anche i cartaginesi e tutti coloro che combattevano all'interno del loro esercito a uomini che in quello stesso momento accusavano di barbarie Filippo V di Macedonia muovendo forse proprio dalla imitazione che Filippo V praticava dei metodi di guerra romani non doveva apparire certo meno primitivo e selvaggio il modo di procedere adottato in Italia da Annibale abbiamo una notizia shock cioè da una fonte quasi certamente greca nelle pagine dello storico greco per eccellenza e cioè di Polibio è filtrata l'immagine agghiacciante di uno tra gli uomini più vicini ad Annibale si chiama e forse non è un caso Annibale lui stesso e viene detto homonomacos colui che combatte da solo che combatte a singolar tenzone la singolar tenzone era la forma più cruenta di guerra che gli antichi concepissero il quale è un personaggio dalla crudeltà disumana basti ricordare che per risolvere i problemi di approvvigionamento dell'esercito cartaginese non trova di meglio che suggerire in tutta serietà al suo comandante di abituare le truppe a cibarsi di carne umana si tratta chiaramente di un'immagine simbolica forse di una metafora personalmente io sono arrivato a supporre che si tratti di una sorta di gemello nero una sorta di alter ego di mister Hyde rispetto ad Hannibal comunque sia dà l'impressione che a una parte almeno della cultura ellenica la ferocia dell'armata cartaginese paresse barbara e terribile e comunque del tutto aliena rispetto alla cultura greca molto diverso era il costume di guerra romano soprattutto il gladio la corta emicidiale spada di origine iberica apriva spesso ferite spaventose i corpi erano dice Tito Livio completamente straziati braccia recise con tutta la spalla teste troncate visceri che fuoriuscivano da squarci enormi proprio confrontandole a quelle inflitte dalle armi dei macedoni Floro un autore latino un altro autore latino usa un'espressione quasi poetica dice che ultra mortem patebant cioè erano labbra più larghe di quanto fosse sufficiente a dare alla morte quindi la violenza per i romani è tollerata non è tollerata la frode ma la violenza è tollerata anche ai danni delle popolazioni civili resta però il fatto che i romani pur più avvessi dei greci all'atrocità della guerra usano per l'esercito di Annibale con Terenzio Varrone che ne parla dopo la sconfitta la stessa immagine e questa volta riferita al comandante cartaginese Annibale è al suo campo ed è intento ad abituare i cartaginesi a nutrirsi di carne umana anche per i romani la ferocia portata in Italia dall'esercito di Annibale appariva evidentemente al di là di ogni misura ancora una volta alla prossima puntata alle 8 della sera su Radio 2 con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera eccoci qui di nuovo a parlare di Annibale all'indomani della vittoria di Can come all'inizio di questa nostra avventura ci siamo chiesti quali speranze di vittoria potesse nutrire il cartaginese avviandosi verso l'Italia così dovremo io credo chiederci oggi è una domanda che ritorna invariabilmente ogni volta che si parla di questo personaggio chiederci oggi perché subito dopo Can il cartaginese non abbia attaccato Roma secondo quanto raccontano le fonti all'indomani stesso della battaglia Marbale l'abilissimo comandante che aveva guidato sul campo di Can la cavalleria numidica gli suggerì di mandare avanti lui con i suoi uomini con queste avanguardie gli disse sarebbe stato sotto le mura di Roma prima ancora che vi giungesse la notizia del disastro in cinque giorni si vantò avrebbe apparecchiato cena al suo comandante in Campidoglio Annibale rifiutò e al rifiuto che non riusciva apparentemente a comprendere Marbale gli avrebbe risposto quasi con sprezzo che gli dèi non davano tutto a tutti in uguale misura vincere scis Annibale victoria utine scis sai vincere Annibale ma non sai sfruttare la vittoria qualcuno anche del mestiere benché io personalmente non lo ritenga un generale di grandissime doti cioè Sir Bernard Montgomery ha sostenuto che Marbale aveva ragione dopo la battaglia di Canne il comandante dei cavalieri cheppure si era molto distinto in passato in una serie di azioni anche di di grande rilievo scompare di colpo soppiantato sembra da Annone di Bomilcare che di Annibale era il nipote ne abbiamo accennato sorge il sospetto che l'aneddoto sia vero e che il cartaginese si sia dimostrato che Annibale si sia dimostrato nella circostanza piuttosto permaloso ed abbia esonerato dal comando uno dei suoi migliori ufficiali che aveva però la lingua troppo lunga forse era permaloso certo Annibale non era stupido la cavalleria numidica leggera e veloce avrebbe forse potuto sopravvanzare i messi che Varrone aveva inviato a Roma ma che cosa avrebbero potuto fare poche migliaia di cavalieri contro una città che aveva delle mura fortissime e anche se fossero riusciti a penetrarvi che possibilità avrebbe avuto una cavalleria leggere ed agile a suo agio solo nei grandi spazi se non quello di farsi annientare per esempio nei vicoli della suburra quanto ad assediare la città il grosso dell'esercito cartaginese non avrebbe potuto raggiungerla prima di due settimane la città non era del tutto in difesa e sulle mura avrebbe potuto schierare un gran numero di cittadini ad espugnare Sagunto Annibale aveva impiegato otto mesi e Roma aveva difese di gran lunga più formidabili per di più anche a potersi dotare di macchine da guerra e a non contare la presenza dei latini ancora fedeli Annibale non disponeva di una flotta senza la quale non avrebbe potuto in nessun modo bloccare una città che aveva un lato sul corso del Tevere e che poteva ricevere rifornimenti via mare per di più egli aveva nella circostanza altri progetti e dal suo punto di vista almeno aveva perfettamente ragione Annibale aveva fondato il suo piano di guerra su un duplice presupposto innanzitutto con Roma intendeva venire a patti fece quindi sapere al Senato non internecivum si biesse cum Romanis bellum che la sua guerra contro i Romani non era una guerra a morte era certamente sincero lo dimostra il fatto che nel trattato con Filippo V era esplicitamente prevista la sopravvivenza di Roma e addirittura era previsto un inserimento della città in una sorta di Commonwealth o forse dovremmo dire meglio di impero dai vincoli politici piuttosto elastici esteso sul Mediterraneo e governato dai vincitori i Romani però non vollero in alcun modo trattare ebbero paura forse erano di fronte ad un esercito composto di etnie barbariche dalla ferocia che doveva apparir loro spesso aliena abbiamo visto i loro costumi erano in presenza di un capo che non aveva esitato a stimolare questa ferocia perché era una delle armi più accuminate che avesse non volero credergli forse un uomo che aveva così spesso violato la Fides doveva apparire lontano dalla loro morale e dai loro costumi di guerra con Pirro avevano accettato di venire a patti con Annibale rifiutarono categoricamente di negoziare così non accettarono nemmeno di riscattare i prigionieri di Canne perché per essi una trattativa di questo genere era quasi obbligatoriamente il preludio a veri e propri negoziati di pace trattare il riscatto dei prigionieri avrebbe significato visto che erano molti di più i prigionieri romani nelle mani del cartaginese ammettere la loro inferiorità e prepararsi a discutere una tregua preferirono come misura d'emergenza liberare ed armare alcune migliaia di schiavi con il risultato che i prigionieri cannenzi furono venduti schiavi sui mercati del meridione italiota e finirono in gran parte nell'Oriente Greco un generale romano si sarebbe poi in seguito sforzato di riscattarli malgrado fra quelli che erano caduti quelli che erano rimasti prigionieri o avevano defezionato Roma avesse perduto forse un 20% dei suoi potenziali effettivi si sforzò di mobilitare ora un numero immenso di uomini tenendo costantemente sotto le armi per tutta la seconda fase della guerra da 20 a 25 legioni chiedendo ai soldati di rimanere al campo per parecchi anni e di rassegnarsi a stare anche molto lontani da Roma Roma perfezionò l'addestramento delle reclute ignorò nella concessione dei comandi criteri come la ricchezza il prestigio sociale o l'appartenenza alle grandi famiglie che avevano in passato spesso condizionato le elezioni al consolato e all'apertura dato il gran numero di teatri operativi ricorse sistematicamente alla proroga conformando anche per più anni di seguito il comando ai magistrati che avevano dato buona prova di sé mentre cercava di rinnovare l'insufficiente meccanismo militare che aveva avuto a sua disposizione fino a quel momento Roma però non mancò di emanare alcune norme severe si costituirono e si mandarono soprattutto in Sicilia alcuni reparti le legioni cosiddette cannensi che erano veri e propri corpi di punizione tenuti lontani con scorno dai teatri operativi e privati in pratica di ogni prerogativa civica a queste unità erano destinati i soldati che fossero sopravvissuti agli scontri con Annibale lo sforzo che Roma richiedeva a cittadini ed alleati era uno sforzo immenso ma sarebbe stato insufficiente e addirittura inutile se adesso non si fossero prestati con una tenace e una negazione davvero sublimi i contadini soldati dalla Repubblica e di loro capi il secondo presupposto quello per il quale il dissolversi degli eserciti di Roma avrebbe significato anche la caduta delle catene avrebbe significato anche la fine del gioco al quale erano sottoposti gli italici si rivelò in questo momento completamente fallace quello di Roma in effetti non era un gioco fuse tra loro da vincoli di amicizia di ospitalità e soprattutto di matrimonio e chiamate da tempo a far parte del senato molte grandi gentes molti grandi clan tenevano indissolubilmente legati a Roma i loro popoli non era naturalmente tutta l'Italia legata a Roma ma certo era la porzione più importante di essa era il mondo tirrenico mondo tirrenico che conosceva la polis la città-stato che fondava la sua economia sull'agricoltura sull'artigianato sul commercio questo mondo aveva scelto coscientemente attraverso i suoi capi che però ne avevano evidentemente un forte controllo la causa di Roma più che nello sterminato potenziale demografico più che nell'enorme quantitativo di uomini che alimentava gli eserciti di Roma il segreto della potenza della Repubblica andava cercato nella presenza e nell'opera del Senato io immagino 300 figure 300 figure solenni che in questo momento di spaventosa crisi siedono in permanenza nella Curia che hanno preso in mano l'intera situazione della città e sono originari di ogni parte dell'Italia tirrenica sono latini ed umbri sono campani e sabini sono volci ed etruschi e sono i veri pignora imperi sono i veri garanti del potere di Roma sono i tenacissimi lacerti le nervature che saldano insieme indissolubilmente una miriade di popoli e di città sono lacerti sono nervature che Annibale non riuscirà mai a recidere del tutto una parte della penisola era in rivolta questo è indiscutibile però questo non voleva dire molto dal mondo greco che aveva cambiato bandiera e aveva cambiato bandiera anche per una propria vocazione viva anche in occidente verso l'opportunismo politico Annibale non sperava molto non sperava molto sul piano delle risorse le città greche dell'Italia meridionale erano centri che avevano chiamato molto spesso degli aiuti dalla madre patria per difendersi dagli italici e da Roma e non avevano certo più soldati adesso di allora mentre molto più utile era senz'altro come valore come numero dei combattenti che potevano offrire il contributo delle popolazioni appenniniche ma neppure ai più potenti di essi neppure ai sanniti neppure ai bruzi neppure ai lucani si potevano imporre sforzi eccessivi primo perché erano molto provati e in secondo luogo perché un vincolo troppo stretto li avrebbe fatti dubitare di avere semplicemente cambiato padrone quindi si potevano chiedere dei rinforzi degli aiuti ma non se ne potevano impiegare fino in fondo tutte le truppe tutti questi popoli inoltre restavano disiecta membra cioè restavano entità inesorabilmente isolate che combattevano isolate neppure Roma che li controllava ormai da oltre un secolo era riuscita a fonderli in un corpo unico e questo risultato sarebbe stato per Annibale con pochissimo tempo a disposizione e per di più distratto dalle sempre crescenti angustie della guerra del tutto impossibile inoltre benché certo riuscisse a raccogliere forze notevoli Annibale non poteva comandarle tutte di persona non aveva il dono dell'ubiquità e come già abbiamo detto un esercito non poteva superare la consistenza di 50.000 uomini senza perdere completamente le sue capacità di manovra dunque quel medesimo carattere che lo aveva protetto nella prima fase della guerra impedendo ai romani di schiacciarlo con il semplice peso del numero gli avevano dovuto opporre una serie di armate adesso gli si ritorceva contro lo costringeva a frazionare le sue forze e a delegare almeno in parte il comando ad altri questa situazione rilanciò decisamente la strategia di logoramento patrocinata da Fabio Massimo che divenne immediatamente la migliore adesso si erano rassegnati le ripetute batoste li avevano convinti tutti i generali di Roma che non osarono più almeno in Italia sfidare Annibale a battaglia era una strategia che prevedeva di evitare a tutti i costi lo scontro con lui di logorarlo lentamente e di combatterlo dovunque non fosse presente questa strategia si rivelò vincente soprattutto perché mentre Annibale era in grado di sconfiggere qualunque generale romano arrivò vicino a sconfiggere lo stesso Scipione africano e quindi anche il migliore tutti gli altri comandanti punici e persino l'alleato greco Filippo V discendente di Alessandro Magno si mostrarono per lo più gravemente inferiori ai loro avversari ai generali di Roma le premesse erano premesse che avviavano il riflusso Annibale non era più in grado di controllare globalmente la guerra poteva certo intervenire nei settori maggiormente minacciati poteva colpire anche duramente ma l'intero l'intero assetto territoriale dell'Italia dell'Italia del Sud era adesso percorso da una serie di armate romane che gli diremmo gli consumavano gli erodevano il terreno sotto i piedi Annibale ormai cominciava ad essere sulla difensiva della seconda fase della guerra però parleremo nella prossima puntata ancora su Radio 2 alle 8 della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale buonasera siamo tornati ancora una volta al fianco di Annibale e siamo giunti ormai alla svolta della guerra malgrado le strepitose vittorie conseguite soprattutto l'ultima quella di Canne malgrado la defezione di una parte almeno degli alleati di Roma malgrado il raggiungimento di molti degli obiettivi che si era prefisso cominciando la sua spedizione Annibale aveva mancato proprio i soli risultati che più importavano non aveva potuto costringere Roma a trattare e aveva indebolito la compagine italica ma non l'aveva spezzata non l'aveva sgretolata e soprattutto non era riuscito a darle un centro alternativo in questo senso un fallimento era stata Capua che tanto amava e su cui aveva contato forse proprio per questo risultato Capua che però era ancora divisa al suo interno in quartieri distinti secondo le diverse componenti della sua popolazione e che si era rivelata quindi in pari al compito di fondere tra loro le componenti alternative a Roma Annibale avrebbe ancora potuto vincere avrebbe potuto vincere se Roma gli avesse offerto le sorti avesse tentato una volta ancora le sorti dello scontro risolutivo gli avesse offerto una seconda battaglia di canne e avesse impegnato in una sola grande battaglia sul campo forze imponenti questo comunque non avvenne e Annibale fu costretto sempre più frequentemente a ricorrere alle armi che gli restavano quelle armi che Livio biasima in lui a ricorrere alla perfidia nel senso latino del termine all'astuzia sottile capace ancora di fare scattare trappole mortali e alla crudelitas una crudeltà che il profilarsi della temuta guerra di logoramento rese sempre più aspra ed atroce non mancarono ad Annibale ulteriori successi fu sconfitto per esempio Tiberio Gracco vittima con i suoi volones con gli schiavi arruolati dopo canne di un suo luogotenente tra Abruzio e Lucania è caduto sul campo nello stesso anno il 212 presso Erdonea l'attuale Ordona il pretore Neo Fulvio Flacco perdette tutto il suo esercito in una battaglia che costò ai romani le perdite forse più alte di questa seconda fase della guerra ben 16.000 uova e che costò a Fulvio Flacco fratello di uno dei personaggi più influenti di Roma un processo processo per alto tradimento due anni dopo sotto le mura della stessa città fu vinto Fulvio Centumalo e nel corso del 208 perdettero la vita entrambi i consoli in carica Tito Quinzio Crispino e soprattutto Marco Claudio Marcello che voi tutti forse conoscete come la spada di Roma così come Fabio Massimo ne è lo scudo questo anziano comandante valorosissimo all'ultima delle sue molte magistrature cadde vittima con il collega di un agguato probabilmente della cavalleria numidica Annibale vinse altre volte ancora in Italia ma erano ormai scontri minori e non bastava più gli eserciti della Repubblica numerosissimi malgrado le perdite operavano con crescente successo mentre Annibale era lontano ne logoravano le forze ne espugnavano le basi lo spingevano gradualmente verso l'estremo meridione d'Italia cresceva frattanto la sprezza della guerra anche nei confronti dei soci italici di Roma chi intendeva passare al fianco di Annibale l'aveva in quel momento già fatto e l'amitezza quindi non pagava più il mutamento delle strategie e delle sorti del conflitto inoltre indusse Annibale ad adottare con una frequenza sempre maggiore misure durissime cominciava una guerra veramente atroce anche se non è possibile credere come suggeriscono le fonti che il cartaginese varcasse talora i fiumi de cadaveribus ponte facto avendoli coperti di cadaveri e se l'accusa di aver abbandonato a morte lenta i prigionieri oneribus et itinere fessos ian prima parte pedum succisa stanchi dalle fatiche e dalla strada avendo loro recisa la parte anteriore dei piedi trova una sua spiegazione logica nel costume di guerra dei numidi di cui abbiamo parlato le accuse di crudeltà nei suoi confronti sono però una costante in tutti gli autori antichi persino in quelli che gli sono in qualche misura favorevoli come Cassio Dione la nuova guerra di logoramento che egli sentiva di non poter vincere se non forse in asprendola al punto di disanguare veramente il nemico e nello stesso tempo la condotta degli ex alleati di Roma che non erano certo fedeli a lui più di quanto lo fossero stati alla Repubblica resero quindi consueti atti come il sacco sistematico dei campi e delle fattorie tutte le terre del meridione ne furono più o meno gravemente toccate in particolare sembra l'agro della colonia latina di Benevento resero consueti la distruzione delle città tra le altre vennero distrutte Nuceria e Petelia Terina ed Erdonea o il massacro e la deportazione di intere popolazioni nell'ultima parte del suo soggiorno in Italia Annibale sembra avere adottato contro i suoi stessi alleati di prima una misura strategica veramente spietata forse per assicurarsi che il nemico il quale per contro gli aveva fatto la terra bruciata davanti non potesse in alcun modo servirsi delle basi che era costretto a lasciare e egli non consentì agli abitanti di trattare la loro resa con Roma ne distrusse le città e li deportò le popolazioni all'interno del territorio che rimaneva sotto il suo controllo Annibale si era giovato del tradimento però non poteva permettersi di subirlo perché era più debole dell'avversario nel tentativo di salvarsi gli italici tornavano sempre più di frequente a rivolgersi a Roma e condivano la defezione con il tradimento consegnavano o addirittura massacravano quei presidi che avevano richiesto loro stessi e la cui sorte costituiva il loro passaporto il loro lasciapassare per tornare sotto il dominio di Roma senza pagarla troppo cara la pagarono però talvolta molto cara da parte di Annibale episodi del genere erano successi non solo a Salapia le cui strade videro la strage di 500 numidi di Guarnigione che costituivano il miglior reparto di cavalleria leggera dell'intera armata cartaginese successe ad Arpi successe a Locri avvenne tra gli Irpini e i Lucani contro questo fenomeno Annibale fu veramente spietato non a torto si mostrò capace non solo di giustiziari notabili e le loro famiglie ma infierì anche anche sui loro averi impedire anche un solo tradimento poteva significare salvare uomini preziosi alla continuazione della guerra e un solo giorno in più di guerra poteva voler dire allungare la resistenza di Cartagine e tener viva la speranza di vincere faticosissimo da sostenere e infinitamente dispendioso dal punto di vista delle risorse che bruciava il tipo di guerra voluto da Fabio Massimo e che Annibale era stato costretto ad accettare ma aveva portato alle estreme conseguenze fu sul punto di dar ragione al cartaginese Roma e l'Italia erano spaventosamente esaurite così nel 210 all'ennesima richiesta di fornire uomini di fornire mezzi di fornire denaro dodici delle trenta colonie latine esauste dichiararono e ripeterono poi al cospetto del senato di non avere più mezzi di non avere più nulla da bruciare nella fornace della guerra di non essere più in grado di sostenere un conflitto terribile che le aveva prosciugate di ogni risorsa quella stessa Italia quella stessa parte dell'Italia che era stata incrollabilmente fedele a Roma parve ora spezzarsi in due a sua volta fortunatamente per la repubblica le altre diciotto colonie sostennero apparentemente imperturbabili il bisogno il peso delle richieste avanzate dal senato e la guerra poté continuare un altro momento di panico Roma lo conobbe nella primavera del 207 quando sembrò rinnovarsi l'incubo della calata nibalica cacciato dalla Spagna ad opera del giovane Publio Cornelio Scipione il futuro africano a Sdrubale il fratello di Annibale aveva portato le sue truppe ancora sostanzialmente intatte verso l'Italia e veniva in soccorso del fratello la situazione era tuttavia profondamente mutata l'apparato militare che la repubblica si era costruito negli anni era ormai formidabile e i nuovi comandanti di Roma avevano a loro spese o a spese di coloro che li avevano preceduti imparato molto ed erano in grado ormai di competere in astuzia con lo stesso Annibale alle forze del console Livio Salinatore si aggiunse per l'occasione un contingente scelto comandato dal suo collega cioè da Caio Claudio Nerone che non esitò ad abbandonare gesto rischiosissimo la sorveglianza di Annibale accorrendo in soccorso dell'altro dell'altro console per lo scontro decisivo costretto ad accettare la battaglia non lungi dal punto in cui il corso del fiume Metauro taglia il tracciato della via Flaminia Asdrubale venne completamente sconfitto e perì lui stesso con gran parte del suo esercito quando la testa del fratello venne gettata barbaramente davanti alle sue trincee e qui però va ricordata una cosa Annibale non aveva mai voluto lo sconcio dei corpi dei consoli caduti questo però si era prodotto piuttosto parecchie volte e Roma non gli perdonava evidentemente la sorte subita da Flaminio subita da Postumio Albino subita forse anche da altri dei suoi comandanti quando la testa del fratello venne gettata davanti alle sue trincee e quando gli vennero mostrati nel campo avversario i prigionieri Galli che evidentemente avevano fatto parte dell'esercito di Asdrubale Annibale dovette comprendere che la sorte sua e di Cartagine era inesorabilmente segnata le sorti della guerra si erano ormai capovolte del tutto fino dal 211 il suo andamento aveva subito una netta svolta malgrado l'audacissima puntata che lo aveva portato sotto le mura di Roma Annibale ad Portas Annibale è alle porte il grido tradizionalmente ricordato dalle fonti il cartaginese non era riuscito a salvare Capua stretta nella morsa di tre armate romane i notabili della città più compromessi con lui si erano dati la morte o erano stati fatti giustiziare da Fulvio Flacco il quale aveva forse addirittura forzato le mani del senato in parte propenso ad usare clemenza va ricordato che le grandi famiglie di Capua erano imparentate con alcune delle principali gentes di Roma nello stesso anno era accaduta in Sicilia la grande città di Siracusa che era stata in vano difesa a lungo dalle macchine di Archimede e nel sacco della città era morto lo stesso grande scienziato che il vincitore Marcello avrebbe voluto risparmiare cadde poi Taranto ad opera di Fabio Massimo che la prese col tradimento e pur non saccheggiandola lasciamo avrebbe detto ai Tarentini i loro dei irati l'aveva però punita in modo ancora peggiore vendendo schiavi 15.000 o secondo altre fonti 30.000 dei suoi cittadini si era poco a poco liquefatto il territorio sotto il controllo del cartaginese infine aveva deposto le armi anche l'alleato macedone anche quel Filippo V che si era limitato sulla sponda orientale del canale d'Otranto a poche operazioni di secondo piano tenuto in scacco da contingenti romani assolutamente minimi Annibale chiuse la sua avventura italica a Crotone punto di arrivo del viaggio nella penisola di Eracle Melkart e presso il santuario di Era al capo Lacinio dedicò una grande iscrizione bronzea in cui lasciava memoria del suo passaggio e il resoconto delle sue gesta una sorta di schiaffo sul viso dei romani questa iscrizione all'interno di un santuario che essi non avrebbero mai osato violare quando nel tardo autunno del 203 sciolse le vele decidendo di abbandonare la penisola lo aspettava in Africa Publio Cornelio Scipione lo aspettava un uomo e lo aspettavano delle truppe che parevano la nemesi dell'Italia tanto a lungo tormentata dalla guerra le legioni che accompagnavano Scipione erano le legioni cannensi e Scipione aveva perduto il padre e lo zio nel corso delle operazioni in Spagna vedremo il resto di queste vicende alla prossima puntata di nuova alle 8 della sera con Annibale e con Giovanni Brizzi Buonasera abbiamo visto Annibale costretto ad abbandonare l'Italia nel 203 un Annibale il quale lasciò la penisola a malincuore tutte tutte le fonti ce lo dicono ce lo confermano abbandonò la penisola a malincuore forse anche perché era gravato dal peso di una constatazione la sua patria era rispetto a Roma in condizioni di grave inferiorità questo anche per la la sua stessa natura vincere la guerra o anche solo concluderla in modo accettabile senza grossi squilibri senza grossi scompensi avrebbe rappresentato per lui un vero miracolo la constatazione era semplice il nemico aveva sopportato senza piegarsi 15 lunghi anni di guerra sul proprio territorio da un anno solamente Scipione era sbarcato in Africa e già il senato e il popolo di Cartagine lo mandavano a chiamare ne invocavano il ritorno io ho immaginato un Annibale che sul punto di imbarcarsi per l'Africa dice a se stesso e ai cartaginesi che questa guerra è irrimediabilmente perduta l'uomo che lo attendeva sul territorio africano era un uomo Publio Cornelio Scipione Juniore Juniore perché è il figlio di quel Publio che abbiamo già incontrato che aveva sfiorato più volte aveva più volte intercettato il cammino di Annibale era stato giovanissimo alla trebbia dove alla testa di una torma di cavalieri aveva soccorso e portato in salvo il padre ferito questo almeno secondo la versione a lui più favorevole secondo la storiografia romana una versione che nasce probabilmente dalle fonti puniche racconta invece un episodio diverso e immagina che il console sia stato salvato sul campo della trebbia da un servo di nazionalità ligure Publio era stato poi a Canne ed era per buona sorte di Roma riuscito a scamparne era per buona sorte di Roma riuscito a sottrarsi alla terribile sacca alla testa di un pugno di cavalieri dopo questo evento Scipione era rimasto probabilmente a lungo nell'ombra la stessa fazione a cui egli apparteneva era in quel momento in difficoltà abbiamo detto che gli Scipioni facevano capo al gruppo che si riconosceva nelle clientele mercantili i suoi maggiori esponenti Cneo e Publio erano lontani impegnati in Ispania e il figlio e nipote il figlio dell'uno il figlio di Publio e nipote dell'altro nipote di Cneo era ancora troppo giovane ed emarginato dalla forza di uomini come Marcello come Fabio Massimo come Fulvio Flacco Scipione il giovane Scipione dovette tuttavia essere affascinato almeno così io credo fin dall'infanzia dalla figura del grande nemico di Roma dalla figura di Annibale e dovette seguirne le gesta meditandole e proponendosele ad esempio fino a fare del cartaginese un modello molto più sentito e molto più consono alla sua indole di quanto non fossero il padre e lo zio soldati entrambi coraggiosi e devoti a Roma ma indubbiamente non uomini di genio crebbe così Scipione fino a che il destino non gli offrì la possibilità di emergere neo lo zio e Publio il padre di Scipione li abbiamo lasciati all'inizio del nostro viaggio il primo al momento del passaggio di Annibale al Rodano diretto in Ispagna il secondo ancora convalescente dopo la battaglia della Trebbia era stato ferito precedentemente al Ticino diretto a sua volta verso la penisola iberica dove avrebbe unito le sue forze a quelle del fratello i due si sarebbero poi battuti a lungo con alterna fortuna contro alcuni generali cartaginesi che tenevano la penisola tra cui i fratelli di Annibale Publio e Gneo avevano avuto tra l'altro almeno un grande demerito quello di avere fermato distruggendo nelle forze ad Ibera Dertosa presso il corso dell'Ebro il tentativo che se riuscito avrebbe portato a Sdrubale a raggiungere il fratello in Italia in un momento molto più difficile per Roma cioè all'indomani della battaglia di Canne un evento che se si fosse realizzato avrebbe costituito per Roma una minaccia mortale in sostanza avevano annientato le forze di Asdrubale sul corso dell'Ebro e avevano costretto Asdrubale stesso a chiedere rinforzi a Cartagine rinunciando al proposito di seguire il fratello in Italia in Spagna i due Scipioni avevano combattuto per oltre sette anni fino a che divise le loro forze si erano spinti verso il meridione della penisola con l'intenzione di infliggere un colpo mortale allo stato punico nella penisola le truppe spagnole che li accompagnavano prevalentemente Celtiberi avevano tuttavia disertato forse perché comprate da loro cartaginese e i due fratelli con scarsissime truppe romane con scarsissime forze romane avevano tentato in vano di resistere ma erano stati braccati dalla cavalleria numidica al comando di un uomo che sarebbe poi divenuto famoso come amico di Roma avrebbe cambiato schieramento e come amico soprattutto paradossalmente proprio dell'africano di Scipione l'africano e cioè il sovrano numidico sovrano dei numidi massili massinissa avevano perduto così entrambi gli eserciti e avevano perduto anche la vita erano caduti in combattimento in territorio spagnolo alla loro morte il fronte spagnolo era stato affidato in un primo momento a Claudio Nerone poi l'esigenza di generali sperimentati sul più importante fronte italico aveva indotto il senato a richiamare l'uomo che avrebbe poi sconfitto asdrubale al metauro al suo posto era stata mandata una figura giovane una figura in fondo sconosciuta una figura che solo legami di famiglia univano a quel teatro di operazioni era stato mandato Publio Cornelio Scipione appunto era in quel momento un privatus cum imperio un semplice cittadino che non aveva neppure ricoperto le cariche necessarie ad esercitare il comando si era fatta un'eccezione sul piano costituzionale e lo si era inviato a combattere dove erano morti il padre e lo zio la fortuna aveva scelto nacque così uno dei più grandi generali di Roma quattro anni appena bastano a Publio Scipione per distruggere il dominio cartaginese in Ispania dal 209 al 205 questo giovane condottiero è infinitamente superiore e ha danni luce veramente rispetto ai comandanti romani che Annibale ha incontrato finora del suo grande ed involontario maestro Publio ha assimilato tutti i segreti non solo tattica e strategia ma persino l'ambizione a definire se stesso di fronte ai soldati al cospetto del suo esercito come un personaggio dai tratti soprannaturali ad invocare come suo proprio quel carisma quella divina grazia che rende inevitabile la vittoria dovuta al favore degli dèi più che alle capacità umane Scipione dirà in seguito racconterà in seguito di essere figlio di Zeus racconterà in seguito che Giove stesso in forma di serpente ha visitato sua madre racconterà o farà raccontare a coloro che scrivono per lui che i cani del Campidoglio i cani del Tempio di Giove Capitolino non abbaiano al suo passaggio perché ne percepiscono la natura divina ma comincerà assai presto comincerà addirittura dal suo primo apparire sul fronte spagnolo a costruire la propria leggenda abbiamo parlato di Cartagine di Spagna abbiamo detto che Cartagine di Spagna sorgeva su un istmo che separava il mare e la laguna e che era la sede del tesoro dell'arsenale degli ostaggi era indubbiamente il centro più importante di tutta la provincia spagnola un centro che bisognava togliere di mezzo se si voleva proseguire verso il sud i cartaginesi la consideravano inespugnabile e l'avevano presidiata con pochi difensori soltanto Scipione ne aveva invece percepito fin dal primo momento un punto debole in particolari condizioni di vento la laguna interna quando il vento spirava dalla terra rimaneva guadabile addirittura a piedi da soldati a piedi il vento spingeva verso il mare aperto le acque e abbassava il livello rendendo la città vulnerabile dall'interno meditò dunque di prenderla d'assalto direttamente senza assediarla e raccontò ai suoi soldati che Posidone ne avrebbe favorito l'impresa ad una certa ora del giorno i soldati sbigottiti videro le acque ritirarsi soffiate verso l'esterno dal vento e nacque così la leggenda di uno Scipione favorito dagli dei solo due battaglie gli sarebbero poi bastate ad Abecula e ad Ilipa per sconfiggere i due fratelli di Annibale e per impadronirsi della Spagna in seguito tornato a Roma e divenuto console Publio Scipione mise subito in chiaro che la sua strategia era diversa da quella dei suoi predecessori che intendeva sfidare Cartagine in Africa ed estirpare in questo modo l'esercito di Annibale dal territorio dell'Italia ciò che fece puntualmente non appena ebbe il comando e gli fu stata assegnata la Sicilia come punto di partenza sbarcò le sue forze in Africa e Annibale fu costretto ad abbandonare l'Italia in Africa Scipione passò di vittoria in vittoria e passò di vittoria in vittoria usando con estrema efficacia le stesse armi che Annibale aveva impiegato in Italia bloccato per esempio da una duplice armata cartaginese e numidica che minacciava di togliergli ogni iniziativa un'armata che comandavano a Sdrubale figlio di Giscone e si face della tribù dei Massessili allora al re di Numidia e alleato di Cartagine Publio non esitò ad avviare con il nemico trattative di pace ma approfittò di queste trattative per escogitare un piano sottile che gli permise di distruggere praticamente senza perdite i due eserciti nemici era una forma di perfidia per usare il termine che i romani attribuiscono ad Annibale addirittura più sottile di quella usata da Annibale in Italia sorprese con la guardia abbassata da uno spietato attacco notturno le due armate vennero arse tra le fiamme dei loro stessi campi 40.000 uomini forse perdettero la vita Canne era stata vendicata Annibale tuttavia oltre che di insidie era stato grande maestro di tattica e anche in questo campo senza volerlo aveva fatto scuola al più giovane avversario il prodotto finale della sua elaborazione Publio lo raggiunse nella battaglia dei Campimani Campimani è un termine latino delle grandi pianure in questo scontro l'impiego del secondo e del terzo scaglione della fanteria legionaria non più come semplici appendici della prima linea romana destinate a supportarla a sostenerne lo sforzo o a sostituirla nell'attacco frontale ma usate come unità tattiche indipendenti che dovevano estendere il fronte dello schieramento romano e attaccare il nemico sui fianchi e alle spalle rappresentava una innovazione fondamentale un'innovazione fondamentale persino rispetto alla battaglia di Canne rappresentava una svolta che metteva Scipione addirittura in posizione di vantaggio rispetto ad Annibale l'allievo era ormai pronto a misurarsi con il maestro lo avrebbe fatto di lì a poco nella battaglia di Zama di questa battaglia parleremo nella prossima puntata di nuovo alle 8 della sera di nuovo con Giovanni Brizzi e con Annibale su Radio 2 Buonasera dopo 33 anni Annibale tornava finalmente alla terra e alla città che aveva lasciato bambino ma di questo ritorno non poteva in alcun modo rallegrarsi progetti e sogni che aveva portato con sé partendo al seguito del padre erano ormai irrimediabilmente svaniti i due fratelli che probabilmente sognava di chiamare a prendere parte della sua gloria non c'erano più di uno a Sdrubale sapeva il destino la sua testa era stata gettata davanti alle sue trincee e gli aveva reso gli onori ma anche l'altro Magone il beniamino dei Barcidi era morto cacciato a sua volta dalla Spagna ad opera di Scipione si era diretto verso l'Italia per tentare di riunirsi con il fratello maggiore ma era stato intercettato e bloccato dai romani nella Cisalpina era stato costretto a reimbarcarsi per Cartagine e non era sopravvissuto alle ferite riportate morrendo durante il viaggio a piegare Roma non erano stati sufficienti tre lustri di guerra una guerra spietata sul territorio stesso dell'Italia meno di due anni erano bastati alla presenza di Scipione sul territorio africano perché i maggiorenti cartaginesi forse solleciti più delle fortune personali che del bene della città lo mandassero a chiamare bisognosi di aiuto malgrado ogni sforzo compiuto da Annibale Cartagine rimaneva irrimediabilmente più debole della sua nemica adesso bisognava salvare il salvabile in Africa infuriava infatti Publio Scipione un generale che solo Annibale sembrava in grado di sconfiggere una sua vittoria tuttavia avrebbe ridato voce in Roma alle partes di Fabio Massimo cioè a tutto quel settore del Senato che voleva che voleva la pace che voleva la pace a tutti i costi anche a costo di chiudere la guerra con una vittoria meno limpida di quella che si poteva ottenere era la fazione contraria ad un'impresa africana giudicata troppo rischiosa e che quindi una sconfitta di Scipione sul terreno metropolitano di Cartagine avrebbe riportato in auge però anche questo risultato non avrebbe ridato a Roma né la Spagna né tanto meno l'impero che aveva perduto se Annibale avesse vinto avrebbe ottenuto però di mantenere almeno lo status quo avrebbe ottenuto di vedere una città africana comunque più debole di come era entrata in guerra ma almeno autonoma ma almeno pienamente libera di gestire la sua politica se fosse stato sconfitto le condizioni imposte da Roma non avrebbero potuto essere molto più dure di quelle che già Scipione aveva presentato ai suoi concittadini che il senato di Cartagine aveva accettato valeva comunque la pena di tentare Annibale prese terra con i suoi veterani non lontano da Adrumetum nella Bisacena dove erano i possedimenti della sua famiglia quindi lontano da Cartagine ma anche lontano da ogni minaccia immediata da parte di Scipione che in quel momento era più forte e procedette ad accrescere il suo esercito quello che Cartagine gli chiedeva nella circostanza era senza dubbio l'impresa più difficile della sua vita anche in Africa infatti gli equilibri si erano gravemente alterati a favore di Roma Annibale raccolse una forza di 4.000 cavalieri e di 36.000 fanti ai veterani d'Italia 15.000 uomini in tutto si aggiunsero gli 11.000 mercenari reclutati da suo fratello Magone che i loro ufficiali avevano condotto in Africa e i 10.000 accoscritti Libi e per la prima volta nel corso di questa guerra cittadini di Cartagine che erano stati arruolati sul territorio africano e in più raccolse 80 elefanti la superiorità era tuttavia soltanto numerica aveva mercenari valorosi ma indisciplinati aveva reclute volonterose ma male addestrate di fronte c'erano è vero uomini che aveva già sconfitto in passato le legioni cannensi che Scipione aveva portato con sé dalla Sicilia ma che proprio per questo erano avidi di riscatto erano vogliosi di rivincita avevano il morale alle stelle per le recentissime vittorie conseguite sul territorio africano e una cieca fiducia nel loro comandante per di più la sua cavalleria sarebbe stata per la prima volta molto inferiore perduta la Numidia che adesso era sotto il regno di Massinissa i cavalieri berberi che gli avevano garantito le vittorie in Italia sarebbero accorsi in massa questa volta sotto le insegne di Roma se Scipione avesse impostato la manovra avvolgente sull'impiego delle cavallerie Annibale non avrebbe avuto scampo tuttavia lo inducevano alla speranza due fattori da buon romano era probabile che Scipione prediligesse secondo la tradizione patria l'impiego delle fanterie e per di più nella battaglia delle grandi pianure il romano aveva elaborato uno schema tattico del tutto nuovo che semplificava e perfezionava al massimo la manovra di Canne tra volte le ali dello stiramento punico egli non si era minimamente curato di richiamare i suoi cavalieri per compiere l'accerchiamento del centro nemico gli erano bastate le fanterie infatti mentre il primo scaglione gli astati impegnava frontalmente il nemico principe setriari in seconda e terza linea si erano diretti in colonna gli uni a destra gli altri a sinistra avevano avvolto i fianchi delle forze puniche e le avevano distrutte quindi se fosse stato adeguatamente sollecitato Scipione avrebbe potuto essere tentato di ripetere contro Annibale la stessa manovra anche nello scontro imminente lo stesso risultato delle grandi pianure i cavalieri di Scipione lo avrebbero ottenuto anche contro le forze montate di Annibale e una volta scoperti i fianchi avrebbe potuto pensare Scipione di riuscire a fare al suo grande avversario ciò che aveva fatto ai suoi predecessori in terra africana in questo caso ci sarebbe stata forse una speranza Annibale non escludeva di trattare la pace un fatto nuovo però venne a forzare la mano ai contendenti un convoglio di navi onerarie di navi da carico romane piene di vettovaglie fu spinto da una tempesta nel golfo di Tunisi e cadde parzialmente nelle mani dei cartaginesi i quali tormentati dalla carestia rifiutarono di restituire il carico di fronte a questa violazione della tregua si riaccese la guerra e i due comandanti ugualmente abili e audaci gareggiarono in prontessa spingendosi entrambi verso l'interno Annibale sperava di riuscire a distruggere le forze dell'alleato Numida Masinissa prima che si unissero a Scipione mentre lo stesso Scipione mirava a proteggere il re Berbero integrandone le truppe nella sua armata non lontano da Zama Zama è una località che verrà tra l'altro tra breve scavata da una missione italiana che ha già raggiunto un accordo con il governo tunisino per lo scavo avvenne purtroppo per Annibale il congiungimento 6.000 fanti leggeri e 4.000 cavalieri ai quali se ne aggiunsero poco dopo altri 600 condotti da un capo minore da un capo numidico minore a nome da Camante entrarono nei ranghi di Scipione Annibale conscio della sua inferiorità tentò l'ultima carta cioè un abboccamento personale con il giovane avversario che doveva essere anche curioso di conoscere non sappiamo con certezza se non nella artificiosa ricostruzione di Tito Livio che cosa si siano detti i due grandi uomini si incontrarono nello spazio tra i due eserciti e si parlarono secondo la retorica Annibale avrebbe ricordato a Scipione la mutevolezza dei destini umani gli avrebbe ricordato che qualche tempo prima lui era accampato sul Tevere adesso Scipione era accampato sotto Cartagin ma le sorti potevano ancora rovesciarsi e lo avrebbe invitato alla moderazione Scipione avrebbe ribadito le sue condizioni tali da fare apparire comunque preferibile al cartaginese il rischio di uno scontro in realtà io credo che Scipione messo finalmente di fronte al suo grande maestro l'uomo che aveva rappresentato il modello della sua giovinezza non avrebbe rinunciato alla battaglia per nulla al mondo persuaso com'era di vincere e di acquistarsi una gloria immortale davvero la battaglia di Zama mostra quanto fondato sia anche in quest'ambito il detto secondo cui conta solo vincere e i meriti dello sconfitto non li ricorda nessuno quella che tutti o quasi gli studiosi moderni da De Santis a Lidelart da Picard a Cromaier alle Boek hanno interpretato come una canne alla rovescio quasi che Annibale avesse perduto in un colpo solo in un solo momento genio e misura è invece secondo me più ancora di canne il misconosciuto capolavoro compiuto da Annibale Annibale sembra aver ipnotizzato letteralmente l'avversario poche mosse quasi certamente lo provocò alcune volte a battaglia schierandosi per poi ritirarsi all'ultimo momento e gli agitò sotto gli occhi come alla trebbia che certo Scipione ben ricordava lo spauracchio degli elefanti questi erano posti in prima fila come allora non però realmente per sostenere le sue fanterie che erano stavolta più numerose di quelle del nemico ma per indurre Scipione alla mossa che poi questi compì disporre i suoi manipoli in colonna invece che a scacchiera lasciando nello schieramento corridoi liberi nei quali si sfogassero le belve quando infine l'avversario imbaldanzito avanzò a sua volta a sfidarlo tardò forse un po' come se fosse timoroso ad uscire dal campo e ne studiò le intenzioni in quel breve periodo diede gli ultimi ordini ai cavalieri raccomandò di non opporre al nemico alcuna vera resistenza ritirandosi subito dal terreno e trascinandosi dietro il più lontano possibile i cavalieri del nemico comandati da Lelio e da Massinissa anche ai mercenari e alle fanterie africane raccomandò di non impegnarsi fin dal primo scontro ma di rompere il contatto e di disporsi ai fianchi dell'ultima schiera senza turbare i ranchi di chi li seguiva dopo aver schierato anche egli le sue forze su tre linee come il nemico primi i mercenari poi le fanterie africane infine i veterani d'Italia nel procedere contro Scipione Annibale trattenne però un po' il terzo scaglione delle sue truppe fermandolo uno stadio circa alle spalle degli altri ciò che Scipione aveva previsto parve in un primo momento realizzarsi gli elefanti atterriti dal suono delle bucine delle trombe e bersagliati dai dardi della fanteria leggera sfilarono senza troppi danni nei corridoi o sui lati dello schieramento e mentre Lelio e Massinissa travolte facilmente le ali puniche si perdevano ad inseguirle nella piana senza che Scipione si preoccupasse di trattenerli l'esercito cartaginese scoperto sui fianchi sembrò consegnarsi indifeso all'imminente stretta delle legioni che doveva stritolarlo così non era però calato il polverone del primo scontro Scipione dovette rendersi conto con sorpresa nel momento in cui si disponeva ad aprirsi sui fianchi dell'avversario che la terza linea di questo i veterani d'Italia sarebbero rimasti al di fuori dell'azione avvolgente delle sue fanterie non solo schierate in colonna non a scacchiera le sue fanterie avrebbero poi dovuto affrontare i primi due scaglioni dell'armata annibalica con la prima linea soltanto e quindi soltanto con gli astati anche per Annibale non tutto andò come previsto non ancora perfettamente disciplinati alcuni dei mercenari cercarono rifugio all'interno della schiera che li seguiva cioè tra le fanterie africane e successero zuffe con gli africani proprio mentre gli astati attaccavano le perdite puniche in questa fase dovettero quindi essere molto più alte di quelle romane 4 o 5 mila caduti contro forse mille astati in tutto era un sacrificio accettabile però poiché Annibale aveva fatto così per primo ciò che Scipione voleva fare a lui e lo aveva messo in estrema difficoltà di fronte ai 16 mila legionari in pesante armatura i soli che in questo momento contassero davvero stava adesso aperta nella piana una forza nemica quasi doppia costretto a scegliere se correre il rischio di essere preso sui fianchi lui stesso o assottigliare i ranghi allungando il proprio schieramento Scipione scelse come era naturale questa seconda alternativa ma dovette comunque allungare e assottigliare enormemente le sue linee e quindi disporsi ad una resistenza disperata cominciò ora una gara contro il tempo Annibale aveva gestito la battaglia meglio del rivale si era procurato la possibilità che andava cercando che in partenza almeno sembrava preclusa e aveva messo l'esercito nemico in crisi la sua superiore abilità fu però resa inutile dal superiore eroismo dei legionari con gli astati ormai logori esposti al centro ai veterani d'Italia inferiori di numero e dunque con le linee dilatate al massimo i romani tuttavia resistettero resistettero fino a quando il ritorno di Lelio e Massinissa piombati alle spalle del nemico ancora in lotta non ne determinò la distruzione dei 20.000 caduti cartaginesi la maggior parte furono proprio i veterani d'Italia che per la loro posizione non riuscirono a fuggire era l'autunno dell'anno 201 il resto ciò che Annibale fece dopo la disfatta sarà materia delle prossime puntate ancora una volta su Radio 2 alle 8 della sera con Giovanni Brizzi Buonasera a Zama Annibale aveva quasi fatto il miracolo contro un grande avversario che aveva addirittura perfezionato i suoi schemi tattici aveva saputo rinnovarsi a sua volta e aveva manovrato meglio di Scipione mettendolo alle strette ma aveva perduto e la sconfitta questa volta era una sconfitta definitiva dopo avere raggiunto Adrumetum in compagnia di pochi cavalieri soltanto Annibale tornò rapidamente a Cartagine qui fu proprio lui che più di ogni altro aveva sostenuto la guerra a caldeggiare in questa circostanza e in questo momento la pace come il minore dei mali le condizioni imposte da Roma furono indubbiamente condizioni severe si è detto che furono condizioni durissime in realtà non lo furono poi del tutto Cartagine dovette rinunciare non solo alla Spagna che del resto aveva già perduto con le armi ma anche alla flotta salvo dieci navi e a tutti gli elefanti da guerra dovette pagare un'indennità di diecimila talenti che fu un'indennità certo altissima ma appena proporzionata all'entità delle distruzioni subite dall'Italia nei quindici anni della presenza punica sul suo territorio dovette impegnarsi a non far guerre né in Africa né tantomeno al di fuori dell'Africa senza l'autorizzazione di Roma la pace cancellava Cartagine dal novero delle grandi potenze le lasciava però la vita e i mezzi per risorgere le terre e la libertà di commercio come Annibale aveva previsto la città si ristabilì ritrovò ben presto i suoi equilibri almeno economici nella sua qualità di capo delle forze di autodifesa Annibale contribuì da par suo alla rinascita impiegando i veterani superstiti a piantare olivi e alberi da frutto nei suoi possedimenti in Bisacena inquadrando i reduci e dando loro da vivere Annibale si costituiva però anche una specie di fedelissima clientela di fidatissimo seguito che era sua intenzione impiegare probabilmente per assicurarsi il potere l'occasione propizia gli fu offerta da un gravissimo scandalo e dal malcontento popolare che ne acque le verghe d'argento versate in pagamento di una delle rate dell'indenità di guerra erano state adulterate e i rappresentanti di cartagine spiazzati erano stati costretti a rivolgersi per saldare quella rata del debito agli usurai romani per un prestito creato su feta sull'onda dello scandalo popolare Annibale era il solo che potesse con il suo prestigio porre fine ai tumulti mise immediatamente in luce una serie enorme di malversazioni e di ammanchi e avviò un'inchiesta che investiva non soltanto i magistrati ma addirittura tutto il governo il governo oligarchico e attaccò in particolare il cosiddetto consiglio dei cento era un pretesto per indebolire il cane da guardia quella magistratura che era il vero cane da guardia della oligarchia restituita ad una durata annuale senza possibilità di proroga immediata questa carica perdeva i suoi connotati di spauracchio e i giudici che avevano fatto fino a quel momento il bello e il cattivo tempo diventavano a loro volta vulnerabili Annibale voleva fare ben altro considerava forse ormai superato in città il momento democratico che avevano tentato di imporre il padre e il cognato ora era tempo di passare forse ad un dominio personale dominio personale per il quale egli pensava naturalmente a se stesso Annibale fallì ancora una volta all'ultimo minacciati nei loro privilegi e preoccupati per la stabilità del sistema politico vigente gli oligarchi reagirono facendo appello alle loro amicizie personali all'interno del senato di Roma presso i suoi pari lo difese paradossalmente proprio Scipione ma la voce del vincitore di Zama rimase isolata anche perché il senato sospettava Annibale forse non a torto visto ciò che accadde poco dopo di cercare alleanze mediterranee in vista di una futura guerra di rivincita contro Roma fu inviata allora in Africa una legazione che con il pretesto di dirimere una controversia di frontiera fra Cartagine e la Numidia aveva forse il fine di indagare sulle attività di Annibale questi temendo di essere consegnato ai romani e comunque temendo per la sua vita non ne attese il giudizio raggiunta con una rapida cavalcata la piccola baia fra tapso e accolla in cui lo aspettava una nave salpò verso l'esilio la sua città lo dichiarò allora fuori legge le sue proprietà furono confiscate e la sua casa abbattuta dalle fondamenta era il 195 avanti Cristo destinazione era il regno di Siria la corte di quell'antioco terzo detto il grande con cui Annibale era in contatto da tempo signore di una grande potenza che aveva da poco ristabilito i suoi confini orientali e guardava adesso verso la Grecia e verso occidente ponendosi Annibale lo sapeva bene in rotta di collisione con Roma ammesso tra gli amici gli amici sono il seguito del sovrano quel gruppo di personalità che accorreva in genere da tutto il mondo conosciuto portando il contributo prezioso di un'esperienza politica Annibale dovette parlare a lungo con Antioco della minaccia romana cominciava la sua pluriennale crociata per convincere i greci a non sottovalutare la minaccia di Roma contro la Repubblica egli aveva concepito un piano strategico preciso intendeva suscitare la rivolta in Cartagine a preparare il terreno inviò poi effettivamente un mercante di tiro a nome Aristone senza esito e mentre Antioco avrebbe occupato la Grecia sarebbe poi sbarcato lui stesso dalla testa di forze siriache in Italia sollevandone nuovamente le regioni meridionali il sovrano siriaco preferì tuttavia dare ascolto ad altre voci alle voci per esempio dei suoi consiglieri etolici che già alleati di Roma ne erano diventati i nemici più irriducibili condotta con presunzione la guerra contro la Repubblica fu un seguito di disastri il contingente che era sbarcato con Antioco in Grecia fu annientato dai romani alle Termopili e poi i romani passati in Asia distrussero il grosso delle forze siriache nella battaglia di Magnesia mentre Lucio Scipione sotto la guida di suo fratello Publio che era l'eminenza grigia della spedizione mentre i romani vincevano questa battaglia risolutiva Annibale era al comando di una squadra navale lontano ritirandosi verso oriente perché battuto dai rodi alleati di Roma dopo la vittoria il nome di Annibale fu il primo nella lista dei nemici dei quali Roma chiedeva apertamente la consegna ma Antioco comportandosi da grande sovrano se lo lasciò sgusciare dalle mani cominciava la seconda fase dell'esilio del cartaginese ad Annibale furono concessi così gli ultimi anni di vita e di libertà ed egli non li trascorse inattivo fino all'ultimo giorno vagò per le regioni del vicino oriente cercava da un lato sia pure con sempre minor convinzione una terra e un regno che gli concedessero una base per la sua rivincita tentava dall'altro con tutte le sue forze di convincere chiunque incontrasse della necessità per i greci di trovare un accordo capace di permetter loro di opporsi alla crescente potenza romana la cronologia di questi ultimi anni è quanto meno dubbia fu a Creta qui beffò gli isolani che non volevano lasciarlo partire con le sue ricchezze fece mostra di consacrarle nel locale santuario di Artemide ma vi trasportò con grande solennità delle anfore le quali sotto uno strato superficiale di metallo prezioso erano però piene solamente di piombo l'oro lo portò invece con sé celato all'interno delle statue che da buon amante dell'arte lo accompagnavano sempre e lo accompagnarono durante tutte le sue peregrinazioni fu forse in Armenia dove secondo la tradizione avrebbe elaborato per il re Artaxias il progetto di una capitale e cioè la futura Artaxata infine giunse in Bitinia l'ultimo soggiorno qui su uno sprone del monte Olimpo fondò per il suo ospite il re Prusia la città che da lui prese il nome di Prusa che doveva essere la nuova capitale del regno qui prese parte alla guerra contro Eumene di Pergamo che affrontò per mare e sconfisse con uno dei suoi stratagemmi riuscendo quasi a prenderlo prigioniero lo stratagemma consistette nel far gettare sulle navi nemiche delle anfore piene di serpenti velenosi che resero estremamente difficile la manovra fu la sua ultima vittoria la guerra un fastidioso conflitto senza importanza fra potenze minori fu risolta da Roma nella maniera più semplice e tranquilla con il semplice peso della sua autorità però attrasse l'attenzione del senato sulle trame che Annibale continuava ad ordire ai suoi danni il cartaginese sempre attivo e geniale stava diventando un simbolo in tutto l'Oriente e venne perciò mandata alla corte di Prusia una legazione guidata da Tito Quinzio Flaminino Tito Quinzio Flaminino era il liberatore tra virgolette della Grecia che aveva l'incarico ufficiale di consolidare gli accordi fra Prusia e Deumene aveva il compito meno confessabile di chiedere l'estradizione del grande nemico di Roma Annibale da buon conoscitore di uomini capì subito che esisteva un pericolo reale e capì che Prusia non avrebbe sfidato la Repubblica per proteggerlo come aveva fatto Antioco per garantirsi la fuga in ogni caso aveva provvisto la sua dimora di numerose uscite segrete ma la cautela non valse a salvarlo il re aveva infatti ordinato di circondare la casa e di presidiarne le uscite quando comprese che le speranze di salvarsi erano inesistenti il cartaginese non esitò a prendere il veleno che portava sempre con sé volendo almeno morire con dignità e sottrarre ai nemici il vanto della sua cattura era il 183 avanti Cristo Annibale aveva allora secondo la datazione più probabile 64 anni la morte del nostro protagonista impone forse di cominciare i bilanci verso il mondo greco innanzitutto e verso una cultura che forse nella prima parte della vita era rimasta superficiale in lui perché era una cultura tratta solo dai libri che la nuova esperienza diretta vorrei dire un'esperienza full immersion fece in questo momento più intima e sentita meno eroica forse ma certamente più umana sempre più strettamente legato all'ineguagliabile patrimonio del pensiero greco Annibale avvertiva però con angoscia le mille debolezze della struttura politica che era una struttura politica composita e fragile era un castello di carte che egli stesso con la sua avventura in Italia aveva senza assolutamente volerlo e senza assolutamente pensarci messo a rischio ormai da tempo gli spiriti più avveduti ammonivano i greci sulla gravità della minaccia da occidente se la nera nube che si addensava su quella parte del mondo fosse venuta in direzione della Grecia aveva ammonito già un ventennio prima di questo momento uno stratego etolico a Gelao di Naupatto allora le insignificanti querelle politiche dei greci in fondo null'altro che un paesein null'altro che un gioco da bambini uno sterile gioco infantile rispetto all'immane conflitto che aveva luogo ad occidente sarebbero state crudelmente troncate queste querelle queste contese avrebbero avuto una fine violenta Annibale di quella guerra era stato il protagonista primo e non poteva non rendersi conto del processo che senza volerlo aveva contribuito ad innescare conosceva il vincitore cioè Roma meglio di chiunque altro poteva valutare fino in fondo il suo potenziale demografico che era ancora formidabile la forza che stava crescendo di giorno in giorno delle sue legioni la solidità a tutta prova dei suoi ordinamenti politici la compattezza almeno di fronte al mondo esterno della sua classe dirigente quindi Annibale sapeva che Roma sarebbe venuta cercò dunque in tutti i modi di chiamare i greci all'unione panellenica contro un nemico che lui lo sapeva bene era infinitamente più pericoloso della Persia che li aveva minacciati in passato ma Annibale era destinato a rimanere una Cassandra inascoltata in quel momento non poteva essere creduto quando altri Perseo di Macedonia per esempio o Mitridate Sesto del Ponto che sembra essere proposto addirittura come suo ideale erede ne raccolsero il testimone e cercarono di far propri i suoi disegni panellenici era ormai troppo tardi la forza di Roma era diventata soverchiante questo tuttavia gli valse almeno il riconoscimento dei greci e non solo da parte dei cenacoli politici antiromani che ne avevano fatto molto presto il loro idolo il loro ideale campione il loro modello se l'essere greco è un fatto non di nascita ma di cultura questo connotato fu riconosciuto all'esule cartaginese Annibale si era proposto a modello persino per alcuni re greci nell'attività che più li qualificava la fondazione di città e viene ricordato come Basileus re Sibadi non tyrannos non non forma deteriore di sovranità in un panflet antiromano pubblicato poco dopo la sua morte nell'ambito della corte macedone manca poco alla fine dei nostri appuntamenti manca il bilancio di questa vicenda per Roma e per Annibale stesso tenteremo di tracciarli nelle prossime puntate sempre alle 8 della sera con Giovanni Brizzi e con Annibale Buonasera siamo ormai quasi giunti al termine di questa nostra lunga conversazione siamo arrivati al bilancio della guerra al bilancio della guerra per Roma esaminare fin in fondo le conseguenze che questo conflitto ebbe per Roma è quasi impossibile ci vorrebbe troppo tempo meglio allora lasciarsi andare a qualche suggestione soltanto il controllo della vita politica passò definitivamente nelle mani del senato che proprio grazie alla abile gestione della lunghissima crisi aveva acquistato il prestigio e l'autorità necessaria ad imporsi si affermarono nuovi e più avanzati modelli sociali qualcuno Giancarlo Susini ha detto che era la vecchia Italia l'Italia dei villaggi delle entità minori degli orgogli tribali e cantonali che era stata spazzata via nacque una nuova economia più attenta al commercio e meno legata alla terra si affermarono soluzioni tattiche nuove che si sarebbero rivelate letali per le armate ellenistiche incapaci di reggere all'urto delle legioni queste le voci forse positive molto più lungo e molto più terribile il bilancio in rosso le perdite despese e sostenute dall'erario della Repubblica erano state incalcolabili e spaventose le distruzioni patite dall'Italia secondo Appiano che sembra avere desunto la notizia dallo stesso Annibale dalla celebre iscrizione lasciata all'interno del santuario di Eralacinia ben 400 città erano passate ai punici e non sempre senza violenza ed erano poi state riprese dai romani talvolta dai romani con il sangue agli occhi infiniti altri centri erano stati espugnati e messi a sacco dagli opposti eserciti intere popolazioni erano state deportate i campi e le fattorie del meridione erano stati metodicamente devastati per anni dagli opposti eserciti in cerca di cibo e di altro spaventoso è poi il bilancio delle perdite umane i caduti nelle grandi battaglie ma non solo si devono aggiungere i morti disseminati a migliaia dalle legioni in italia in italia in libia in spagna in illirico si devono aggiungere gli osco sabellici e i greci taglioti che caddero militando nelle file dell'esercito punico si devono aggiungere quegli italici che perirono sia durante la conquista annibalica delle loro città sia sotto la furia incontenibile delle legioni quando queste rioccuparono i centri passati al nemico le vittime certo molto numerose del terrorismo punico e quelle non meno numerose forse della rappresaglia romana infine i molti infelici che venduti schiavi sui mercati dell'Oriente ellenistico non fecero più ritorno ora fatti tutti i calcoli non sembra eccessiva la cifra di 200.000 tra morti e dispersi sopportate quasi per intero dalla popolazione maschile su cui però poggiava l'intera società antica queste perdite avevano falciato un terzo circa degli uomini atti alle armi di cui disponeva allora la confederazione italica una proporzione sconosciuta forse anche in seguito a qualunque altro conflitto che non si sia risolto in un genocidio l'andamento della guerra aveva causato altresì con la ribellione delle genti non ancora integrate una profonda crisi di fiducia che avrebbe bloccato per secoli il processo di integrazione riproposto poi solo con le armi dalle popolazioni della penisola all'inizio del primo secolo avanti Cristo l'enorme tributo di sangue di sofferenze preteso dalla penisola ha indotto a ipotizzare conseguenze altrettanto importanti e estremamente durature nel tempo secondo la ben nota teoria di un grandissimo storico inglese Arnold Toynbee questa guerra e poi i successivi conflitti oltremare furono all'origine della crisi che travagliò la piccola proprietà terriera provocò lo sradicamento dei contadini dalla terra e generò quei latifondi che per dirla complinio perdidere italian rovinarono l'Italia una situazione le cui conseguenze ultime si sarebbero protratte addirittura fino alla cosiddetta questione meridionale alle soglie dei tempi nostri sarebbe questa la Hannibal Legacy l'eredità di Hannibale all'Italia questa analisi è oggi in parte discussa e su di essa non ci soffermeremo ricorderemo invece un altro terribile lascito che il cartaginese trasmise allo stato nemico mentre si allontanava dalla penisola e cioè la paura Roma esce da questa guerra profondamente traumatizzata e si trascina dietro un terribile strascico di ombre e di sospetti sospetti ingiustificati che però sono non meno profondamente sentiti e sofferti dalla maggioranza del popolo e del senato nella storiografia soprattutto latina la minaccia dell'invasione è il motivo che ricorre puntualmente a proposito di ogni guerra che Roma combatta al principio del secondo secolo cioè Roma avrebbe combattuto una serie di guerre esclusivamente spinta dalla paura questo non deve stupire altri stati persino nel nostro secolo hanno reagito in modo analogo ad analoghe paure si pensi al maccartismo negli stati uniti o alla sindrome di accerchiamento dell'unione sovietica nell'immediato dopo guerra della seconda guerra mondiale la paura genera bisogno di sicurezza è ben noto a questo proposito che proprio a Roma e alla sua cultura politica si ascrive se non la creazione almeno la definizione più asciutta e puntuale di un concetto che oggi è universalmente noto il concetto di deterrente di dissuasione militare si vis pacem para vellum se vuoi la pace sii sempre preparato alla guerra fu forse lo stesso scipione africano che attinse dal suo bagaglio culturale era un bagaglio culturale ricco come quello del suo maestro Annibale di contenuti greci questa concezione politica e ne fece la base dei futuri rapporti soprattutto con il mondo ellenistico era un modo per rassicurare da un lato i suoi concittadini calmandone per quanto possibile le psicosi per parlare da un lato un linguaggio che fosse ben chiaro e comprensibile agli interlocutori ellenistici e dicesse chiaramente le intenzioni di Roma a questo presupposto obbediscono norme come quelle sul disarmo imposto non solo a Cartagine ma in seguito anche alla Macedonia e alla Siria un disarmo che si va di bene e soprattutto un disarmo navale una volta sconfitte queste potenze vengono private della flotta restano loro a tutte loro dieci navi soltanto lo scopo è chiaro impedire di portare una guerra in Italia l'obiettivo prioritario è uno solo non dovrà ripetersi mai più l'incubo di una nuova invasione della penisola Roma adotta poi alcuni altri criteri che sono ancora più inquietanti arruola quasi ogni anno le cosiddette legioni urbane che prima venivano reclutate solo in caso di pericolo cioè crea una base strategica a difesa dell'Italia e apporta significative modifiche alla prassi della dichiarazione di guerra per potere in caso di necessità cominciare il più rapidamente possibile le ostilità Roma sembra dunque almeno inizialmente avere fondato i suoi rapporti politici con l'Oriente greco sul principio del deterrente della dissuasione legata alla minaccia della forza a questa forza che era in realtà ormai soverchiante Roma finì però per ricorrere poi due volte nell'arco di dieci anni soltanto come sanno molto bene i politologi e gli analisti militari moderni da sempre per funzionare il deterrente deve essere reciproco ed assoluto altrimenti il risultato è che esaspera l'aggressività delle parti e accelera di regola lo scoppio di quelle guerre che avrebbe il compito di prevenire coinvolto dalle scelte dei suoi politici in una spirale di intimidazioni diplomatiche e di pressioni militari reciproche con le potenze greche e io direi addirittura in almeno un caso quello del secondo conflitto con la Macedonia pilotato abilmente allo scontro dalla azione di alcuni dei membri più abili e spregiudicati del senato il popolo romano che almeno secondo le accuse dei tribuni della plebe avrebbe voluto rifiapare dopo la lunga e tremenda lotta con Annibale si trovò nell'arco di dieci anni appena a combattere altre due guerre apparentemente terribili di nuovo contro Filippo V di Macedonia e poi contro Antioco III di Siria si trovò però anche a vincerle entrambe sgretolò senza alcuna fatica apparente le temutissime falangi ellenistiche se la paura genera insicurezza e paradossalmente per reazione può generare aggressività era stato il caso di Roma la vittoria genera di solito arroganza quella spinta romana all'imperialismo che si era manifestata forse per la prima volta timidamente e direi quasi incidentalmente in occasione dello sbarco in Sicilia che si era poi diversamente orientata verso la Cisalpina con Caio Flaminio Nepote che si era infine come dissolta o almeno era rimasta sepolta sotto il peso dei terrori annibalici e delle angosce che ne erano seguite riemerge adesso e riemerge fino a diventare una scelta piena e consapevole riemerge dapprima come forma egemonica quando i romani intuiscono che del concetto di deterrente esiste un corollario fondamentale l'intimidazione diplomatica fondata sulla minaccia dell'uso della forza più che non sull'uso della forza stessa in questa fase i romani fanno come bene ha detto Jan Leboek trasformano i loro legionari in gendarmi del Mediterraneo capaci di imporre dovunque il volere di Roma infine giunge la fase delle conquiste vere e proprie una fase senza ostacoli che porta nell'arco di 13 anni appena tra il 146 e il 133 avanti Cristo ad annettere la Macedonia e l'Africa quasi tutta la Grecia il regno di Pergamo e gran parte della Spagna porta anche ad alcuni episodi spaventosi di terrorismo politico la distruzione di Cartagine di Corinto di Numanzia la crisi che aveva colpito la Repubblica era stata però anche e soprattutto una crisi morale e aveva implicato un riesame profondo non solo degli scopi non solo delle finalità da perseguire ma anche dei metodi che si potevano impiegare per raggiungerli ancora nel 171 a 30 anni dalla conclusione del conflitto anibalico un gruppo di senatori moris antiqui memores che ben si rammentavano dell'antico costume insorsero biasimando la nuova sapienzia il comportamento spregiudicato e falso tenuto dagli ambasciatori di Roma nei confronti di Perseo l'ultimo re di Macedonia inutilmente perché vinse quella parte del senato cui possius utili squamonesti cura erat che era maggiormente attenta al tornaconto immediato piuttosto che alle ragioni immutabili dell'onore secondo una delle definizioni più note la sapienzia è la cognizione di ciò che attiene di ciò che riguarda l'umano e il divino per trarne una linea di condotta e più ancora una norma di vita ecco nell'atteggiamento da tenere verso gli interlocutori politici chiunque fossero gli esponenti della classe dirigente romana si erano dati regole del tutto nuove l'arcaico codice d'onore arcaico codice morale che come fossero vittime sacrificali li aveva esposti senza alcuna difesa all'astuzia di Annibale sopravviveva ancora ma solo nel ricordo ricordo tenace in alcuni nostalgici ma i criteri prevalenti erano adesso completamente diversi a partire forse dall'uso che dimetis di un'intelligenza libera da qualsiasi scrupolo fece Tito Quinzio Flaminino anche nei confronti di quella Grecia che pure dichiarò poi libera prevalse ormai decisamente l'ottica spregiudicata che guardava all'utile prima che all'onesto una volta rimossi i freni morali la china era senza fondo procedendo nel tempo ogni mezzo divenne lecito per servire la politica di conquista il tradimento lo spionaggio politico e militare la sovversione l'assassinio il terrorismo politico su larga scala impegnato a identificare i processi che hanno condotto alla nascita di un impero mondiale nella sua ricostruzione dei fatti Polibio attribuisce ad Annibale il ruolo di Catecon Annibale è colui che prende la storia per la coda passatemi lo scherzo è l'uomo che esprime per un breve attimo la forza capace di fermare la storia e blocca l'ascesa della repubblica verso il dominio del mondo io lo vedrei in senso diametralmente opposto Annibale al contrario è proprio colui che con la sua azione in Italia accelera enormemente processi sociali forse latenti ma che sarebbero stati senza il suo intervento nella penisola lentissimi se mi si passa l'immagine attraverso una pubertà dolorosa e brevissima strappa il popolo romano alla sua infanzia e lo avvia ad una giovinezza tormentata e violenta con i secoli dell'impero verrà la maturità e sarà una maturità splendida ma questa come si dice a volte nei film è un'altra storia quello che ci interessa qui è che come pochissimi altri protagonisti Annibale è stato non un catecon ma il motore di una svolta fondamentale questa constatazione la riprenderemo per il nostro personaggio nella prossima conversazione alle 8 della sera su radio 2 per l'ultima volta con Giovanni Brizzi e con Annibale Buonasera un ultimo forse più suggestivo bilancio ci resta da stilare quello che riguarda l'immagine di Annibale che sembrano aver avuto gli antichi antichi i quali mostrano di aver percepito nello svolgersi della sua vicenda terrena il peso del fatto peso del fatto come decisivo in due circostanze almeno e sono le circostanze più cruciali su di lui sembra essersi accanito un destino inesorabile una prima volta questo destino si manifesta sul campo di Zama di fronte a lui stanno i vinti di Canne e di mille altre battaglie combattute sul suolo d'Italia sono uomini che sono stati a lungo respinti come indegni che sono stati a lungo rifiutati dal loro stesso popolo e che hanno infine ottenuto una seconda possibilità ricondotti di fronte all'uomo che li ha sconfitti e condannati alla vergogna avrebbero io credo preferito morire piuttosto che cedere di nuovo sottratti alla miseria passata per opera di Scipione sono inoltre decisi a ricambiare anche con la vita colui che ha creduto in loro e li ha restituiti alla dignità perduta credo che si possa dire che solo la loro disperata ed eroica resistenza abbia permesso il ritorno delle cavallerie di Lelio e di Massinissa e credo si possa dire che furono proprio loro a salvare offrendogli uno straordinario tributo di riconoscenza lo scontro l'esito dello scontro per Scipione se credessimo a Nemesi alla dea della giustizia distributiva che per i greci abbatte le sorti degli uomini che abbiano preteso troppo dal loro orgoglio allora dovremmo anche credere che essa sia intervenuta qui e abbia applicato il più sarcastico dei suoi contrappassi proprio ad Annibale l'unica ma decisiva sconfitta subita da lui fu dovuta non al talento di un generale migliore di lui ma all'eroismo oscuro all'abnegazione incredibile e paziente di uomini piccoli che per la dietro Annibale aveva infinite volte umiliato e sembra esserci una lezione in tutto questo ancora più amara sembra l'altra beffa del destino secondo una suggestiva pagina di Tito Livio disponendosi a prendere il veleno per sottrarsi alla cattura Annibale si sarebbe abbandonato ad un aspro sfogo constatando more squiden popoli romani quantum mutaverint quanto fossero mutati quei costumi del popolo romano i discendenti di coloro che avevano in passato ammonito Pirro un nemico in armi sul suolo d'Italia a guardarsi dal veleno adesso non sapevano nemmeno più attendere la morte di un vecchio lontano dalla patria e scomodavano un legato consolare per indurre Prusia a tradire l'ospite ironia del destino Annibale diveniva una delle prime vittime della nuova sapienza del nuovo spregiudicato corso che egli stesso aveva imposto all'interno dello stato nemico nell'ultimo sfogo Annibale prendeva atto di un fallimento che era però un fallimento totale molto più che non il suo destino personale al quale l'innato spirito di sacrificio proprio dei punici e direi ancora più di lui stesso lo rendeva in fondo indifferente altre molto più dolorose consapevolezze ne amareggiarono gli ultimi istanti di vita in particolare dovette toccarlo profondamente la percezione della più generale trama degli eventi futuri ciò che si preparava uno degli storici greci che accompagnarono Annibale in Italia e che ne narrarono le gesta ci racconta attraverso il testo di numerosi autori non soltanto greci ma anche latini tra cui Cicerone il sogno profetico fatto ad Onusa in Spagna da un ancor giovane Annibale torniamo quasi alle origini che allora era in procinto di partire per l'Italia lo storico è Sileno di Calè Actè in Sicilia trasportato magicamente al cospetto del padre degli dei che gli ordinò di portare la guerra in Italia Annibale avrebbe ottenuto come guida per superare le Alpi un giovinetto divino nel quale tutti gli studiosi moderni riconoscono concordemente Eracle Melkert Eracle Melkert che come abbiamo detto lo aveva preceduto su quella via ammonito dal compagno a non volgersi indietro per nessun motivo il cartaginese avrebbe infine ceduto alla curiosità e avrebbe visto procedere sulle sue tracce una creatura orrenda serpente o dragone di proporzioni immense o ancora belva anguicrinita secondo altre fonti che distruggeva ogni cosa al suo passaggio interrogato sulla natura dell'essere mostruoso Eracle gli avrebbe risposto che si trattava della vastità temitalie della devastazione della penisola conseguente al suo ingresso in Italia ecco mi piace pensare che nei suoi ultimi istanti di vita Annibale abbia rivisitato proprio quel sogno e vi abbia colto una duplice inquietante metafora nella spaventosa creatura dalle chiome serpigne il cartaginese dovette certo scorgere ora con la lucida visione che precede la morte il simbolo stesso dell'odio di Roma che lo aveva inseguito per tutta la vita fino agli estremi limiti della terra abitata ma dovette vedervi anche un'altra ben più sinistra allusione della legacy dell'ascito che aveva lasciato all'Italia con la devastazione della penisola con il suo depauperamento demografico con lo scardinamento delle strutture contadine egli non poté probabilmente accorgersi gli mancarono forse gli elementi necessari a percepire la genesi di quel processo di crisi che avrebbe poi condotto Roma al collasso e addirittura la guerra civile al contrario nella creatura che sognata da giovane tornava adesso a visitarlo in punto di morte Annibale dovette cogliere l'allegoria terribile di un ben più evidente l'ascito di una ben più evidente eredità che senza volerlo aveva lasciato al mondo intero sentì forse di avere destato dal letargo un mostro che avrebbe divorato non soltanto lui ma l'ecumene intera l'intera terra abitata e di essere stato poi impotente a fermarlo a lui la potenza di Roma doveva lo straordinario strumento della sua supremazia militare e quindi delle sue conquiste a lui scherno supremo della sorte la classe dirigente romana doveva il fatto di avere acquistato quella mentalità che l'aveva avviata a desiderare il dominio del Mediterraneo secondo molti autori antichi tuttavia Annibale sarebbe rimasto vittima di un altro ancora più beffardo scherzo del destino prima di partire per l'Italia egli avrebbe visitato l'oasi di Siva a sei giorni di marcia da Paretonion nel cuore del deserto libico per consultarvi uno tra gli oracoli più antichi e famosi del mondo di allora quello di Zeus Ammone il dio dalle ricurve corna d'ariete ovi avrebbe secondo una versione leggermente diversa proposta da Silio italico inviato il fedelissimo Bostare il risponso del dio si sarebbe limitato ad una frase soltanto semplicemente una zolla libissa coprirà le spoglie di Annibale l'ibissa significa africana nella sua illusoria evidenza la risposta sembrava promettere al cartaginese che così l'interpretò senz'altro nelle nostre fonti un sereno trapasso in seno alla terra africana dopo un'esistenza fortunata e felice ma come tutti i vaticini essa era ambigua e ingannevole solo poco prima della morte quando ormai il suo destino era compiuto Annibale scoprì finalmente la beffa l'ibissa e gli apprese non senza sgomento era il nome del frurion Bithynias del villaggio bitinico presso il quale era venuto a porre la sua dimora nel regno di Prusi malgrado sia ricordato da un gran numero di fonti il vaticinio di Giove Ammone deve probabilmente considerarsi inventato è molto poco probabile infatti che i sacerdoti libici i quali esercitavano la loro arte profetica secondo forme del tutto particolari abbiano espresso un risponso in versi greci è probabile che facendogli prendere la via di Siva gli antichi abbiano voluto vederlo seguire le orme dei suoi grandi predecessori a consultare questo oracolo c'erano stati tutti i suoi modelli e cioè non solo Eracle che una parte della mitologia tarda addirittura pone alle origini stesse del santuario non solo Alessandro che ebbe contatti con l'oasi per ben due volte nel 331 e nel 323 ma addirittura il re di Sparta Lissandro è probabile tuttavia che un'altra suggestione almeno li abbia influenzati li abbia guidati nella costruzione di questa leggenda l'immagine forse non del tutto conscia di un annibale davvero monomacos cioè una sorta di titano che combatte da solo contro tutti anche contro il fatto anche contro gli dei illuso e tradito da essi ancora prima che dagli uomini illudendolo e spingendolo a portare la guerra in Italia gli dei sembravano proprio averlo voluto condurre passo per passo all'esito che meno egli avrebbe desiderato il dominio del mondo per gli odiati romani torniamo dunque e per l'ultima volta all'immagine che ci è rimasta di loro la figura di annibale è indubbiamente una di quelle che sono destinate a colpire maggiormente la fantasia e la sua memoria è sopravvissuta tenace fino ad oggi nella tradizione tanto popolare quanto erudita per esempio per tutto il rinascimento tradizioni che sono spesso del resto intimamente legate tra loro di annibale si ricordano tuttavia connotati in un certo senso sempre di maniera a questo ha contribuito in modo condizionante il racconto nelle opere latine di più vasta eco che gli sono ostili anche se sono spesso ammirate di fronte alle sue gesta di annibale i cui lineamenti appaiono se si crede all'autenticità di alcuni ritratti quei pochi conservati di grande intensità e bellezza è così sopravvissuta a lungo solo l'immagine stereotipa alla quale abbiamo fatto ricorso proprio all'inizio di queste nostre conversazioni quella del generale con un occhio solo venuto a devastare l'Italia in groppa all'elefante da guerra del suo carattere si ricordano solo la forza la terribile crudeltà l'astuzia spregiatrice di ogni norma umana e divina connotati che ne fanno un capaneo empio e terribile infine il riso dagli dèi persino la toponomastica che così spesso e così falsamente è impressionata dal ricordo del suo remoto passaggio anche quando questo passaggio non è mai avvenuto sembra avere registrato l'emozione romantica di questi tratti dominanti e avere marcato spesso con il nome e con l'allusione ad Annibale il ricordo del sangue del massacro o la visione di un paesaggio cupo e grandioso degno di fare da cornice alla sua figura ciò non solo quando essa restituisce il semplice riflesso di una teoria erudita ma fino dall'antichità per esempio il toponimo di Plinio il vecchio che chiama scale Annibalis scale di Annibale i rotti smozicati di rupi all'estremo bordo orientale della catena dei Pirenei poco o nulla è invece rimasto nella tradizione dei suoi sogni dei suoi progetti della sua cultura solo adesso liberati dall'ostilità e dal pregiudizio che fanno velo nella letteratura dei vincitori questi caratteri rienergono e conferiscono un fascino rinnovato alla sua figura egli si colloca ha detto Jerome Carcopino tra i condottieri dalla curiosità infinita e dalla universale cultura pur se non ebbe per maestro un Aristotile come toccò ad Alessandro somiglia a quei capi vittoriosi che furono anche scrittori o letterati come Giulio Cesare Federico II o Bonaparte e che per l'ampiezza degli orizzonti l'eleganza del gusto raffinato dalle letture per i loro contatti le riflessioni e la sicurezza del giudizio hanno saputo trasformarsi dall'oggi al domani se necessario in diplomatici e in uomini di Stato ecco in entrambe queste immagini c'è e lo abbiamo visto nel corso delle nostre conversazioni molto di vero ma c'è anche al tempo stesso qualche cosa di eccessivo di forzato di falso o di parziale indiscutibile resta solo la sua grandezza che gli ha meritato con un processo di tipo evemeristico che non mancherebbe di lusingarlo se solo egli potesse esserne al corrente di essere ricordato come una divinità o almeno come uno spirito Sidi Nbil tra le genti berbere dell'entroterra africano dalle quali precisamente egli era partito abbiamo finito la nostra lunga galoppata attraverso la storia dell'Italia e del mondo negli anni che vanno tra il 264 prima guerra punica e il 183 anni cruciali che portarono Roma alla conquista del Mediterraneo da Giovanni Brizzi un saluto a tutti gli ascoltatori grazie e a presto grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti Grazie.